Ben ritrovati amici e video spettatori, qui è il buon Cedonia, Francesco Pardini accanto a lui E siamo carichi per questo round 5 dell'internazionale latino-americano Pokémon in quel di San Paolo, gli italiani stanno andando piuttosto bene 4-0 per Marco Silva, 4-0 per Del Cognetta, 4-0 per Tarlau, 2-2 per Marco Marras che è un po' un neo di questo andamento E comunque ancora dentro, è in gara, abbiamo visto 4 match, non dico a senso unico ma comunque con grande disparità tra i concorrenti Quindi ci auguriamo di assistere a un quinto match, a un quinto round con un Alberto Lara e un avversario che gli tenga testa Non conosco però la persona che è seduta dall'altra parte del tavolo, abbiamo adesso il nome a schermo, Xavier, non so se conosci il giocatore No, onestamente non mi risulta Però speriamo che sia una grande sorpresa, perché se così fosse avremmo il primo grande scontro tra due giocatori Esperti allo stesso modo Allora, io ti dico, mi sembra un nome locale al solito Lara invece, vabbè, lo conosciamo Ha fatto della Thunder Wave Spam l'anno scorso, se ti ricordi, Corvinite Il suo marchio di fabbrica Qui va a giocare un grande classico Siamo nuovamente nel quasi-mirror E infatti cosa ti dicevo prima? Salirà Urshifu Water, salirà 15 Empaw perché vanno a braccette E salirà anche Tornadus E infatti ecco qua che abbiamo dalla parte di Lara il team che ha vinto Lille con San Vito E che ha vinto con Chupacross anche il regionale di Sacramento Non so che cosa ne pensi te, Pardo, ma questi team non mi fanno un pazzire Non nel senso che non siano buoni, sono team ottimi per affrontare il regolamento Però sono anche quelli che mi esaltano di meno arrivati a questo momento di anzianità del formato Sono team indubbiamente da giocatori forti Sono team che ti possono portare in finale Sono team che ti possono dare i 500 CP La vittoria del Major Major e quindi l'accesso al mondiale in serenità Eppure spero sempre di vedere qualcosa di un po' più particolare Spero di vedere un Ninetales Spero di vedere di più un Sinichia Spero di vedere un Okidogi Per carità, non siamo qui per le telecamere Siamo qui per vedere i giocatori fare bene E il giocatore che fa bene non sempre deve fare la picca esotica Lo sappiamo, lo ripetiamo, soprattutto al mondiale Però qui in un internazionale mi piacerebbe invece vedere qualcosina in più Anche proprio per aprire le danze e festeggiare delle C Non so se hai notato un particolare C'è un oggetto strano? No, un capo di abbigliamento che potrebbe piacerti Eh ho capito, ma se tu fa così sei un po' stronzo Che fai? Metti il Tatsugiro lì e poi non mi indondosi? Cioè, quella è la maglia per te Sì ho capito, ma dei don dosà poi Immagini se ci presentiamo a castare Tu con quella maglia E io con la maglia tutti don dosi Sì, ma se ti metti quella maglia Facciamo una promessa al nostro pubblico Nella giornata che peraltro Ricorda gli otto anni dal video dell'uscita che abbiamo fatto insieme E oggi ragazzi abbiamo visto per caso su Facebook che il 17 novembre è il giorno in cui otto anni fa ho pubblicato insieme a Chiara sul canale YouTube l'intervista a Francesco Pardini Assurdo Quindi otto anni fa esatti Ci conoscevamo Non che mi avete anche cambiato la vita Perché mi avete dato un'opportunità poi per poter fare quello che faccio con grande soddisfazione quotidianamente Ma facciamo una promessa in questo giorno Ai prossimi internazionali che commenteremo insieme Io voglio giocare a don dosi Probabilmente il Nike Ok Tutti presenti con una maglietta Almeno il day one La facciamo fare apposta A tema don dosi e a tema tatsugiri Va bene? Va bene, ci sto Va fatto Va fatto, va fatto D'accordo per il prossimo che castiamo insieme che dovrebbe essere il Nike Il Nike, il Nike L'EWIC No, vai L'EWIC vai Ecco, l'internazionale nordamericano Lo casteremo don dozzicamente E per allora E per allora non sapremo don doso che farà Eh no Perché sarà secondo me L'internazionale Dei paradox Del resto dei cani leggendari e degli spadaccini E quindi anche di Walking Wake e Iron Leaves che non si possono ancora giocare Io non so se saranno giocabili Dici di no? Ma lo sai che secondo me Io non so se sarà giocabile Terapagos Perché secondo me Terapagos lo mettono insieme agli uberoni Infatti secondo me è uber E infatti ti stavo per dire Ma se fosse un internazionale in uber Di già? Why no? Quindi fanno un uber mini Cioè uber mappaldea? Potrebbero fare anche Un Mirai Don Terapagos Basta? Potrebbero fare anche No no Anche Bomba Libera Tutti Ma magari E l'anno prossimo su un altro gioco? Primo gennaio mondiali Come hanno fatto Per l'ultimo di Spade Scudo Sette mesi di unica regulation Sì però devi contare Che Spade Scudo era l'ultimo anno Sì è vero Qui no È per quello che ti faccio la domanda Però che fai? Non mi fai giocare Terapagos? Sni Comunque È possibile Che tu non giochi Terapagos Perché lo giochi L'anno prossimo Insieme a tutti quanti Gli altri uber Quando però hai perso Il momentum Ha ragione Del marketing comunicativo Del secondo DLC Però stessa cosa di Zazia Zazia è uscito nel 2019 Per brillare Solo l'ultimo anno Quando tutti pensavano Scarlate del rete Ma lì faceva parte Lo starter pack Certo Questo è vero Quindi Vediamo Io A me piacerebbe Un 10% di fish Ce lo metterei A me piacerebbe Uber di Paldea Cioè Puoi giocare Tutto quello che c'è ora E poi i tre uberoni Che sarebbe l'equivalente Di Grado Anch'io Gre Rai Quazza Posso giocare Coraidon Miraidon E Terapagos Anche perché Io lo giocai Il metagame Con Coraidon e Miraidon In una gara online E fu carino Fu interessante Ma Bando alle ciancio Ciancio alle bande La musica Dei professori pazzi Tutti quanti Inzaiberati Riecheggia Nelle nostre orecchie Riecheggia anche Il potere Della capsula energetica Nel corpo di Crinelato Sullo special attack Accanto al Tornadus Di Lara Contro Cienpao E Arcanine Di Javier E qui Javier Elvis In the pelvis In the melvis Javier Con Arcanine Cienpao Da una parte Contro Tornadus Flutter Speed control Più voglia Di fare tanti danni Con Flutter Main Contro un Arcanine Che però È veramente Una pick Molto solida E infatti Costringe Allo switch Questo Flutter Main Qui ha usato La Duracell Ma poi Se ne è dovuto andare Nelle retrovie Sostituito Da un Urshifu Protezione Guarda quegli esagoni Come parlano Dell'area zero In maniera silente Eppure efficace High Cycle Crash Itta Perché non è Pardini A tirarla Non molto efficace Ma comunque 134 PS Arcanine Itta Itta Perché non è Pardini A tirarla Guarda quell'Arcanine Che solidamente Colpisce Urshifu 82 HP In switch in Sì Ma con grande dolore È un gran bel danno Coadiuvato Chiaramente Dall'abilità di Cienpao Che va a calare In maniera occulta Le difese Di tutti i Pokémon Quindi anche di Arcanine Per l'appunto Che stanno Attorno alla rovina E fanno sì Che un Icicle Crash Frana Faccia quel dannazzo La Urshifu Arcanine Torna in the back Sostituito Da Tornadus Sucker Punch Ancora su Urshifu Non basta 36 HP E poi Tailwind Qui Un danno Che probabilmente Non poteva Prendere la kill Se non in condizioni Di crit Ecco il crit Ma è garantito In questo caso Dai Surging Strikes Basterà Il terzo hit Probabilmente Per il Keio Ricordo che però Cienpao Non si autospada Nefasta No Cienpao Non si autospada Nefasta Ma la difesa Di mio nonno Che qua Quello dovesse essere Missy Quarter Avrebbe Il Keio Pressoché garantito A maggior ragione Se natura favorevole Se natura decisa Altrimenti ci sarebbe Anche modo Di farglielo reggere A Cienpao Il triplo Surging E qui Rientra L'Urcifu Invece Dall'altra parte Da parte di Elvis In the pelvis In the Memphis Xavier Che mi sono ripromesso Di chiamarlo così Per tutta la partita Vediamo quando mi accartoccio Spero Non prima di game 2 Almeno Tornadus Pronto a rimettere Anche lui La tailwind Attenzione però Perché comunque Lara Secondo me Sta toccando I tasti giusti Ha già fatto Fuori un pokemon Molto sensibile Del team Avversario Sia Cienpao Il problema di Lara Probabilmente sarà Quell'Arcanine Dato che ha Flutter E ha un Urcifu Più di là Che di qua Quindi se riesce A gestirsi le risorse Per la sua volta A gestire Quell'Arca Può vincere questa partita Terra cristallizzazione Che avviene In un campo scuola Che sarebbe bellissimo Se solo non avessi gli occhi Terra cristallizzazione Fontana Da parte di Urcifu Per grandi cazzotti Bagnati e crittanti Tailwind Per pareggiare Quella lanciata Precedentemente Quindi il doppio Della velocità Per i pokemon Di Javier Ed eccoli I pugni Bagnati I pugni Sguiscianti Ne bastano Due Per colpire E affondare Urcifu Che praticamente Entrato in campo Ha preso Una raffiga Di mazzate E se ne è tornato Nella pokeball Si Ha giusto Fatto fuori Un cempao E arrivederci Grazie Qui parte Black Queen Storm Colpisce entrambe Le slot Non arrivano Allora Black Queen Storm Che dal danno Fatto su Urcifu Che ok Ha perso La debolezza Lotta In virtù di un rafforzamento Della sua indole Offensiva Per quanto concette Nella tipologia Acqua Ci dice comunque Che questo è un Tornadus Quello di Alberto Lara Che non ha Grandi possibilità Di fare grandi danni Quindi è molto bulky Queste sono tutte indicazioni Che io vi do Perché voglio Che permino Anche per chi Magari si vuole avvicinare A questo gioco Capite anche Dal danni Che subite I danni Che potete fare Perché se un Pokémon Non è offensivamente Molto velleitario È perché Probabilmente I suoi punti Sono stati investiti Per reggere i colpi E io penso Che questo sia proprio Il caso del Tornadus Di Alberto Lara Adesso però Attenzione perché Entra Flatterman In un ottimo spot Per poter Sentenziare Con un Dazziglin Terra E ti lascio la parola Vediamo Un'altra Terracristallizzazione Dunque Che sarà Quella Folletto Una delle terracristallizzazioni Migliori Mi piace Molto la terracristallizzazione Offensiva Su Flatterman Molto di più Di quella difensiva Che comunque Abbiamo visto Ti ricordo Dei Flatterman Acqua Che sono girati Sono un po' passati di moda Ma qui parte Il Dazziglim E questo fa Malissimo Signori Ma Lo reggono Bleak Queen Storm C'è un miss E Tornadus A evitare l'attacco Vediamo se arriva Il dropparello Che su Flatterman È goloso No Surging Strikes Nella slot Di Flatterman E quindi Non arriva il drop Ma arriva Il Deprofundis Perché con questo Secondo pugno Grazie anche Al potere Della terracristall Anche il crinealato Terracristallizzato Di Alberto Lara Ci deve salutare Io prima Ho parlato Di Tornadus Che non faceva danni Allo Shifu Non vedendo Fargli danni Neanche di Dazziglim Mi viene Da pensare Che magari Sì quel Tornadus È Bulky Ma quello Bulky Probabilmente È quel diavolo Di Ushifu Perché non ha preso Niente Da terra Dazziglim Niente Però non era debole No Ok Però comunque È un Pokémon Che ha 60 In fila speciale Quindi Ha ragione Ha ragione E lui è Terra Crinealato E lui è Terra Crinealato Booster Quindi non Spex Però Terra Crinealato Quindi C'è dell'investimentazio Per quanto Non era boosterato E ora Non si era attivato Il booster E no no Ora infatti Attenzione Attenzione Qui Arkanine È rimasto da solo Choice Band Peraltro Quindi deve scegliere Una mossa E committare Fino alla fine Direi che Lara si è portato A casa Il primo game Attenzione Perché comunque C'è di mezzo Frana E quando c'è di mezzo Frana Bisogna capire Chi è più veloce Ci sono Tailwind Da entrambe le parti O è scaduta Quella di Lara Mi sembra ci siano Tailwind Ancora da entrambe le parti Però quella di Lara Scade prima Però può fare protect E andarla a rimettere Quindi ora Vediamo perché Vero anche questo Ripeto Come c'è di mezzo Il flinch Vediamo Vediamo Vedo ovviamente Lara è in vantaggio Vedi per esempio Qua è più È più È più veloce Guardiamo se parte il flinch Vediamo Che succede Se magna la bacca Ah ok ok Non si vede No è fatta benissimo La grafica Si mangia la bacca Eccolo Eccolo Ecco il flicceroni Doppio flicceroni Te l'avevo detto Ho fatto il gufo Ho fatto il gufo Te l'avevo detto Ho fatto il gufo Lei gufò Eh però adesso fa la protect Per prendersi un altro turno Di Tailwind Dell'avversario Eh però Attenzione 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 Perché poi Frana da Frana toglie Potrebbe anche missare una frana Insomma Diciamo che Elvis In the pelvis In the Memphis Doveva andarsi A augurare Un doppio flinch Il doppio flinch È arrivato Quindi comunque È ancora ufficialmente In partita La win condition È un lumicino Ma c'è Adesso La Tailwind Darà ragione All'Ara L'Arcanine di Lara Attaccherà per primo In single target In single target Ed è lui Che deve fare il flincio Nel caso in cui Facesse Tanto vediamo se colpisce Non Ok Ok Vediamo se fa il flincio No Però è arrivato Miss Su Tornado Se anche su Arca Ai 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 E che di culo ferisce Di culo perisce Amico mio No Mi sembrava strano Che infatti Alberto Lara Fosse scurato Qui subito Manina dall'alto Dice no Chiaramente Benissimo Benissimo C'è chi può Detto questo 1 a 0 Penso Alberto Lara Perché a meno che Non missi altre 16 frane di fila E vabbè Qui Il game era chiuso Qualche turno fa Senza quel rock slide Sarebbe finito Poi si è un po' Riaperto Con quel doppio flash Se anche avesse Hittato L'Arca 9 di Lara Avrebbe retto Che se Avrebbe potuto Prendere un crit O missare il frana Successivo Diciamo che adesso E qui anche la Spitta che fella E arrivederci Grazie Un'altra frana Chiude la pratica Arca 9 di Isui 1 a 0 Di Alberto Lara Ripercorrendo Velocemente I turni Di questo game Ti direi che purtroppo La canzone Non è cambiata Anche in questo match Per ora Abbiamo un giocatore Molto sopra l'altro Abbiamo un giocatore Che ha giocato meglio Che ha saputo anche Andare a toccare Quei tasti giusti Perché Quando ci sono Pokémon Con debolezze 4x E quindi anche Con resistenze Particolarmente Interessanti È ancora più importante Andare a Preservare Quei pezzi Sulla scacchiera Che strategicamente Hanno un value Più importante Di altri Mi è sembrato Che Xavier Avesse giocato Un po' All'arma bianca L'altro Avesse anche magari Preso Dei danni E subito un po' Di più Nella prima fase Ma con Un'idea precisa Che poi Sul lungo È venuto fuori Sul lungo periodo È venuta fuori E si è visto infatti Un late game Che nonostante Un doppio flince Poi di fatto Ha dato Ha dato retta Alberto Lara Assistino Ti ricordi Quando uscì Arca Isui? Sì Non lo consideravamo Molto Devole 4x per acqua Devole 4x per terra Ma dove vai? Ma quanto cambia Questa intimidate Con frana E un pokemon Che regge Fluttermane Infatti Stavo per dirti È uno dei casi Nei quali Il 4x Secondo me Sopravviverà Anche alla terra Cioè Il post terra Manderà al tappeto Molti pokemon Non so Dragonite Quanto lo rivedremo Dopo la terra No? È vero Invece Arcanine di Isui Avendo Le statistiche Praticamente di Arcanine Più o meno Perché cambia qualcosina L'intimidate La stab roccia Magari con il supporto Della choice band Secondo me Continuerà a fare bene Anche dopo Perché comunque Il tipo fuoco È forte In un mondo di folletti In un mondo di folletti Che dominano Il tipo fuoco È sempre forte E quindi Mi sento di dirti Che Arcanine Sarà una Soluzione Su Arcanine normale Quindi Arcanine di Isui In tutti quanti Metagame Nei quali Fuoco fa bene Che praticamente Sono tutti Mi Autocorreggo E integro Se non c'è Insenior C'è Arcanine di Isui Sì E quando ci sarà Insenior Comunque Arcanine di Isui Potrà essere molto interessante Perché Intimida e controintimida Quanto meno Dall'altra parte C'è un pokemon Che può fare frana No io qui ho buttato giù Mentre parlavi una lista Che però mi giocherò Dopo per un'altra È una lista di poco Mi giocherò dopo Per una riflessione Va bene Mentre Urshifurilla Dalla parte di Elvis E qui mi fermo Contro Tornadus Urshifu Di Alberto Lara Che riparte Ancora Con Tornadus Ma non più Tornadus Flutter Mette davanti Urshifu Per non essere più Wallato Da Arcanine Che a questo giro Però Elvis Si tiene Se vogliamo Giustamente Nelle retrovie Qui adesso c'è il gioco Di mettere Tailwind O fare la Bleak Wind Contando che c'è un fake out Vedi che si sta Ragionando la Terra Ghost Proprio per farsi attraversare Dalle manine scimmiesche Di Rillaboom E non rimanere A tentennare Come uno scemo Tailwind Che andrebbe Messa in questo turno Senza che possa essere Contestata Da una contro Tailwind Almeno in questo momento Del game Arriva effettivamente La Terra Crystal E quindi ci sarà Un'equazione simile A quella del precedente game La Terra Crystal Giunge anche Dalla parte Del campo di Javier Con la Terra Acqua Di Urshifu Dicevo Una Tailwind Che partirà Prima Nel campo Di Alberto Lara Ma che allo stesso tempo Poi permetterà A Javier Di mettere Una contro Tailwind Qualora ci fosse Tornadus In the back E di farla scadere In late game E la stessa cosa Che è successa prima Con Arca 9 Di Easy Ultimo rimasto in campo Ma ancora Capace di attaccare Prima dei suoi avversari Ecco il vento in coda Che raddoppia La velocità Non è partito Il fake out Quindi la Terra Aspetto È stata presso Che buttata via E qui Xavier Va layer 1 Se vogliamo Qui Close Combat Sulla slot di Rillaboom Con conseguente drop In cassa Quello Urshifu Il grassi glide Bravo Xavier Non fare fake out E poi I colpi che sorgiano Guarda I colpi del surgo I colpi del chirurgo Guarda 1 2 2 E 3 Tornadus Va giù Ce la fa Ce la fa Il colpo del surgo Mamma mia 3 hit Arrivederci e grazie A Tornadus Che mette la Tailwind Spreca La Terra Cristallizzazione Ma lascia in eredità Un vento in coda Io sono un surging strike Brava chat Che coglie le citazioni Io sono un surgo strike E adesso può entrare Sì Blutermano Ma amico mio Pur incapsulandosi Non può più terare Perché ha terrato Il suo amico con le nuvole Ha terrato L'amico con le nuvole Buttando via di fatto Una Terra Ma è stato un 50-50 Anche figlio Di un vantaggio Di una 0 Nel computo globale Della Best of 3 Se l'è sentita Lara Dall'altra parte Elvis è andato dritto per dritto Surging da una parte Grassi Glide dall'altra E a me giudizio Ha fatto anche bene Non aveva molto motivo Di rischiarsela Ora però attenzione Perché comunque Grassi Glide fa male E entrare con Arca È un po' rischioso Anche perché Elvis Può andare di surging Nella slot Anche proprio solo Di Urshifu Dato che è droppato in difesa Quindi attenzione Eh infatti non se l'è rischiata Stava entrando con Arca Poi avrà detto Vediamo se ci prova Può essere anche Che lo faccia comunque Perché Beh Si deve prendere un po' un rischio Altrimenti Qui diventa Diventa difficile Turno Ci prova Sanguinolento Il primo per Lara Insomma Elvis Ha preso Letteralmente la partita Per le corna Attenzione Rischia tutto Mettendo Arca9 In campo Che ok Intimidisce Fa brutto Davanti a questo Rillabum E a questo Urshifu Meno uno Meno uno Ma vediamo se i pugni Surgici sono arrivati In quella slot Arca9 154 HP Moonblast Nella slot di Urshifu Che non è debole Quindi regge Drop che non ci interessa Pugno del surgo Dove arriva? Beh dove arriva Dove arriva Arriva fa una kill Amico mio Nella slot di Fluttermane Tre strumenti del chirurgo Il bisturi Dove arriva Lo studio E gli tira anche la laurea Ecco qua Tre colpi E arrivederci Grazie Bello che Negli strumenti del chirurgo C'è il bisturi Lo studio E la laurea Beh allora Senza bisturi non operi Senza laurea neanche E poi dove? Ti serve uno studio Quindi lui tira tutti e tre Tutti e tre Il colpo del surgo Nell'ordine Prima il bisturi Poi lo studio intero E poi ti sorprende Perché dici Ma che cazzo Dopo uno studio Cosa mi deve tirare La laurea Questo pezzettino di carta Che però ti devasta E qua La situazione È decisamente Tragica Per un Alberto Lara Anche privo Di Terra cristallizzazione Perché è stata giocata Su Tornadus Ghost E io devo essere onesto Non mi aspettavo Una partita Così Da parte di Alberto Lara Che Dei due Sembra quasi lui Il contendente Più inesperiente No? È vero In questo secondo game Ha fatto Una performance Diametralmente opposta Alla prima Purtroppo Ha subito sempre Diamo anche merito A Xavier Che qui Con Rillaboom Si regge l'extrarapido Arriva l'acquaggetto Tutto dritto per dritto Su Rillaboom Ma non è sufficiente Quanta è grossa Quella scimmia Anche se a meno uno Guarda il danno Eh ma perché tu Essendo un chirurgo Hai anche l'acquaggetto Il jet privato D'acqua Perché guadagni bene Anche se hai lanciato Il tuo studio Anche se hai lanciato Il tuo bisturi Anche se hai lanciato La tua laurea Comunque hai un jet Che può portarti dove vuoi Sicuramente a game 3 Amico mio Un 4-0 di lead Senza switch L'avversario Si Ha messo Tailwind Però l'altro Ha tirato Surging Strike Grassy Glide Poi ha tirato Surging Strike Grassy Glide Poi ha tirato Acquagget Grassy Glide E ha finito Mi sembra Come dire Il più classico Dei piani Ben riusciti Bello che Praticamente Abbia giocato La partita Del bambino Di quarto elementare Ha cliccato Gli attacchi Sì sì Surging Aspetta Qual è l'attacco più forte Surging Strike Fammi vedere Base Power E più alto è questo Vai Sui super efficaci Quasi sempre Surging Grassy Glide Surging Grassy Glide E non si sbaglia E non ha provato La predict pazza Che non serviva Per carità Però non ha provato La predict pazza Di colpire Nello slot di Arca Eh no Ma non ne aveva Non ne aveva bisogno Cioè In quella condizione Killare l'uno Killare l'altro Non penso Ci sarebbe stato Ci sarebbe stato bisogno Sì La regia Si è innamorata di me Sì sì A me fa piacere Questa cosa Eh Beh sono Un grande cast Secondo me L'unica spiegazione È che mi abbiano Disegnato un enorme pene In fronte Non mi possano mostrare Perché altrimenti Non si capisce Fatto sta Che si va a game 3 Non in maniera inaspettata Perché ci può stare Andare a game 3 Ma è il come Siamo andati a game 3 Perché onestamente Si va a game 3 Con un Alberto Lara Che è stato Disintegrato In una maniera Che non Mi potevo Aspettare Ecco Francesco Io ho paura Per la salute di Chiara A questo punto Credo che non abbia Superato il round 5 Che è una cosa Comunque possibile No invece sì No ci siamo Ok 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 Ho avuto tanta paura Sinceramente Ho pensato A È venuta a mancare Chiara B È crashata È crashato il computer Chi Ho un pene in fronte Ma quella sarebbe stata Una cosa gioiosa Che avrebbe portato La qualità del round 5 Di il pardo fascer No Allora Bene round 3 Alberto Lara Con Isuyan Arcanine E Fluttermane Fluttermane Anche nella slot Sinistra di Javier Assieme a Rilla Gorilla Boom Sinistra E destra Isuyan Arcanine Va a intimidire Bene sulla slot Del Rilla Gorilla Boom Dall'altra parte Doppio Booster Energy Si attiva Con l'attacco speciale Del Fluttermane Di Lara E Sull'attacco speciale Del Fluttermane Di Javier Elvis Pelvis In the Memphis Bravissimo Prima considerazione Che mi sento di fare È Che Alberto Lara Sembra Rinunciare Quanto meno Di lead Poi vediamo Se l'avrà portato Nelle retrovie Ma sarebbe Molto particolare A Tornatus Quindi Abbraccia Un modo diverso Di interpretare La partita Si Come dicevete prima Ha messo la Tailwind Ma poi non è servita a nulla Quindi tanto vale Non cominciare Come game 2 E vedi Dare la Terra A un Pokémon Ben più Capace Di scardinare Gli equilibri La partita Mi sono sbagliato Però La Terra In questo caso Non era del Fluttermane Di Lara Ma di quello Di Javier Shadow Ball Su non più spettro Fluttermane Che si prende Però il drop Questo è un gran drop E Moonblast E Moonblast Molto Molto Poderoso Sul Fluttermane Di Lara Che regge A 47 PS Arcanine Prendendosi il fake out Non può attaccare Credevo che fosse Il Fluttermane Di Lara Ad aver Terra Cristallizzato Perché In questo modo Avrebbe risposto Alla sua stessa giocata Della Terra Ghost precedente Invece no Nonostante il booster energy Ha preferito Non terrare turno 1 Qui attenzione Perché comunque abbiamo Un Fluttermane Suscettibile Anche di extreme speed Quellore Alberto Lara Dovesse averlo Nel set Abbiamo visto Talmente tanti Arca i giui Che è facile Oggi Andarsi a confondere Magari lo abbiamo Già visto E sarà lasciata A correggermi È più veloce Il Fluttermane Di Lara A meno che non siano in thai Sta sotto Grassi Glide Però per fare Grassi Glide Quel Rilla Si espone A un flare blitz Quindi è un turno Abbastanza intricato Che probabilmente Infatti Costringerà Elvis A dover ritirare Questo Rilla Bunch È per lui È una slot molto importante Rilla Bunch Va via Ma quindi Di Grassi Glide Non minaccia più Fluttermane Moonblast Con i drop Il drop Ha fatto veramente Tutta la differenza Del mondo E qui terra flop Purtroppo Non per colpa Non per scelte strategiche Errate Di Javier Flare blitz Pieno Nella slot Di Tornelus con Burn No Arriva Rocky Helmet Rocky Helmet Più Recoil Comunque Fanno sì Che questo Arca Prenda un Quarantello Che poi viene Un pizzico Ricostituito Nella misura Del 6% Dal Grassi Terrain Qui è partito Decisamente meglio Alberto Lara Che ha centrato A proposito di Chirurghi Uno Shadow Ball Drop Guarda Veramente cecchinante Bravo Ottimo lavoro Bravissimo Abbiamo però Il Surgo Entrato in campo Abbiamo l'Urshifu Che rientra Attenzione perché Ha fatto letteralmente Miracoli Questo Urshifu Nel game precedente Ma c'è un Alberto Lara Che ancora può andare Non solo a terra cristallizzare Ma a tirare L'Extreme Speed E a finire Il Tornadus Avversario Quindi 2 contro 4 Questo giro Per Alberto Lara Con un Rocky Helmet Che lo porta In range Del consumazio Di Citrus Che bel Pokémon Arcanine Che supera in velocità Con Extreme Speed E poi anche un bravo cane Dopo la fatica Fa la pappa Dazzling Lim Arrivederci e grazie Urshifu Va K.O Anche perché c'era Il single target E il boost Del booster energy Amici miei O Momento Simia O Alberto Lara Dopo un secondo game Faticatissimo E perso Si porta Un game 3 In saccoccia Grattandosi Palla sinistra E ogni tanto Negli inframezzi Palla destra Ammutolito Pardini Dopo questa riflessione Sui coglioni Di Alberto Lara No 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 Ero più ammutolito Perché se un 4 a 0 Non deve fare Protect Urshifu Aspetta anche Moia Tornadus Entra a dirilla E fa fake out Io non so Cosa aspettarmi Più da questo gioco Eeeh Male male È andata così Secondo me Ha un po' tiltato Dopo il drop Per carità La partita dopo Il drop Era difficile Ma Ci puoi sempre provare Cioè Lasch proteggi Urshifu Guarda il linguaggio del corpo Però Guarda È sfavato È sfavato Lo capisco Anche io mi sfavo Quando mi sculano Ci sfaviamo tutti Hai ragione Sei sul 4 a 0 Un internazionale Non ti devi sfavare Soprattutto perché hai fatto Un game 2 Godevole Hai messo in ginocchio Alberto Lara Adesso arriva il mazzuolegno Per le telecamere Marca 9 Regge a 27 HP Recoil per la simia E adesso Il blitz de fuego Il blitz della polizia Che manda a casa Rellaboom Arrivederci E grazie Alberto Lara Restituisce Il 4 a 0 di lead Lo ha restituito No no Bravo È stato bravo Premule super efficaci Era il match Dei bambini al mare No io non voglio essere Cioè Lunge Però io Quando commento Sono anche come dire Partecipe sentimentalmente Mi piace Un contenuto Che mi piace Che mi piacerebbe Farvi piacere Vi decantiamo Tanto anche Aspetti mentali E psicologici E poi mi vedo Un giocatore Su 4 a 0 Che c'è Caspita Dovrebbe quindi No Avere i fondamenti Del gioco Secondo me Dei 3 game Solo il 2 è stato bello Ma ti dirò Sì Forse il primo Perché anche il secondo È stato brutto Lato Lara Cioè Però vabbè Non lo so Secondo me Che fa Urshifu Non mi muori Da Dazzing Moomblast Eh certo Fai protect Se fai extreme speed Muore Tornadus Dice sono nella merda Se muori Tornadus Ok Però Al peggio non c'è Ma fine Aspetta Entra Rilla Hai grassi glide Acqua jet Gli forzi una terra Si dimentica di premere la terra Switch a flutter Tu puoi far fake out Su arca Surging su arca Cioè Gli crei un pochino Di incertezza Lì non proteggi Quindi gli esternici Da Dazzing Dall'altra Bacetti 4-0 Mi auguro Che il livello Delle partite Deve ancora salire Deve ancora salire Io non voglio Davvero Chi mi conosce Sa che Lunge da me È sarrogante Però Vi devo anche dare Un giudizio Un commento Tecnico Non vedere proteggere Un Urshifu Da un 4-0 A game 3 Quando si cerca sempre La mission dei giocatori competitivi È quella di perseguire Sempre la win condition Piccolo o grande Che sia Ok La ricerca della win condition È proprio Il mantra Lì non proteggere Unshifu Cioè Proprio Calarsi le praga Di Massaghe Ho perso Diavolo Siamo anche in streaming Provaci Anche perché Unshifu a V Lì non era male Contando le giocate Del game precedente Secondo me Ha proprio droppato Psicologicamente Vedendo quel drop La kill su Flutterman Che non meritava Verissimo Però come dici te Alla fine Se sei sul 4-0 E te la stai cavando Contro Alberto Lara Provaci Persegui la win condition Nella tua missione Il tuo fine ultimo Se anche è uno spiraglio Piccolino Provaci Anche perché Voglio dire Ne abbiamo visti Tantissimi Non saprei neanche dirti Il numero Di game e di match Che sono svoltati Sulla minima Win condition Perseguita da un giocatore In svantaggio Sia campione Sia novizio Perché insomma Talvolta è anche difficile Per noi commentatori Renderci conto Che esiste questa win condition Quando è piccola È capitato spesso Che ci si trovasse davanti A dei match Che sembravano chiusi E invece poi Non avevamo pensato A quella mossa A quello switch A quella perdita di tempo A quello stall Che il giocatore fa Rimettendo in carreggiata Una partita che magari Noi stessi avevamo dato Per chiusa Sentiamo cosa da dire Alberto Lara A riguardo Che esiste One of the things We were Watching backstage With game 2 With Hisui and Arcanine And the rock slide misses And all that stuff Like how do you handle il composure in situations like that where it just seems like the intended moves are going all over the place and double Rock Slide misses how do you stay composed? It's just part of the game I've been playing for 10 years I've ran a lot of Rock Slide Pokemon Rock Slide Landorus, Rock Slide Garchomp now Rock Slide Arcanine I just know how it goes and not only that I know that my Arcanine would have lived a second Rock Slide so even if the Rock Slide landed as long as I hit my following one I still win the game so that's just what Rock Slide does Yeah, those Rock Slides are actually doing a lot of damage and I think Hisuian Arcanine is the Pokemon out of a lot of people's minds it's just won four events in a row you have it here your opponent had it as well however, you were Terra Water not Choice Band and you didn't have Willowus so I feel like a lot of people it's like either I go Choice Band and go all damage Terra Fairy, Terra Normal or I'm more defensive with Willowus trying to burn things so you kind of found a little happy medium play so what led to that decision with your Hisuian Arcanine this weekend? Yeah, so basically I just took Raga Malavaria's team from, what was it? Toronto his top four team and I replaced Regidrago with Fluttermain and then I just the Willowus just felt a little too slow for me I mean, it's obviously a great move and it burns but the inaccuracy I'm already running Rock Slide I'm already running Bleak Wind Storm I'm already running like a couple of inaccurate moves I just want consistency so basically I was like I opted for extreme speed because in a lot of situations like you just saw in game three the Tornadoes he burned his Terra so he can't Terra out of the extreme speed and I was basically able to prevent him from getting up a tailwind and I know I have my Tornadoes in the back so I can get up a tailwind when necessary so yeah just extreme I mean, extreme speed's a really good move because it's plus two priority so it beats stuff like Jurassic Glide Aqua Jet those type of things so yeah it's just a solid move it's just pick one or the other for Willowus for extreme speed now Alberto you are no stranger to the international stage you got second at OCIC you've topped NAIC here you are at 5-0 at LAIC many great international performances so what makes you so comfortable and confident at the international stage? it's just a tournament and it's just a game like I feel like I'm at a point when playing where I'm just like I know tournaments can go well they can go bad but you just gotta deal with the results and I don't like let it affect my mindset or like let it ruin my day or whatever like that so yeah I mean it's just that's just how tournaments go every good player has a bad tournament so it's just gonna happen so like I feel like my mindset is really really well prepared for tournaments yeah that's definitely a positive mindset to have and as we have you here do you have any shout outs for any friends or family along either in here or watching along at home? yeah shout outs to all my friends per usual shout outs to my girlfriend Ellie who's here shout outs to Riley Justin Keres Chupa I forget who else is here but my friends that I'm hanging out with here and shout outs to all my friends at home and then I guess shout outs to Raga for the team he didn't give it to me but I also didn't ask him for it I'm sure he would have I'm sure he would have given it to me if I asked him for it but yeah thank you for like the foundation I guess and then I just took the team and then kind of made it my own yeah it's better to ask for forgiveness than permission right with Raga but thank you very much Alberto you got four more rounds you got two more wins and fingers crossed we'll see you in day two tomorrow yep hopefully alright so thank you Alberto we were through five rounds of Swiss here at the Latin American International Championships casters let's take it back over to you and then he said no there's already a lot of missare non ne voglio non mi sembri il caso no e quindi metto piuttosto extreme speed che è una priority più due che quindi mi permette di superare i vari aqua jet i vari grassi glide sotto campo erboso di rilla gorilla boom in generale mi permette di colpire prima dell'avversario e con un team che comunque ha una soluzione offensiva questo lo aggiungo io non era una sua considerazione molto poderosa come Fluttermane è probabile che a un certo punto del game più o meno a metà tanta roba sia in range di extreme speed che è esattamente quello che è successo con Tornadus a 20% esattamente quindi attenzione a casa se volete imparare il competitivo non riempite i vostri team di mosse che missano perché altrimenti poi missano un po' troppo spesso bisogna un attimo anche capire quando rischiarsela e quando non la gestione del rischio no? la gestione del rischio Frana, Blackwing Storm Willowisp sarebbe effettivamente Icicle Crash qualora ce l'avesse su C&Pow penso proprio di sì 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 insomma sarebbero comincerebbero ad essere decisamente troppi e poi sono d'accordo nel dire che Extreme Speed è proprio una bellissima mossa che io abuso sul mio Dragonite Terra Normale anche senza Terra Normal che comunque si usa su Arcanine perché Arcanine va montato anche Terra Normal se vuoi proprio gustare l'Extreme Speed sono usi diversi lì Dragonite è proprio per far danno qui è come detto nell'intervista e come hai raccontato tu per aggiustare il colpo che in un heavy offensive team è molto plausibile che le cose o muoiano o resistano per poco e peraltro vorrei offrirvi una riflessione resistere per poco in un team del genere contro un team del genere è quasi peggio perché poi sei sì suscettibile ad Extreme Speed rimani lì a occupare una posizione se te ne vai prendi danno gratis per l'entrante ha ragione quindi è quasi meglio morire perché almeno c'è free switch almeno hai free switch quindi Extreme Speed ti dà un po' quella polizza vita sul non one hit KO sai che non ci avevo pensato una riflessione è intelligentissima anche se può sembrare banale in un team che ti minaccia di Extreme Speed e quindi ignora totalmente le velocità e le priority più uno rimanere in vita poca vita in range di Extreme è peggio che morire che se muori tanto entri con la prossima pedina che è full vita che magari può settarti un campo che può settarti una roba che ti è utile per sinergizzare col compagno invece così sei lì pedina morta come Tornadus in quella slot la aspetta e che fa more è lo stesso ragionamento che avevamo fatto commentando Paul Ruiz quando c'era quel flatter main al 10% che sarebbe stato più un peso morto perché sempre comunque sotto la spalla di Damocle di quel sucker punch di King Hammer ha ragione il concetto proprio di slot morta che ti occupa un posto alle volte è meglio non killare per lasciare non dare il free switch se sai che comunque quel turno lì puoi mitigarti o accettare magari un dannetto non avendo killato salvo poi poterlo tenere per le pelotas turni successivi io ho imparato da Francesco Pardini come si gestiscono i Grimmsnarl ignorandoli perché mettono i loro schermi e poi che cazzo fanno niente fai finta che non esistano quel Grimmsnarl non può farti male se non pensi che esista davvero scherzi a parte effettivamente un annoier uno screensetter si affronta non affrontandolo lasciandolo lì in una situazione passiva nella quale il giocatore avversario o prova a farti frantumani ma facendoti un cippettino però comunque non impensierendoti o prendendosi il rischio di switchare ma magari scoprendo una slot nella quale può arrivare dopo un po' di turni di passività un double up proprio perché hai capito ok lui si è reso conto che Grimmsnarl non fa niente quindi ora lo toglie ora gli doppio quella slot e trito il pokemon che entra quindi qua non si parla ovviamente di extreme speed e che quindi concettualmente occupano lo stesso ruolo in partita nessuno quello dei pesi morti bravo Alberto Lara che poi ci racconta anche un po' del mindset da torneo ci dice che è molto confident all'interno degli internazionali nonostante siano tornei che hanno un grande peso specifico in virtù dei championship point che garantiscono ai vincitori pensando che alla fin fine sono solo tornei questo è solo un gioco e non bisogna riempirsi troppo e non bisogna riempirsi troppo di aspettative allora sì frase fatta che se ci crede davvero chapeau che però per chi gioca come anche Alberto Lara alto livello da tempo insomma è difficile è difficile riuscire un po' a mantenersi distaccati può essere una chiave di lettura indubbiamente però diciamo a parte gli scherzi se non è la frase di circostanza e se ci crede chapeau perché vuol dire che ha raggiunto anche proprio una mindfulness tale da poter davvero rendere bene a un torneo del genere diciamo che sei leggero se davvero vai con il mindset del se perdo non importa perché le aspettative che tu hai su te stesso sono la tua miglior benzina ma anche l'ancora più devastante perché se ti riempi troppo di obiettivi da raggiungere svaniti i quali il morale va a terra è un casino vuol dire che alla prima loss cominci a droppare tutto a pensare che sia tutto finito che hai sprecato soldi tempo per andare magari dall'altra parte del mondo però ti dico la verità io non sarei mai in grado di pensare davvero una cosa del genere me la prendo per molto meno me la prendo se sono in ladder su un gioco XYZ e perdo il ranking che avevo acquisito con tanta fatica nella comodità della mia scrivania sulla mia sedia quindi figuriamoci se magari mi alleno per mese per andare in Brasile a giocarmi in torneo e faccio 0-3 perderei la testa conoscendomi come hai detto tu il confine è proprio tra la frase fatta e il vero mindset da campione perché la verità è che forse talvolta lo credi davvero talvolta cerchi di raccontarti questa cosa ed entrare in questo tunnel benefico di pensieri leggeri conosco molto bene il nostro campione del mondo Arash che talvolta riesce a avere questo mantra ok ci sono tornei nei quali davvero lui anche dall'altra parte del mondo si presenta con la voglia di fare un viaggio se va bene va bene se va male va male altre volte sta bello incazzato quando perde quindi dipende anche forse da quanto ci hai buttato sangue paradossalmente meno forse ci hai messo dentro a livello di tempo ed energia e più riesce a essere distaccato se invece riesce a metterci tanto tempo tanta energia a essere pure distaccato chapeau bravo sì perché l'impegno della preparazione di un torneo poi è direttamente proporzionale al carico anche di aspettative che ti auto vai a dare per quanto riguarda un risultato atteso quindi per esempio la preparazione di Yokohama è personalmente stata una preparazione molto serrata e infatti è stato altrettanto anche pesante poi l'aspettativa che mi ero dato nei miei confronti da solo per il mondiale dei mondiali in Giappone ecco perché ti dico non è facile per niente ci sono percorsi e professionisti mental coach che cercano proprio di aiutare i giocatori a far questo tipo di ragionamento alla fine è solo un torneo per definizione il giocatore di alto livello è un giocatore che ha passione per quello che fa ci tiene ci sente ci sta dietro quindi è difficile riuscire a distaccarsi se Alberto effettivamente e noi gli crediamo via dai è una persona che riesce a mantenersi così distaccata chapeau perché è uno status mentale che non si raggiunge facilmente che anzi è alquanto invidiabile finale mondiale dell'Ocic dell'anno scorso scusami internazionale dell'Ocic fece finale un Ocic con Corvinite contro Palafin vinto da Gavins Gavins Michael si aveva Corvinite e l'altro aveva Palafin e aveva Reign si 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 e ha perso quella finale mi sembra Lara ne abbia perso due di finali internazionali sicuramente lo abbiamo visto l'anno scorso in finale all'Ocic aveva Clefky anche bravo Kiki Munka aveva Clefky si si Clefky Thunderwaves tra i vari pop Clefky screen Thunderwave palla lunga paralizzare e pedalare e poi frane di Garchon ti ricordi vero vero bello Corvinite Garchon Clefky si 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 il primo internazionale di Paldea con una bella regulation la series 1 è ancora series 1 che goduria quella tra le mie due era series 2 perché c'era Iron Hands del team di Gavin Michael hai ragione hai ragione la series 1 non ha avuto major perché non entrava nel time frame si ma non ha avuto internazionali major major quindi perdonami non ha avuto internazionali il primo major di series 1 fu Liverpool che era appunto ma il primo internazionale fu a febbraio Melbourne si perché cambiò poi cambiò dopo l'anno scorso non c'era il Latam ma c'era Melbourne quest'anno c'è il Latam ma non c'è Melbourne finiremo che o meno la stessa ora di Castale si va avanti così va bene beh io direi che se il Couch ha pronti dei risultati io passerei la parola ai nostri colleghi che ci racconteranno cosa hanno fatto i nostri commilitoni italiani che purtroppo non abbiamo visto per niente oggi strano però non li abbiamo ancora osservati speriamo che accada nelle prossime battute di questi campionati internazionali di San Paolo quindi linea al C-Couch incrociamo le dita e speriamo di avere ancora qualche perfect score contemporaneamente speriamo che tutti i nostri perfect score si siano caccati addosso e siano stati per questo squalificati signori bentornati qui al C-Couch si parla di score perfetti si parla di cacca addosso abbiamo entrambi quindi siamo pronti qui per voi con le buone notizie io inizio con i punteggi perfetti i miei colleghi continueranno con il resto del discorso più avanti abbiamo Silva Silva in apertura che sul 5-0 si porta a casa la vittoria contro Ivo Giorgini ribattezzato Ivo Avido dalla buona Saidonia giocatore Tirchio ah si particolarmente particolarmente comunque 5-0 5-0 per Silva continuano 5-0 con Tarlao invece che porta a casa la vittoria contro Thomas Dacruz ma Tarlao è di casa ma ma Tarlao è di casa ormai Brasile Tarlao abbiamo una brutta notizia ormai tu ti sei innamorato del portoghese ti perderemo direttamente con Scarful Shifu prima sconfitta per Tognetta prima sconfitta per Tognetta che era contro Lattanzi si esatto contro Lattanzi che continua un eccellente run appunto dal Brasile con Scarful Shifu ormai tanto apprezzato e continua a combattere Vargas in compenso dall'1-2 si rialza sul 3-2 mai dire mai infatti anche una partenza Claudi Cante può comunque ripendersi infatti vediamo anche in grafica Ciupacross che ricordiamo che era partito 0-1 perché è diventato Tognetta sto friggendo un pochettino ragazzi siamo alla settima ora di trasmissione a breve ho un collega che è diventato portoghese nel frattempo quindi vuoi vedere vuoi vedere una magia lo sai che posso diventare anche Adam Driver e se mi dà una spada laser divento Kylo Ren mi piace mi piace ha il suo perché come cosa però devi anche fare la scena con petto nudo e pantaloni altezza ombelico ma adesso cioè ci sono polisi di Twitch che vanno prima controllate prima di fare questa cosa però evitiamo comunque si la situazione attuale è questa abbiamo appunto Tarlao e Silva ancora sul 5-0 Cognetta sul 4-1 Marros che ancora lotta sul 3-2 quindi ancora da giocare la giornata per lui delle ottime performance in ripresa dopo quello che è stato un inizio un po' faticoso beh direi che comunque ci sta perché vuol dire che 3 su 4 sono comunque andati avanti ha perso solo Cognetta ma da Lattanzi che comunque sembra in grandissima forma quindi probabilmente gli alza anche il rating poi quindi voglio dire tra tutte le sconfitte che può prendere forse va bene anche questo ci tengo a specificare una cosa sempre inerente al torneo quando è iniziato lo streaming avevo i capelli corti quando è iniziato lo streaming avevo i capelli vi faccio vedere i me che rimano fino a terra praticamente perché sennò come quelli di 6-0 comunque stavo tra l'altro seguendo anche la situazione generale sui tavoli stiamo aspettando ancora 5 tavoli che stanno giocando prima degli appaiamenti di round 6 quindi per adesso abbiamo i risultati non abbiamo gli appaiamenti dopo gli ultimi 5 tavoli verranno formati quindi abbiamo ancora un 10 minuti per dire delle cagate allucinanti dai 10 ai 73 minuti a giudicare dalle tempistiche del torneo potrebbe starci io ti chiedo un paio di resurs se potete allora vai prego fai tutto ma si giusto per hai preso il mio ruolo vai sto voluto esatto no mi chiedevo che fine aveva fatto stat che ricordavamo sullo 0-2 ancora vivo sto andando a recuperarlo immediatamente e poi anche Bic perché ricordiamo che aveva perso da Marco prima vediamo se si è ripreso in che situazione stava giocando contro uno dei nostri se non sbaglio no no però mi sembra che giocasse contro un altro ah Bic no aveva perso prima giustamente contro Marco si 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 adesso mi sembrava fosse contro Evans forse Bic me lo segna sul 3-2 quindi dovrebbe ha perso quindi dovrebbe aver perso 3-0-3-2 lo sto controllando perché è il risultato dal scoreboard di Tarlao e Bic adesso me lo segna 3-2 quindi Bic si ha un passo dall'eliminazione anche lui sta pullando una reverse marras era partito molto bene e ha avuto un collasso peccato perché Tarlao l'ha rotto evidentemente no è Marco quindi si ma come diciamo è un peccato perché comunque è il campione in carica adesso quindi lui si presenta lì come il campione latinoamericano si vede che ha il gol non è più in meta che altro nome volevi? Marco sta a te per sapere sì se è ancora in gara dovrei giocare in Didier Marouche beh vedi che mandigli un messaggio devo mandargli lo prima esatto o poi comunque 3-2 non vuol dire 3-2 allora 3-2 è il classico risultato in cui hai fatto praticamente niente cioè devi ora ti inizia un torneo di 4 partite e devi vincere tutte 4 peccato però passare dal 3-0 al 3-2 quello è un po' vero ma col formato del dei due alla fine che tu faccia x2 alto x2 basso ti va bene tutto quindi anche se parti 0-2 e poi fai 7 wind di fila va bene è più una questione mentale diciamo di trovare di nuovo è vero che se fai 7 wind di fila per arrivare al dei due al dei due c'hai di bello carico esatto c'è anche da dire quello però comunque non abbiamo ancora il risultato dell'ultima ah ok niente ancora quindi in attesa è solo 2-2 stiamo aspettando se è dentro o fuori altri 5-0 così? allora attualmente la situazione sui 5-0 un ottimo torneo finora da parte della Spagna Spagna per adesso ne vediamo 3 in 5-0 abbiamo Medina Rios e Signorina tra l'altro con un 4-1 che è Gomez che ha perso l'ultima da Rios quindi si scontravano sul 4-0 ha perso l'ultima da Rios tra l'altro leggevo su Twitter che Rios si sta giustamente tra virgolette anche se vogliamo un po' lamentando di questi problemi con le disconnessioni che stanno avvenendo un po' casualmente all'interno dei tavoli dove una partita tra Gomez e Rios è stata decisa a favore di Rios per una disconnessione ma lui giustamente ha detto io volevo giocarmela mi avrebbe fatto erogare parlando di 5-0 abbiamo 2-5-0 dal Brasile oltre alla Tanzi abbiamo anche Bispo Gabriel Bispo che dà anche un po' una fotografia sul power budget generale delle varie regioni perché abbiamo 2-5-0 da 4 giocatori italiani e abbiamo 2-5-0 da 230 giocatori brasiliani quindi non voglio mettermi a fare le scalette dei power level però nel senso ancora una volta per adesso l'unica regione che in rappresentanza 5-0 sta appunto superando l'Italia è la Spagna sul 3-5-0 tra l'altro forse c'è anche Vittor Medina tra l'altro si si tra i 3-5-0 abbiamo Medina signorena che tra l'altro in Brasile è un ottimo storico perché se non sbaglio gli ultimi due anni in Brasile fece prima una top 4 e poi una top 8 che è un giocatore che comunque ha avuto una pausa durante spada e scudo ne parlavo con Deve Davide Miraglia che signorena che signorena e lui sono tipo rivali acerrimi amici si trovano a tutti i tornei e ogni volta si guardano storto chi vince uno chi vince l'altro ognuno si ha i suoi giocatori che si trovano sempre si esatto io ho Gomez io ho su tutto quindi ho su tutto chiuso tutto chiamiamo i pairing del round 6 quindi un attimino vado subito ad aggiornarvi Tarlò contro Rios su 5-0 questo dovrebbe essere peccato uno scontro interessante uno scontro molto interessante a sto punto Marco dai dai vi do un po' di background e mi ricordo che Giulia Simba contro Zarza scusami se ti interrompo no diciamo che Giulia ha battuto Rios ma tu Daniel Richelme Zarza perdonami non conosco no Giulia aveva già battuto Rios nell'internazionale di Melbourne di cui si parlava prima quindi nel D2 si erano affrontati Giulia ha avuto la meglio e in stream tra l'altro se non sbaglio no non penso era tipo il win and in qualcosa del genere quindi vediamo se riesce a mantenere il Result all'Ewick lo streamarono io mi ricordo Giulia e Rios che giocavano contro forse anche all'Ewick quindi comunque si sono già beccati vediamo chi riesce a mantenere il punteggio in positivo tra i due a questo punto sono curioso anche di sapere se c'è uno scontro tra fratelli e sto cercando se il Salerno e i Lattanzi si scontrano se il Salerno e il Reggio Calabria saranno tra di loro sto recuperando in tanti pairing dei vari italiani abbiamo Renan Gomez contro Cognetta il Gomez è quello un po' meno blasonato Marras si gioca la sopravvivenza contro Rogerio Cattel quindi sempre Brasile ok e Marco dicevi il Gomez l'Argentina dovrebbe essere no sempre Brasile sempre Brasile ci sono tipo 7 Gomez gioca lancia la moneta hai un 50 e 50 di beccare un giocatore brasiliano questo torneo quindi è anche una moneta sorpesata se dovete andare a indovinare ma è quello brasiliano vero perché secondo me c'è un lato più pesante in questa moneta che c'è a cadere giù altri giocatori da controllare bec l'abbiamo visto sul 3-2 qualche americano americano abbiamo ah nessuno americano sul 5-0 abbiamo Confer e Lorci Lorci immagino sul 4-1 Evans sempre 4-1 Navarre abbiamo un sacco di americani sul 4-1 Carris Mott Ugarte Fattura Cross ah Fattura 4-1 si si attualmente Fattura sul 4-1 ha perso la prima da Fernando Junior e poi ha vinto tutte le altre stiamo dimenticando un grandissimo nome Cugna su 5-0 Cugna su 5-0 e poi ti faccio l'ultima domanda vai c'è un giocatore brasiliano che è l'unico che dovremmo tenere d'occhio a calcolare l'abbiamo beccato prima dal desk abbiamo tenuto d'occhio l'abbiamo tenuto Italo immagino stiamo parlando tutti quanti di Italo non è vero però va bene intanto era un bel Mazzucco è proprio lui il signor Mazzucco parentesi due separate Cugna adesso contro Signorena questo dovrebbe essere molto interessante anche Rios contro Tarlao potrebbe però Rios l'hanno già mandato l'hanno già mandato allora abbiamo detto che abbiamo da recuperare il nostro buon Italo a questo punto Italo 3-2 purtroppo per lui un'altra sconfitta mannaggia Italo ahimè ahimè Italo sul 3-2 stanno succedendo nel frattempo delle cose indicibili qui sono arrivati praticamente arrivato un treno di uomini nudi che sta continuando a correre davanti ai nostri occhi cercare di mantenere una parvenza di serità davanti ai nostri occhi è difficilissimo ma cercheremo comunque di fare del nostro meglio perché siamo dei grandi professionisti e lo sapere stanno di nuovo facendo le domande le scrivo ora me le mando a breve tanto ci informano che abbiamo un altro momento domande su feed live prima che arrivi Agati ecco Gabriel Agati il giocatore andiamo a recuperarci Gabrielito Italo-Brasiliano tra l'altro davvero lui senza meme di nonna lo sapevo anche di che parte dell'Italia ma comunque 3-2 anche Agati 3-2 anche Agati da chi ha perso curiosità Agati ha perso la prima da Kaila Yala e Juan Pablo Cambon dall'Argentina si porta a casa la vittoria però c'è una cosa da dire su Agati che fa sempre malino il primo internazionale nel 2020 l'anno scorso e forse anche questo ah beh è vero quello di Melbourne del 2020 è andato malino però comunque l'internazionale l'ultimo brasiliano lo toppò fece top ok ma forse non era il primo della stagione è sempre il primo ok è sempre Latam, Ocic Ewick comunque di solito va ingranando Sutter ha chiuso 2-3 quindi out no out per lui potrebbe continuare a giocare per la 128 vabbè sono tanti cp una volta che sei lì ti fai viaggio sei lì non te ne vai no più che altro sono tanti cp la 128 sono comunque un centinaio ora a memoria non sono pochi in più domani mid season e pc annessa quindi due tornei più piccoli perché perché un po' meno avvezze lavori all'interno della graduatoria dei tornei partendo dal più basso sono pc e mid season che sono i cosiddetti locals quelli che potete giocare anche nelle vostre città Bologna Milano Torino eccetera internazionali e scusa regionali che sono per l'Italia c'è solo lo special e poi via discorrendo internazionali che sono questi e poi c'è il mondiale esatto quindi sto vedendo un attimino tutte situazioni varie ed eventuali e allora di nuovo ormai è la narrativa centrale di questa giornata quindi ritorniamo a quella perché in quella che è la nostra cattiveria intrinseca ormai possiamo sbottonarci un pochettino anche noi ci stiamo chiedendo quando è che avremo la prima partita veramente combattuta di questo internazionale perché ne siamo appena usciti da un 2-1 ma siamo usciti da un 2-1 dove stavano cliccando la faccia e stavano andando in probabilmente la situazione di 5-0 più ignorante mai vista di recente quindi l'Europa America l'hanno già streamata uno scontro quando streameranno Europa America ok ok questa è un'ottima risposta devo dire la domanda è streameranno Europa America prima o poi ah si l'hanno fatto con infatti è stato l'unico match Rios più bello Rios contro speriamo di rivedere l'Europa America eh si Joshua Lorsi Lorsi esatto infatti è stato e allora quando streameranno Europa 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 ok quindi si torna sul discorso di l'Europa ancora cardine di una competizione almeno un po' più scolastica perché poi si parla anche tanto parlavate prima delle partite vinte da casa no? delle partite vinte portando la lista giusta nel momento giusto e per adesso poco altro abbiamo visto tra l'altro vorrei fare un gigantesco Dazzingle in Protect perché questi meta ottimo soprattutto questo meta in cui la preparazione da casa la cosiddetta flowchart no? il preparare le partite in anticipo eh premiano tanto Marco Marco Silva è un giocatore che su questa cosa credo sia uno dei migliori eh da seguire perché le flowchart di Marco sono sempre precise Marco tocca il toccabile e difficilmente sbaglia detto questo beccherà solo team storti contro cui non ha planato e ovviamente perderà no tra l'altro comunque planare in questo meta è ancora più difficile perché con la terra a volte è vero che stanno standardizzando adesso le terra e questo aiuta di più a planare comunque però vedi Lara mi ha stupito Lara non aveva planato letteralmente contro una delle lead più forti del meta che è Ushifu Water Rillaboom ma e non aveva non aveva il plan e ha svelato il turno 1 ma non puoi sbagliare il turno che sia un plan cioè se hai un plan le due cose sono totalmente esclusive diciamo che erano un 50-50 di fake out ok hai ragione ma non puoi presentarti a un torneo così grosso dove sai che gioca Rillaboom non riuscivo nel 40% dei team senza un plan che ti dia non dico solidità garantita la vittoria ma almeno un 70-30 un 60-40 così si è proprio buttato allo sbaraglio e chi vince il lancio della moneta vince mi fa fake out nello slot giusto bene ho vinto 4-0 mi fa fake out nell'altro slot bene ho perso 4-0 tra l'altro la scelta degli slot continua ad essere molto più safe di quanto potevamo prevedere su un torneo che appunto 50% di partecipazione di giocatori brasiliani ci aspettavamo un po' più di gioco folle ci aspettavamo un po' più di gioco per la folla addirittura specialmente considerando che sono lì iniettatissimi di adrenalina da parte di un pubblico che sta urlando ad ogni loro successo l'unico è la tante che Terra Ice turno 1 davanti a Hogger poi ne dice ma sì ma io ce lo tiro Terra Blast e ne è uscito ne è uscito comunque è una soluzione che non possiamo definire una soluzione creativa perché comunque è una soluzione che era stata già sviluppata su altri tipi di archetipi ma su Regge Leki mi sembra fosse l'ha rielaborata molto bene assolutamente è un meta allora il meta che pescano dal passato cioè i pokemon che riprendono pokemon del passato a me piacciono tanto perché vanno a creare determinati no fili di connessione tra i vari meta e quelle Leki e l'abbiamo detto anche prima è un Leki che riprende il vecchio Coco a V quello con Skydrop Skydrop mossa purtroppo che abbiamo abbandonato insieme a Sole e Luna perché già su Spada e Scudo purtroppo non era più presente ma Skydrop era una mossa che in competitive quando disponibile era fortissima perché era una mossa che toglieva un pokemon dal campo Coco prendeva un pokemon e lo portava in cielo quel pokemon non esisteva per quel turno e poi lo riportava giù ed era forte perché lo facevi su Among Us che faceva Rage Powder tu lo toglievi e di conseguenza la mossa andava sull'altro target ignoravi Rage Powder e quindi pur di giocare Skydrop si giocava Coco a V con Electroweb perché ovviamente essendo il pokemon più veloce in formato potevi permetterti Electroweb Dazzling perché purtroppo non imparava Play Row e a quel punto gli davi anche HP Ice per non rimanere a guardare Lando che in quel momento ce n'erano tanti quindi un Eleki che non ha Skydrop può essere giocato Magnet con Protect però comunque il Terra Blaster Ice è un Lacky Dragon era con Magnet no? era Magnet si si è un Atache che comunque ti aiuta come l'Icebeen su Cresselia no? le mosse Ice su pokemon non Ice spesso si danno quasi sempre soprattutto nei meta di Landorus perché è intuitivo si si soprattutto su un pokemon elettro come leggere chi voglio dire si si poi appunto è interessante il Magnet perché appunto puoi switchare mossa ecco non è che dici 6 specs allora rimango allocato così è sempre a disposizione la possibilità di scegliere tra mossa elettro e mossa ghiaccio e quanta gente si sta incartando su specs eh si esatto oggi di quante le abbiamo viste in streaming abbiamo visto in streaming 5 round 2 si sono incartati di quelli che abbiamo visto live quindi direi che statisticamente la si può considerare importante tra l'altro non ho ancora visto nessuno rischiarsi l'extreme speed su un ghost o il fake out sul ghost su tipo la vecchia c'è un pò dragonite non è ancora arrivato prima o poi arriverà ne vedremo sicuramente però la mossa di fare terra normal l'extreme speed sul flutter main è una mossa che si vede spesso certo cioè in un meta in cui poco non cambiano tipo te ne freghi anche no anzi a volte devi esatto mi aspettavo per esempio nel game famoso di terra poison king gambit torno uno bambam psi shock su king gambit l'altro psi shock mi sa che era quello poi boostato da chen pao si perché abbassando la difesa essendo una mossa speciale entra comunque sulla difesa entra sulla difesa non killava comunque però non per secondo me è ma non è super efficace non era non era era black classius su una difesa abbassata beh comunque flutter main nel dubbio nel dubbio la mia risposta è 135 special base non posso controribattere opinione interessante tuttavia 135 special alpha è vinto rispetto quello che tu hai da dire però ho cercato che il mio pugno sia molto forte ma in che senti tu ok e poi ecco parlato di pugno hai fatto un attimo pensare ad iron hands volevo parlare un attimo del grafico di rappresentazione che abbiamo visto perché abbiamo parlato per due desk consecutivi di quanto i pokemon che ci aspettassimo di più non li avessimo visti tanto ma poi abbiamo visto che invece sono stati i più rappresentati all'interno del torneo finora quindi in realtà siamo stati anche noi un pochettino a doggiare con gli streaming match quelle che sono state le traiettorie più standard rispetto al meta attuale vero dobbiamo fare anche noi il gioco chi sale e chi scende ci hanno sfidato è vero è vero quindi comunque mentre tu ci pensi perché io li so già ah sì già quindi parti tu però intanto approfitto per fare un discorso inutile vuoto mentre tu prendi tempo e il discorso della top 12 è sempre da prendere con le pinze quella del day 1 perché tanti pokemon la gente li sceglie perché forti senza spesso andare a contestualizzarli ho uno slot libero cosa ci metto Ironhands perché è forte ma il tuo team ha già tre deboli feri ha già tre deboli ground perdi dall'ando eh ma Ironhands è forte ma metti una risposta all'ando eh ma e spesso si capita questa roba quando anche poi a volte funzionano perché abbiamo visto team con triplo ghost funzionare doppio grass funzionare quindi sono strategie che ti portano effettivamente cosa leggo che cosa leggo che cosa leggo quando streameranno Europa e Europa vedremo una bella partita ci aspettiamo ora ho montato vai comunque secondo me sale bundle e scende flutter io me la rischio la lanci senza nessuna aggiunta senza nessuna senza spiegare niente si è un format che mi è piaciuto quindi non spiegherò il perché lo spiegherò poi io me la rischio per me sale Roaring Moon perché secondo me è già indicativo oh vediamo già i team qui doppio Roaring Moon tra l'altro a questo punto vi mando direttamente da questo divano all'altro lato del globo perché come potete vedere si stanno preparando abbiamo i setup abbiamo Gerpon versione acqua vediamo che cosa porteranno in campo a questo punto direi che siamo pronti la parola passa direttamente a voi beh non ci è voluto nemmeno troppo cambio di quadratura però alla fine non ci è voluto nemmeno troppo siamo già qui pronti per commentare finalmente Spagna Portogallo Cugna segno rene Europa contro Europa team Mirror di nuovo il mantra della giornata non cambia ancora Mirror sarà ma attenzione sono gasatissimo comunque nonostante il Mirror perché qui abbiamo ma attenzione perché in uno c'è Among Us e in uno c'è Oggerpon e questo cambia tantissimo il match up perché Oggerpon gestisce Lando e Itran ma Among Us gestisce Fluttermane Iron Hands perché con Rage Powder non li farà danno però il Rage Powder di Among Us viene ignorato da Oggerpon e quindi inizia quel gioco di scacchi e di incastri di ingranaggi di rotazioni eccetera che chi saprà gestire meglio il Pokémon che non è presente nel team dell'avversario vincerà questa partita e io mi aspetto da un lato sempre Oggerpon dall'altro sempre Among Us magari non li magari dietro e che gli altri tre ruoteranno attorno Ottimo hai fatto un'ottima analisi e io sottolineo due differenze che secondo me saranno significative che sono proprio nel set di Rory Moon perché da una parte da Cugna abbiamo un Tailwind Setter quindi quello Super Support mentre dalla parte di Signorena abbiamo invece quello Dragon Dance quindi i vecchi a scuola quindi abbiamo proprio i due set di Rory Moon che si scontreranno in questo match Ti interrompo perché siamo dentro il match siamo dentro questo round 6 Edoardo Cugna si presenta con Lando Oggerpon Water da un lato dall'altra parte Signorena sempre Lando ma Itran a fargli compagnia qui l'Ogerpon è buono se magari decidi di Terara perché chiaramente è una mossa super efficace su entrambi se non Tera rischia di pendersi un Tera presto volante da parte di Signorena può essere una giocata rischiosa ma chissà magari Signorena deciderà di switcharlo per intimidirlo di nuovo e quindi sì qui probabilmente si andranno un po' a riposizionare intanto Itran se la protegge la protezione con gli esagoni viene evocata da parte di Itran lo U-Turn attenzione che questo è un discreto dannino un buon 40% torna da Signorena Landorus ma noi sappiamo col nostro occhio ogni scente e ogni presente che anche il Lando di Cugna è andato di U-Turn e quindi si riposizionerà dopo il Lando di Signorena infatti così è esce facendo un piccolo dannettino alle mani ferre spagnole e vediamo con cosa sceglie di entrare in campo Cugna che ora ha l'apperenza sullo switch in e se ha l'apperenza entrerà Iron Hands di Enzo si parla e quindi alla fine di mani contro mani entra Iron Hands da parte di Cugna e Bicaccia ha un impatto sulla Protek quindi qualche dannettino in giro un po' di repositioning una Protek investita da Itran che ora non potrà proteggere davanti a un eventuale fake out scambio di fake out oppure perché no potrebbe arrivare già subito quel Drain Punch attenzione che il ferro Palmas di Signorena ha avvolto che in questa situazione può tornare molto utile per posizionarsi su nuovamente magari di buttare di nuovo Landorus per intimidire questi due Pokémon fisici e quindi si prospetta veramente una partita di Switch e contro Switch finché non si trova quella chiave di volta che permette di sweepare quella chiave che ancora non c'è i giocatori stanno cercando di trovare la posizione ancora bisogna scautare anche le spread bisogna capire magari qual è l'Iron Hands più veloce chi ha il fake out più veloce e probabilmente si andrà a fare già partire da questo turno esce Itran in virtù di una doppia minaccia lotta e acqua dal lato del campo di Cugna eccolo lì che entra Prama Luna il Roaring Moon la luna ruggente spagnola che già abbiamo visto nelle mani di Casti fare molto bene all'interno di questo torneo ma si alza l'attacco e non la speed proprio perché come dicevi tu questo vuole danzare questo è un è un drago che danza ma entra Landorus subito a placare gli animi e a calare un Intimidate sia sulle mani ali preistoriche di Rory Moon Spike Shield per scautare eventuali fake out e vediamo qual è la scelta di Signore fa un piccolino dannettino a Landorus un altro turno di stallo di riposizionamento non si stanno accumulando danni ma si sta cercando quella posizione che permetterà poi di fare danni vediamo se adesso questo Rory Moon si riuscirà era pronto gasato a bussarsi con l'attacco mentre Tornando lo sa dire ehi calmo l'ha andato proprio a intimidire quindi il suo attacco è tornato neutro vediamo se magari adesso troverà lo spot per danzare magari portandosi anche sopra di attacco e di speed nuovamente e intanto la logripo ritorna nella Pokéball deve uscire in virtù di una minaccia di Acrobatics da parte di Rory Moon che però va a proteggere giocandosi un ottimo turno perché non prenderà danni dall'eventuale U-Turn di Landon che però cugna saggiamente va a posizionare sul Pokémon Assault Vest che non può proteggere quindi si garantisce lo switch out e ora con l'Iron Hands in campo potrebbe entrare di nuovo quell'Itran che in virtù della presenza di Landon in quella slot difficilmente dovrà andarsi a tancare a mossa lotta Volt Switch di nuovo per riposizionarsi abbiamo visto almeno tre U-Turn e un Volt Switch in questa partita è una partita a scacchi signori prendete appunti perché questa è VGC di alto livello perché stanno giocando davvero a scacchi rientra Lando meno uno per Iron Hands meno uno per Itran che accompagna il meno uno un po' mitigato dal booster energy di quel Rory Moon guarda quello U-Turn sull'Iron Hands poteva sembrare una leggerezza ma in realtà è stata veramente una giocata di fino perché lì ha lasciato il Bramaluna pronto a danzare volendo inizio l'ha ignorato sapendo che andava a proteggere per evitarsi di prendere quel dannettino di U-Turn che non era così tanto però comunque è un grande rischio perché è andato a ignorarlo in un momento in cui poteva danzare quindi grandissimo Cugna fare U-Turn dall'altra parte e adesso vediamo se riuscirà a sfruttare un pochino di più questo Itran per cominciare ad accumulare qualche danni perché per l'ora di danni non se ne sono visti esce Rory Moon lascerà spazio probabilmente a quello che è Iron Hands che abbiamo già visto più volte entrare uscire essere il Pokémon pronto a tancarsi i danni dal lato del campo di entrambi i giocatori ma questo è la prima Terra Crystal in questi derby iberico perché va a terrare Itran si terra col cuoricino sulla fronte l'Itran di Cugna di Cugna e lo U-Turn di nuovo toglielando dal campo che tornerà nelle retrovie pronto a intimidire di nuovi Pokémon del giocatore portoghese ma vediamo chi dovrà entrare a tancarsi i danni perché qui non c'è più lo spazio per Ferro Palmas perché è già in campo l'Iron Heads e qui Earth Power arriva nella slot precedentemente occupata da Rory Moon e pesca la super efficacia ma arriva anche il Drain Punch nella slot dove prima c'era l'Andorus Cugna cambia marcia signori altro che U-Turn no veramente qui ha deciso di premere un pochino sull'acceleratore ha cercato di prendere gli switch li ha presi e ha cominciato ad accumulare quei danni che saranno fondamentali per il proseguo della partita perché comunque ha preso un 50% su entrambi i Pokémon in campo quindi veramente tanta tanta roba ha capitalizzato il suo momento e lo ha fatto alla grande bisogna vedere adesso se riuscirà a mantenerlo con qualche altro contro switch perché comunque adesso Signorena ha sì un fake out ma può di nuovo riswitchare con Volt switch può di nuovo riposizionarsi può rientrare quella luna ruggente e quindi c'è da stare attenti perché se è un turno che è entrato ma in battite come questo se perdi la posizione poi può derare completamente il corso della partita e qui Cugna cerca di mantenere le marce alte entra l'Andorus per calare l'attacco di un Ironhands pronto a fake out riuscire invece magari l'Itran proprio di Cugna che protegge stabilizza un po' il suo turno cerca di riposizionarsi in modo comodo vediamo però se è arrivato il Volt Switch arriva il Flash Cannon nella slot tirando questo è un bel danno in virtù di un Pokémon come Itran che comunque ha un discreto attacco speciale ma non si esce non si Volt Switcha Itran protegge non si Volt Switcha eh già Landorus arriva anche questo il giocatore di Landorus più prot ti impediva di switchare Feropalmas attraverso una mossa poteva switchare manualmente ma è raro che lo vuoi fare quando hai Volt Switch quindi Cugna si è sicura che quel Feropalmas rimane lì e che Signorena rimane un pochino sposizionato davanti a questo Landorus che può spammare mosse o comunque può spammare di nuovo U-Turn per rientrare nuovamente con il suo Feropalmas e quindi questo gli dà ancora più momento quindi vediamo se riuscirà a capitalizzarlo ricordiamo che il Itran di Signorena ha una Shookaberry quindi bisognerà cercare di capire se Red Power prende o meno una kill comunque l'avversario spagnolo con quel flash cannon si è portato a casa un buon danno su Landorus tutto sommato quindi è ancora una posizione precaria esce l'Itran col coricino di Cugna per lasciare spazio nuovamente ad Ironhands quel dealer di danno ma anche un ottimo tank che può entrare in switching quasi su tutto entra anche Ironhands che era stato intimidito e entra Lando che intimiderà a sua volta il Ironhands di Cugna mentre però sai cosa succede? sai cosa fa Lando di Cugna? arrivederci grazie me ne vado torno nella mia Pokéball comodo comodo e vediamo con cosa forse Oggerporn qui potrebbe essere in uno spot niente male infatti infatti ti ascolta bene entra Oggerporn in campo con un Itran che però deve ancora andare ad attaccare e arriva Flash Cannon nella slot di Ironhands che guardate che danno che prende niente niente questo Pokémon è fatto bene l'hanno disegnato proprio bene quindi bisognerà adesso capire come deciderà di sfruttare il turno Cugna perché il suo Ironhands non ha Volt Switch quindi Oster li da magari a cercare di attaccare Itran che in realtà potrebbe anche proteggere in questa situazione potrebbe rientrare anche con Landorus per cercare di intimidire proprio Landorus però comunque penso sia in range di un altro Flash Cannon quasi quindi è un'entrata un pochino rischiosa dovrebbe cercare di capitalizzare questo Hogger Pawn però comunque rimane in uno spot abbastanza difficile se Landorus andrà a decideri Terraria invece no Switch Switch a Landorus perché Signorena si è aperto un varco nelle difese in virtù di un Landorus che non può difendersi e proteggere fake out sistema roll perché sistema roll arriva Levi Cagel questo è più zero questo è più zero ma resta in campo però arriva Levi dall'altra parte che non basta né su Hogger né su Iron Hands e non arriva nemmeno il Burn da nessuno dei due lati era quello di cui avevo paura stavo un pochino vedendo un Burn da qualche parte su due Pokémon fisici quindi però sì per fortuna nessun Burn Iron Hands dalla parte spagnola rimane veramente pochissimi HP quindi piano piano le sue pedine stanno scemando e qui il primo che perde un Pokémon andrà in grossa difficoltà perché perdendo uno Switch perdendo un Pokémon che si può riposizionare può essere veramente tosta quindi qui cercare di prendere una kill il prima possibile potrebbe fare la differenza per il corso di tutto il match ma ricordiamoci che se non sbaglio Signorena può ancora terare e magari sta aspettando di terare Roaring Moon nello spot giusto esce Itran dal lato del campo di Signorena probabilmente arriverà Orlando ad intimidire sia Loggerpon che l'Iron Hands di Edu doppio drop in attacco per i due Pokémon ma Iron Hands giustamente meno due non ci voglio stare in campo esco ci vediamo e sai chi entra? Entra Itran che però non è una posizione comoda nonostante la Terra Fairy perché c'è possibilità da parte di Signorena comunque di calare dei buoni danni Spiky Shield per Loggerpon di Cugna il fake out impatta sulla Protect su Spiky Shield attenzione muore di Recoil però occhio perché questa morte di Recoil gli da free switch così gli da free switch vero stai giocando 3 contro 4 in una partita che ha fatto almeno 19 switch nel giro dei primi 6 turni non ci sono abbastanza Pokémon da switchare ma ce l'hanno fatta quindi occhio quindi occhio perché ora calano i Pokémon difficilmente ci sarà poi continuità di refresh di quell'intimidate di Lando entra qui un Rory Moon adesso come si gestisce questo Rory Moon chiaramente Cugna ha ancora Landorus dalla sua che qui davanti c'entra c'entra bene per intimidire ma sta meno del 50% quindi potenzialmente anche da un doppio potrebbe morirci ricordiamo comunque che adesso il Rory Moon non ha più il booster perché ha switchato quindi sta neutro e nel caso dovesse entrare Landorus andrebbe completamente meno uno però è anche vero che forse in questa situazione qui senza forza potrebbe danzare abbastanza gratuitamente esce Ogerpon obbligato ad uscire in virtù dei pochi HP e del meno uno infertogli dallo switch in di Lando entra Lando portoghese il Lando di Cugna che va a intimidare sia Lando che Rory Moon cala la doppia intimidate su due attaccanti fisici ma Lando ovviamente non ci sta io non voglio giocare a meno uno ascolta esco ci rivediamo fra un po' esce ovviamente giustamente per riciclarsi l'intimidate fra qualche turno per ricalarla magari su quell'iron hands entra Itran in quella slot vediamo arriva l'acrobatics a meno uno non basta non basta e il flash cannon impatterà nella slot di Rory Moon un buon danno un buon dannetto e qui sai che o se danzava oppure se terrava qui prendeva la kill poteva svoltare la partita adesso il fatto che quell'Andrus abbia retto può andare molto in favore dei cugni perché chiaramente può risvicciarlo nuovamente può tornare nuovamente e quindi rintimidire ancora una volta le pedine di cugna ci sono ancora tutte ma sono veramente a bassa vita quindi il segnorena ha ancora le carte in tavola per ribartarla se surta bene il suo Rory Moon che non è facile da tirare giù dalla parte di cugna bisogna capire quanto questo Itran riuscirà a danneggiarlo a suono di flash cannon e infatti Lando se ne va pronto a intimidire più tardi recupera Lando dal campo e switcha dentro Augerpon protezione invece del Rory Moon che in virtù di un meno uno abbiamo visto pochi 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 danni il flash cannon questo farà male fa molto male in quella slot l'air power parte l'asciuca però vediamo il danno perché comunque bassi gli HP di Itran e va giù non basta l'asciuca quindi un altro pokemon che viene tolto dal lato del campo di segnorena tra dati pokemon per HP di cugna ma cugna ancora Iron Hands pieno è vero che contro Lando non fa tanto ma è comunque Iron Hands pieno contro Rory invece fa bene quindi stesso siamo arrivati in uno spot di 4 contro 2 e chiaramente i pokemon di cugna qui in campo hanno bassa vita però anche quel Lando sui semi morente ma finché entra in campo a intimidire diciamo che contro questi due pokemon fa comunque il suo lavoro ricordiamo che appunto segnorena ha sempre una terra a disposizione quindi in realtà può ancora ribartare questa posizione di 2 contro 4 però la devo dire ottima gestione da parte di cugna che pian piano sta mangiando tutte le pedine nei turni giusti accumula danni nei turni giusti anche qui ha letto ancora una volta una protect di Rory Moon che potenzialmente poteva anche danzare e prendere vantaggio e quindi sta diciamo punendo un po' le giocate conservative da parte di segnorena vediamo se invece in questo turno si finirà sull'acceleratore arriva finalmente la terra di segnorena vediamo quale dei due pokemon andrà a terrare volante dell'ando quindi perde l'unica resistenza alla mossa elettro di Ironhands che ricordiamo essere full hp e nel retro delle file di cugna follow me e qui quindi vuol dire che arriva Terra Blast perché deve loccarsi su Terra Blast a questo punto non può andarsi a loccare su nient'altro perché deve cercare il più danni possibile Terra Blast su Oggerpon che ovviamente va a prendere il KO e di conseguenza anche in virtù forse del meno uno forse viene comunque giù Itran da Acrobatics e invece no e invece no Flash Cannon ancora buoni i danni su l'ando e qui può entrare Enz che non è proprio proprio full hp però comunque se li gestisce bene è un lando che è ancora dietro pronto a intimidire c'è un lando dietro pronto a intimidire però non è semplice che qui forse probabilmente andrà a doppiare l'ando Rus perché Itran comunque sta sotto le mosse di tutto però potrebbe rischiarsi anche dall'altra parte un doppio su Enz che comunque non fa bene a meno che non entra l'ando senza intimidire arriva il fake out discreto danno considerando che è fake out come mossa da parte di Enz l'Acrobatics finalmente killerà con un crit Itran non serviva però ora entrerà Freelando davanti a due Pokémon fisici che verranno di conseguenza intimiditi quindi quei 14 HP servono anche solo a calare un intimidate di un Rory Moon tra virgolette ormai decurtato completamente del suo potere offensivo ed è solo una banca del PS per il Drain Punch di Iron Hands beh qui Signorella dovrebbe essere abbastanza forzato a fare Terrabrust su Landorus di Cugna sperando sia più veloce questo vuol dire che comunque Cugna andrà a killare di Wild Charge comunque il Landorus avversario infatti qui quindi qui sappiamo che è più veloce di per certo arriva Terrabrust nella slot di Iron Hands ma guarda Cugna che ha coperto la giocata perché arriva Rock Slide basta che non missi su va bene intavando perché aveva fatto Drain Punch nella slot di Lando ha coperto il miss ha coperto non solo il miss ma proprio l'eventuale non protect di qui Signorena vince se doppiando la slot di Iron Hands ok va ad attaccare Lando invece qui lui giustamente fa questa giocata proprio per coprire entrambe le situazioni guarda quanti HP recupera tra l'altro è tornata a metà HP cioè a banca del PS signori io vorrei applaudire Cugna per questo game perché veramente ogni volta è così quando vai in streaming c'è delle dimostrazioni incredibili questo è proprio il suo playstyle che si porta avanti da anni da tornei ma anche da Londra anche al mondiale di Londra in semifinale contro Paul Chu la semifinale che poi ha vinto in una partita credo durata mesi di switch switch out Cugna è quel giocatore è quel giocatore e lo sa fare al meglio è veramente incredibile non solo ti costringe a giocare come lui sì sì esatto tutti quelli che devono affrontare Cugna devono giocare in questo modo assolutamente e se non sei preparato e se non sei preparato a giocare in questo modo ci perdi perché è vero puoi stare dietro a tutti gli switch ma Cugna sta già pensando tre turni avanti se tu non hai quella confident nel pensare così avanti nei turni non gli stai dietro sai cosa a Signorena è mancato l'affondo l'affondo quello che invece pian piano Cugna ha accumulato lui sapeva quando affondare sapeva quando invece non riposizionarsi quando dire adesso premo adesso ti prendo lo switch accumulo questo danno una cosa che invece Signorena non ha fatto ed è stato sempre conservativo vedersi anche tutte queste continue protex su Rory Moon quando in realtà poteva per esempio danzare o accumulare danni a sua volta invece non l'ha mai danzato non l'ha mai danzato cosa che avrebbe potuto fare tranquillamente almeno in due occasioni invece l'Ironhands di Cugna praticamente costantemente ignorato da Signorena tanto ci penso dopo ci penso dopo ci penso dopo e alla fine arrivi a un dopo in cui Green Punch da una parte White Charge dall'altra non c'è più dopo non ci sono più Pokémon con cui counterarlo quindi un Ironhands giocato perfettamente divinamente e dall'altra parte un Signorena che ha sempre giocato conservativo senza mai provare a fondare col colpo cercare la giocata perché Cugna non gli ha mai dato la possibilità perché o ti prendi il rischio di giocare di giocare aggressivo e se sbagli perdi oppure giochi come di qui perché non è che dici affondo e affondi insomma gratuitamente ti prendi un gran rischio vuol dire che ti espogna qualcosa quindi che sia la mossa terra su un Itran su un Ironhands lo U-Turn anche su Rory Moon perché non sottovalutiamo i danni di U-Turn su Roring ma eccoci qua perché ci regaleranno un'altra partita si invertono magicamente le posizioni dei Rory Moon questa volta è Cugna a schierare il suo Pokémon del passato di Paldea insieme a un Lando dall'altra parte sempre Lando ma col futuro dei Pokémon con quel Ironhands vediamo qui il boost dove si attiva se si attiva in speed e infatti così è perché questo se non ricordo male ecco infatti è uno di quei Rory Moon Support con Tailwind e Break is White e Knock Off pronto appunto a supportare il suo team tra diminuzione di attacco e aumento di speed tramite la Tailwind vediamo se e questa volta l'avversario spagnolo riuscirà a capire i suoi errori a rischiare un pochino di più e insomma prendere in mano la partita che prima non ha fatto protegge Luna Ruggente va a evitare le eventuali monse da parte di Signore Ana ma il fake out impatta sul Lando ma lo U-Turn invece viene protetto comodamente e facilmente da Rory Moon e quindi nessuno si muove in questo turno piccolo dannino di Ironhands sul Lando di Cugna sì quindi nulla di fatto sostanzialmente è ancora tutto aperto la differenza la può fare quello che c'è dietro in questo caso intanto arriva sempre un Breaking Swipe che è pronto a diminuire l'attacco che contro due Pokémon fisici non fa mai male doppia intimidate da parte di Cugna quindi con questo Breaking Swipe ma lo U-Turn ripulirà tranquillamente un Lando che comunque a meno due i suoi danni li ha calati e non pochi abbastanza inaspettato questo danno a meno due poi da Lando probabilmente è un Rory Moon molto investito in speed di attacco assolutamente ed ecco che arriva su ed entra l'altro Rory Moon che vedremo prendersi probabilmente a questo punto lo U-Turn perché se il pattern di Cugna ormai l'ho capito slot che non protegge uguale slot in cui posso fare U-Turn e invece ti smentisce subito e invece così Stomping Tantrum guardalo va bene scusa Cugna scusa scusa perdonami perdonami eh questo è un grandissimo danno anche se adesso andrà a recuperare un bel po' di vita con Drain Palace in realtà neanche troppa perché Sir Rory Moon comunque non ha troppi HP rispetto a quanti ne ha Iron Hens quindi rimane comunque sempre in range di quasi tutto in realtà Lando in senato se ne va pronto a rintimidire di nuovo adesso vediamo in realtà se questo Rory Moon sarà pronto a danzare a prendere questo vantaggio che nel game precedente non ha preso espone però il suo E-Turn qui ma esce Iron Hens di nuovo la legge Cugna quindi tranquillo l'entrata del suo E-Turn che non prenderà mosse super efficaci entra Rolando a intimidire ma intimiderà Rory Moon e E-Turn quindi si va a intimidire Rory Moon ma E-Turn è lì tranquillo Breaking Swipe che ancora va a droppare l'attacco di entrambi quindi continua questo ricircolo di intimidate passive con Breaking Swipe e il knockoff però va a togliere i Safety Goggles che in questo matchup però sembrerebbero non servire a pugna si non abbia deciso di portarsi dietro a Mungus ma verosimilmente ci sarà ancora nuovamente il suo di E-Turn che nel precedente game comunque ha fatto molto bene questi Breaking Swipe continuano ad essere molto utili continuano a diminuire l'attacco su tutti i Pokémon fisici finora in campo e quindi sta diciamo assorbendo bene la presenza fisica di Signorena vediamo se riesce a svoltarlo adesso con E-Turn magari con una Terra spammando qualche Heat Wave oppure spammando dei Flash Cannon sul Bramaluna avversario intanto uno switch in di Landorus direi che ci sta perché comunque continuano ad esserci Pokémon fisici e ancora Intimidate ancora l'ennesimo meno uno in attacco in partito da Cugna Signorena qui la partita si fa difficile per Signorena e arriva però una Terra eccoci e a questo punto potrebbe essere la Terra volante di Rory Moon giustamente per andare a sfruttare e cercare di concludere su quella Acrobatics magari finalmente provando a calare quella di Dance quella Dragon Dance per riportare un po' su in attacco quel Rory Moon che comunque ha preso Breaking's White e Intimidate quindi adesso il danno è piuttosto contenuto U-Turn da parte di Lando che giustamente si deve andare a ripulire con il crit perché era meno 3 quel Lando era una mossa non molto efficace quindi comunque il danno aiuta Signorena perché comunque un bel po' di danno in più ma entra Iron Hands entra Iron Hands con quella bassissima vita e l'Acrobatics va su Rory Moon che però qui Iron Hands minaccia a questo punto di Fake Out Rory Moon ma perso Rory Moon vorrebbe dire anche perso Iron Hands perché potrebbe arrivare quella mossa a terra quello stomping e quindi se vuole fare Fake Out per impedire la Tailwind deve prendere necessariamente Stomping nella slot di Iron Hands e questo Cugna lo sa e lo sa molto bene qui è abbastanza unico arriva Fake Out dall'altra parte quindi in realtà gli fa mettere Tailwind è difficile giocare in inferiorità di Speed contro questo team soprattutto nei Mirror Flynn cialando dovuto al Fake Out e arriva l'Acrobatics vediamo il danno perché questo Rory Moon è davvero cippato ma basterà in virtù appunto della Terra e della mossa bustata direi che comunque qui Rory Moon il suo l'aveva fatto quindi da un free switch in Tailwind appena messa che è veramente ottimo Itran sta bene però il problema è che se dietro il Signore ne ha separato il suo di Itran le dice di non capitalizzarlo troppo il problema è che non ha switch in sulla mossa acqua di questo Ogger Ponsu la slot è occupata ora da Bramaluna qui anche Terrando è buono perché si vai a raddoppiare l'altro stab vai a fare ingenti danni l'Andorus appunto può riciclarsi l'intimid con Uthurn ritornare nel back che rintimidire ancora una volta quel Bramaluna ruggente davanti che ancora continua a essere intimidito e anche droppato da breaking swipe quindi non è quella presenza offensiva su cui abbiamo imparato a conoscere esce Iron Hands entra Itran in quella slot full HP Itran che entra e Terra da parte di Oggerpon acqua di Cugna più uno in difesa speciale attivando alberga memorie e va a bustare il suo Evicagel sapatevi le orecchie perché qui mi sa che arriva un Evicagel pronto a scoppiare tutto attenzione protezione da parte di Ursaluna ma arriva lo Uthurn di Lando la prima Uthurn giusto momento di suspense per Signorena che ancora non sa qual è la slot su cui si andrà a infrangere con Evicagel ecco entra Itran che giustamente si mette in una comoda posizione perché ha appena protetto Rory Moon e qui parte Evicagel che tutti stavamo aspettando che tutti avevamo spirciato e prende in pieno Itran che bella arrivederci salute e grazie entra in campo per andare KO ti dirò di più togliersi Itran vuol dire che l'Itran di Cugna ha proprio carta bianca per fare quello che vuole con i suoi di Heat Wave adesso non deve più temere i Flash fare all'avversario e quindi qui può veramente spammare Ivy Cuzzle Heat Wave sotto Tailwind e quindi è una posizione veramente ottima invidiabile chiaramente c'è un fake out che può stallare può aiutare quindi non è finita però la posizione offensiva di Cugna qui è veramente bestiale vediamo se riuscirà a gestirla con un fake out ben assestato però fake out è uno flinci l'altro comunque un danno da una parte o dall'altra te la prendi chi sia Vic Cuzzle Heat Wave o l'Heart Power quindi stiamo attenti e parte il fake out di Iron Hands su Ogrefon giustamente va a fermare quella che è un po' la minaccia maggiore di Cugna ma l'Heart Power prende un'altra kill due turni due kill e l'abbiamo visto di rado all'interno del game 1 ma qui Cugna sta accelerando e accelera anche forte knockoff su un crit su un pokemon che aveva già perso il suo strumento quindi danno ridotto ma è ancora in campo sotto Tailwind davanti a Orlando Scarf che verrà outspeedato però dall'Hoggerpon sotto Tailwind che però è intimidito ma Lando non può proteggere quindi scusami un attimo può prendersi il bonk penso vi si e allora vediamo cosa succede perché parte Livy Cajal parte il bonk acqua di Ogrefon sul Lando e tre turni tre kill con il crit a condire il tutto e Cugna si porta in un tre contro uno contro il solo povero Rory Moon ormai ancora credo a meno tre ha un altro crit piovono scritte arancioni danza danza purtroppo sulla tomba di Ullandoros suo compagno che non potrà più fare compagnia nonostante termini la Tailwind ora Cugna basta premere le mostre può provare di nuovo a portarsela a casa questo 2 a 0 arriva l'acrobatics non basterà nemmeno a prendere la Kill in virtù della mezzeria erba persa per la terra cristallizzazione e un'altra volta è un altro bonk è il bonk del portogallo è un altro crit e va bene così e va bene così voglio mettermi a piangere quanto cavolo è forte Cugna ma non è possibile e va bene così e va bene ascolta Game 1 ha fatto una Kill tre turni di repositioning una Kill tre turni una Kill tre turni che ha fatto Kill 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 basta finito partita GG io da grande voglio essere come Cugna tutti vorremmo essere come Cugna è veramente fenomenale anche proprio la gestione della Vest of 3 in toto perché comunque questo cambio di approccio è stato veramente anche la chiave per chiudere la partita in una maniera un po' più pulita rispetto a come è fatto nel Game 1 dove ha dovuto committare un po' su alcuni turni ben assestati qui questo Roaring pronto comunque a cippare a dare fastidio al team ad abbassare l'attacco a contenere i danni e poi a mettere la Tailwind proprio al momento giusto il turno in cui l'avversario ha dato free switch e lì a quel punto è arrivato Oghepon che ha killato il litro trannettrante a quel punto era veramente chiusa quindi plan perfetto da best of 3 perfetta ma non solo è andato a gestire ogni momento della partita esattamente nel suo completo interesse perché quel Roaring Moon a fine partita ha chiuso comunque il game a meno due sì quindi giocare i paradossi soprattutto quando hanno il booster energy in questi matchup di switch in e switch out è difficile Cugn è stato il primo Pokemon che ha traddato è stato proprio quel Roaring Moon perché sapeva che tanto una volta switchato perde il suo potenziale perché non ha più quel boost in speed nel suo caso o quel boost in attacco nel caso del Roaring Moon di Signorena Cugn è cosa ha fatto ha paralizzato quella slot l'ha costantemente tenuta o sotto breaking swipe o sotto intimidate senza poterla mai farla switchare comodamente perché ogni volta che switchi dici vabbè ok rientro però non ho più il booster sto sotto rispetto a quello quei danni che dovrei fare non li faccio quella velocità che dovrei avere non ce l'ho più quindi se l'ha giocata bene ha traddato subito Roaring Moon per potersi giocare un po' più tranquilli senza avere il peso morto di un Roaring Moon senza avere più la speed e ha giocato in modo perfetto sì no no c'è veramente nulla da dire non li puoi ricriminare verso un turno anzi puoi solo toglierti il cappello e alzi la sua presenza è veramente una di quelle partite che deve essere insegnata nelle scuole a proposito forse a natarla si può discutere perché è veramente una di quelle partite dove la gestione è stata perfetta ma non proprio nei singoli turni proprio è una versione lungimirante nella totalità della partita nel perseguire le wincon nel capire la posizione nel capire quando premere sull'acceleratore nel capire quando essere conservativi nella lettura dell'avversario veramente totale tra l'altro Signoreno non è che ha giocato male non è che stiamo dicendo signoreno ha giocato un'ottima partita ma si è perso a un certo punto dopo tanti ottimi turni soprattutto nel game 1 nel game 2 a un certo punto ha vacillato e quando tentenni nel senso quando quando arrivi il punto in cui sei indeciso su cosa fare e scegli la giocata conservativa e Cugna annusa la paura la giocata conservativa lo sente nell'aria la giocata conservativa è pronto arriva alla giugulare e poi staccatelo esatto ce l'hai attaccato qui che ti morde e poi non ti lascia più non aspetta altro Cugna e lì che ti gira le torre poi appena senti la debolezza attacca e ti prende è davvero impressionante ha giocato preciso e perfetto ha rischiato due turni in cui in quei due turni in realtà non ha rischiato niente ha fatto due giocate iperaggressive come quelli V. Cagel nella slot comunque di un Iron Heads in cui è entrato Ytran e prima ancora quel drain punch nella slot di Lando quando il turno prima lui stesso aveva messo Ytran su Lando per tankarsi Votswitch è stato è stato fenomenale è stato perfetto e ha giocato aggressivo due turn in due partite che saranno durate in tutto 25 30 quasi turni ha giocato due turni aggressivi due turni ha vinto la partita nei turni che servivano quindi ma io ti dico che sai cosa voglio sentire voglio sentire lui che me lo spiega voglio sentire Cugna prego all'intervista a I gotta talk about that game too because right near the end there was the critical hit ma la survival. Do you think that was critical to that match or do you think he had it in the bag regardless? I feel like at that point I had a really good shot at winning and it didn't change too much. It ultimately came down to whether or not he'd get a critical hit on me later on with the Roaring Moon. I wasn't very concerned with losing Heatran. I feel like as long as I had my Landris at the same time as their Landris, I would just be able to Ivey Cuddle Rock Slide and put myself in a good position. Obviously the odds were better if I wasn't KO'd that turn because I wouldn't have to hit Rock Slides. I'd have to fear the crits as much but in the end yeah I feel like I was in a positive position and just glad that Heatran made it even stronger of a position. It never hurts to just have it in the bag earlier on that's for sure. I know you don't look too far ahead you take it one round at a time but I'm curious too of your thoughts of the metagame that's kind of shaking up and how you thought about that with the team that you've brought to this event. So I was expecting a lot more Goldingo. I faced a few but not as much as I was expecting. I mean to be fair it is a very small sample size so far. It's six rounds and looking at what other people are using I mean we saw Goldingo mirror in the first round of stream I think. So it was just about what I was expecting. I feel like the kind of Roaring Moon that I'm using has become like I've seen a huge peak in usage especially after Jamie Boyd's performance with it. I think it really allowed us to all see how you know Roaring Moon can be a really good Tailwind user and not need that much attack as long as he dash lock off or breaking swipe. And I felt like everyone kind of you know acknowledged that discovery from Jamie Boyd. I was like yeah this makes a lot of sense I'm just going to put it on my team. And I felt I feel like the prediction is kind of right. Not only am I using it I feel like I've seen a lot of people using it even though I haven't faced it myself. But yeah I think it's just about what what I was expecting. A lot less Ogre Pond but still like not as gone as Toronto Day 2. So you know I've been facing some Ogre Pond not that much. So yeah just about just about what I was expecting for the world. The world not just necessarily what I'm facing but from what I've seen around it feels like it wasn't what I was expecting. That's always good not being too caught off guard headed into event. And you gave some good advice at the beginning of the interview which was kind of take it one round at a time. You're obviously a very accomplished trainer, world champion, any other useful tidbits of advice for anyone who's looking to try and compete maybe at the same level? Yeah I think the best thing you can do is really just play the game because you love it and not because you're trying to get accomplishments to show other people that you're good. Yeah it's fine to have the motivation to to do great things just do it for yourself not for others. And honestly just like appreciate the friends that you make throughout the tournament experiences because that's what you really take out of that's the most that you're going to take out of this experience. Obviously there are things you take out of it but the friends just make it all so special. That's very very well said. And on the topic of friends before I let you go do you have any any final shout outs? Yes thank you very much. Obviously a very special shout out to Katarina, my girlfriend. I love you Amut. Thank you so much for you know honestly I think the big reason why I have such a strong mentality lately is just because of how she helps me prepare and see the world in general. Because Pokemon is not just the game that we see. A lot of the mentality aspect comes from other life aspects that you can learn from as well. So you'd shout out to her to my mom of course as I always shout out to Andre Fumitu who has been and his entire family for being a fantastic host and all my friends have been helping me. Gazpacho, Bojama, the Portuguese crew thank you all so much and yeah thank you thank you very much. Of course best of luck take it one round at a time hopefully see you in day two. As for us it's time to head back to our casters to start getting ready for our next round. As for us. Sempre carino Cugna che saluta la 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 famiglia in più l'ha detto la mentalità fa tanto in questo gioco Già. Aiutato da dalla sua ormai storica ragazzi in più ruba da chi ruba ruba da Jamie Boyd e beh rubare da Jamie Boyd non è facile prendere in prestito idee di Jamie Boyd e inserirle nei propri team non è la cosa più facile del mondo eh Anzi anzi devi davvero organizzarti bene perché i team di Boyd spesso sono quei castelli messi proprio con le carte sono bellissime ma se togli un pezzo crollano però è difficile metterci mano quindi Cugna è riuscito un po' a a smanettarci no con i pezzi del castello di di Boyd. Gran partita e l'ha detto la mental l'attitude già sapeva quale poco non poteva traddare sapeva che poteva traddare quell'Itran e era confidente nel dire posso lasciare andare Itran tanto sia Orlando e Oggerpone insieme in late game ho vinto. Esatto. Quindi ha giocato una partita sapendo quali erano le pedine sacrificabili e quali no e tenendola nascosta dal suo avversario e quando fai questo gioco e sai giocare queste partite difficili di stall e repositioning arrivi a fine partita che o hai giocato come volevi o il tuo avversario ha giocato come volevi te oppure è sfociato in una gara di cazzotti e nella gara di cazzotti tendenzialmente Oggerpone mi hanno sempre detto che sotto Tailwind può fare abbastanza bene anche perché soprattutto se quello water è già contro Itran e Lando direi che in Tailwind sta messo bene. Poi un'altra cosa fondamentale è la lettura del meta detto che si è trovato per ora quello che più o meno comunque si aspettava di trovare quindi ecco un'altra capacità fondamentale per i giocatori di competitivo è anche leggere il meta e leggere il meta che ci si aspetta di trovare in un determinato torneo e quindi di prepararsi verso determinate cose e chiaramente per team che hanno una composizione così bilanciata e strutturata trovare i plan e studiarseli contro tutti quegli archetipi che ci si aspetta di trovare poi fa la differenza ed è proprio quello che dà la solidità nel governare un team e si è visto pienamente alla perfezione in questo match in streaming quindi veramente complimenti a lui anche proprio per la lettura che finora ha fatto bene Cugna ha giocato una una gran partita ma dato che tutti vi state facendo in chat la stessa e unica domanda dov'è dov'è la maglia di Cugna? Io do la linea al cauci perché ha la risposta per voi signori una maglia maglia siamo qui per quella sei sempre il solito veramente c'è doveva 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 portarla Cugna l'hai rubata tu vabbè hai visto Cugna è grande oggi e quindi porta avanti la skill piuttosto che la maglietta grande grande aggiunta al team acqua quindi fa parte della nostra scena competitiva anche se ovviamente la bandiera è quella portoghese posso lanciare una provocazione a tutti i presenti? Provocami è cominciato l'internazionale eh sì finalmente è la l'ora non scherzo è cominciato l'internazionale io e il Pardo eravamo dietro le quinte a gustarci la prima vera partita di questa giornata mi dispiace che arrivi al sesto round che insomma è un po' tardi perché i round sono nove se non altro questo racconta come si diceva prima molto del livello del torneo che doveva scremare parecchio perché ha scremato per il 70% della competizione oggi però ora ci siamo arrivati non solo due cognomi segnoregna Cugna che risuonano e potrebbero tranquillamente colorare la tavolozza di un internazionale europeo ma anche delle giocate di spessore raga abbiamo visto tante predict da parte di Cugna abbiamo visto degli earth power tirati sulla slot di Landorus che se ne va in ingresso con Iron Hands abbiamo visto persino i caster sbagliare e voi mi direte ma quindi abbiamo fatto le cazzate? no semplicemente i caster stavano ragionando più lentamente di Cugna sentiamo a un certo punto Pietro che fa eh beh Cugna ha fatto U-turn in questo momento in queste situazioni due volte lo fa la terza no stomping tantrum su Iron Hands è in grado di andare a una velocità che è diversa dalla nostra infatti lui è lì e noi siamo qua a commentare per carità di Dio però questo ti mostra la bellezza il fascino della giocata competitiva ad alto livello e dimostra quello che dicevamo qualche ora fa puoi giocare safe finché non trovi l'altro gigante l'altro colosso quando trovi segnoregna non puoi fare paro paro jab devi fare la giocatona devi cominciare a piccare c'è stato un turno che è stato pornografico con Earth Power sulla slot di Iron Hands e prima c'era l'Andorus e dall'altra parte pure è arrivata una mossa era un dream punch sull'Andorus bravo e gli prendono una roba fuori di testa quindi dream punch sull'acciaio che invece sarebbe stato resistito dall'Andorus sono giocate come al solito che raccontano del confine labile tra stronzata e grande campione però sai statisticamente ti posso dire che l'abile se una volta la prendi e una volta non la prendi ma se sei cugne 15 le prendi e 0 le fallisci non è tanto labile quello non si sta parlando di statistica nel momento in cui le becchi tutte sarà una giocata 51% ma se le becchi tutte è player non è statistica scusami poi ti lascio parlare ma veramente ero con il pisello in mano prima mi ero levato le lente e ho detto riposo gli occhi 20 minuti mi metto un po' di legna a cacina andiamo Cugna signoriana bene guardiamo la partita adoro anche il linguaggio del corpo di Cugna che secondo me è più aggressivo di qualunque sorriso e esultanza Cugna è di ghiaccio ha fatto a un certo punto clava di liane acqua sulla slot di Itran con protezione dall'altra parte di Rory Moon che era volante quindi l'avrebbe potuta prendere e quel turno è durato tantissimo nella testa di signoregna perché Cugna era di roccia era di pietra non si era capito se avesse preso la slot della protect o no e secondo me è arrivato a essere sfinito alle sue predict ti fa più paura un avversario illegibile che un avversario che esulta un avversario che esulta magari ti nervosisce e ti fa anche venire quella voglia di adesso te la faccio io la predict invece Cugna è un sasso preme, clicca, lo guardi e dice boh avrà preso la protect o no non ne ho idea e quando ti arriva in faccia la kill è troppo tardi anche perché stiamo arrivando ad un punto della giornata dove lo stress inizia a farsi strada nella testa dei giocatori e quando stiamo parlando di giocate su slot così specifici sulle sostituzioni è normale pensare che avere anche quella freddezza pokeristica di giocare di marmo davanti al proprio avversario abbia su serie prolungate un impatto Paolus, prego, parte no, è stata una best of three secondo me che poi ci racconta anche che era un mirror certo un mirror pieno, sei sesti quindi anche lì è un dettaglio 5-6 si insomma non si vedeva nel momento in cui mi levavo le lenti mettevo le occhiali cioè comunque armi pari al di là dell'oggetto del boost in attacco di roaring boost in velocità dell'altro cioè ti dice che le predict fa strano cioè hai preso 2-0 il mirror cioè c'è poco stata fa brutto però di skip difference confronti signorena che comunque ricordiamo campione nazionale italiano 2016 peraltro quindi non lo sproviare non scappato di casa però c'è poco visto una solidità cioè secondo me la parola proprio cardine solidità safe e poi la fiammata il sapere quando spingere tornare nuovamente a rallentare dettare i ritmi della partita cioè queste sono le partite che in game 1 nei primi 5 turni si era visto una cosa come 3 U-turn e Valswich cioè questo è il competitivo banalmente mi piacerebbe poi passare la palla a Roberto per capire un attimo cosa ci aspetta nel round successivo anche perché se la memoria non mi inganna abbiamo ancora degli italiani sullo X-0 lascio poi a te la parola e quindi potrebbero forse farci vedere non solo il primo italiano della giornata ma anche un italiano che fa la win-in che va sul 7-0 e può solo fare meglio di così ma è già con i piedi dei due allora da questo punto di vista non sappiamo cosa ci aspettano il prossimo round perché abbiamo ancora due tavoli che stanno giocando prima dei pairing chiusa sul 2-0 però devo dire che ci poteva stare prima qui la partita è andata avanti un po' a lungo ma ancora qualche strascico ce lo portiamo abbiamo notizie di cronaca ovviamente nazionale perché abbiamo la cronaca nera allora anche purtroppo anche passiamo in prima dalle notizie più felici abbiamo Silva che conferma il 6-0 quindi Silva contro Zarzan conferma il 6-0 contro Tarzan non propriamente lui ma comunque un parente ha cominciato a giocare competitivo Cognetta non farò battuto sul fatto non farò battuto sul fatto che dalle prime quattro round che abbiamo visto tutto sommato se ci mettevi Tarzan andava uguale però Cognetta vince contro Gomez 5-1 per lui conferma il 5-1 anche Tarlao però in seguito ad una sconfitta per mano di Rios che va quindi al 6-0 purtroppo invece si passa le notizie di cronaca nera per quanto riguarda Marras che sul 3-3 ha lottato per la sua vita ha lottato per la sua vita fino all'ultimo ma ci saluta ci saluta sul 3-3 come potete vedere anche la classifica per mano di Rogerio Cattel ok e non lo conosco nessuno a giudicare da nome e cognome dovrebbe essere di Bergamo Bergamo alta però se ne sbaglio BR è Bergamo si si allora confermo Rogerio Cattel di Bergan de Supra purtroppo elimina il buon Marras oh ragazzi Javier Valdés sul 3-3 e peraltro gioca in casa perché insomma è il cileno Valdés comunque in Sud America no l'internazionale è il suo di pertinenza però guarda come si sta strutturando una piramide di tutt'altro base power nel day 2 potrebbero esserci Tarlao Silva Cognetta Lara Gomez Barisakos giocatore tedesco presente attualmente in top europea Carzon Confer Ciuppa che insomma arriva in finale praticamente tutti gli internazionali intendo nella fase finale Gomez bravissimo Cugna ovviamente segnoregna che ok ha perso ora contro Cugna ma è comunque il giocatore che ti può rivoltare anche un eventuale top no no lui serenamente potrebbe becca ancora in gara Evans ancora in gara Castiglia ancora in gara Ugarte 5-1 solidissimo Nick Navarra 4-1 Metti Morgan ci saluta credibilmente Stefan Mott Mufti che non conosco invece Reliefattura Reliefattura freschissimo di grande risultato al sacramento seconda posizione se la memoria è il gioco dei preferiti per razza Fattura giustamente Tonberg altro grande nome altisonante Victor Medina sul 6-0 con Ruiz il 6-0 prego ti lascio la parola vorrei aggiornare sui 6-0 perché abbiamo parlato di Rios che si porta a casa contro il connazionale il 6-0 abbiamo appena visto il 6-0 portato a casa da Cugna ma abbiamo Ruiz Lattanzi Silva Medina che si confermano quindi tra l'altro con doppia spagna sul 6-0 tra Rios e Medina abbiamo Silva come unico rappresentante nazionale abbiamo Cugna che comunque sotto bandiera portoghese ma comunque sappiamo essere no è Pt e Pistoia ah scusa l'avevo confusa perché qui si vede Pt mi ha detto Pt mi ha suggerito Piatro è Pistoia ok perché BG e Bergamo BR e Bergamo Pt e Pistoia S e Scavalier sì vabbè bravissimo provincia italiana di Scavalier e Spargarò va bene un letto inizio anche per questo torneo dunque perché stiamo vedendo grandi titani sconfiggere giocatori un po' più inesperti però si sta delineando piano piano un fiume che va verso una piena i nomi che ti aspetti poi chiaro qualcuno lo perdi per strada è fisiologico però i nomi che ti aspetti facciano bene anche Giulia Tala ho visto 5-1 insomma che devono far bene diciamo all'80% si stanno confermando e è sintomo anche di un metagame che tutto sommato è meritocratico hai ragione vero un andamento contrario statisticamente rispetto al mondiale al mondiale tanti nomi altisonanti quasi tutti caduti verso la metà del day 2 del mondiale in Giappone intendo e nomi nuovi che sono emersi pensa anche solo alla finale con Derbester che non avevamo mai visto sotto i riflettori qui un po' il contrario stiamo vedendo tanti nomi nuovi del quale comunque sentiremo parlare per una decade se ciò però vero certo ma molto bravo e quindi nulla dicevo al contrario qui tanti nomi nuovi ma che piano piano lasciano il posto ai grandi nomi e cognomi altisonanti del VGC che sembrano incanalarsi verso un dei due poi magari tra 3 round la fotografia è completamente diversa ne mancano ancora 3 7, 8 e 9 però anche lì abbiamo visto un cambiamento di tendenze a livello di gameplay abbastanza netto e qui parlo un attimino da profano perché è anche bello avere questa mia prima partecipazione perché il mio punto di vista è ovviamente quello di una persona che vive questo livello di gioco per la prima volta sulla sua pelle da questo lato e devo dire che anche da occhi più profani il cambiamento di percezione su come vengono risolti i mirror match al round 2 rispetto al round 6 è una bella fetta di differenza non vai a risolvere il mirror match sul double flinch double miss vai a risolvere il mirror match perché sai leggere bene gli slot perché sai switchare bene e l'abbiamo visto finalmente adesso dopo che abbiamo avuto modo di discutere del più e del meno riguardo le partite precedenti se ti guardi l'europeo succede a round 1 infatti abbiamo parlato prima anche con Pietro riguardo le aspettative del primo grande match ovvero un match tra europei abbiamo avuto Spagna contro Portogallo abbiamo avuto quella che abbiamo definito la prima ufficiale partita degna di questo nome in streaming non per fare i suprematisti del progetto europeo però ce n'è come fra mangiare stare a guardare cioè noi questa stagione ad esempio abbiamo commentato sul mio canale il giornale di Barcellona lo special lo special di Barcellona e abbiamo avuto anche la fortuna che abbiamo avuto tutti i round in streaming italiano del primo all'ultimo una roba folle ma perché ce n'era tanti e vincevano e non abbiamo avuto una partita da round 1 alla finale noiosa brutta una no un mese dopo abbiamo commentato il giornale di Peoria e lì un po' come oggi si è cominciato a vedere purtroppo belle partite da quinto o sesto d'anno ah pensa un po' cioè proprio è abbastanza sintomatico in Europa c'è molta più qualità è un po' come guardare una partita di Liga o di Premier League o di Serie A oppure di vedere una partita magari di qualche campionato non ce ne vogliono minore non c'è niente di male ecco però piano piano comunque si sta internazionalizzando dai il competitivo ci sono anche sempre più esponenti di altri continenti però comunque un tavolo stiamo aspettando un tavolo per avere il trading che magari sono sei capito sono due tre tutti e due cioè capisci un tavolo in questo momento tra Telmo Junior e Ami Mores non so chi siano ecco scusami al di là di tutto questo risultati classifiche un aggiornamento devi dare come sta Italo andiamo subito da Italo Italo purtroppo se non sbaglio eravamo sull'orlo del sacrificarlo del salutarlo quindi vediamo un attimino lo vado a recuperare io se Massuca basta troppo Massuco perché se lo dice da solo è fondamentale vediamo eh suspense io non fiato cioè il cognome riflette effettivamente la prestazione secondo me oppure metti le mani avanti signori Italo Massuco entra al torneo parte con una sconfitta la tensione è alta sullo 0-1 però la voglia di competere prende possesso del suo corpo all'improvviso quello che era uomo diventa macchina all'improvviso diventa Italo perché abbiamo Wesley Enrique Almeida Silva quindi parente immagino anche lui di Bergamo sì che purtroppo mette un freno a questo impeto questo treno ferroviario del nostro bene amato ci si gioca il tutto per tutto siamo sul 3-2 una sconfitta sarebbe fatale e quella sconfitta per mano di Bruno Cotrim arriva no Italo è fuori quindi Italo 3-3 Italo 3-3 dannazione per me non esiste più religione a questo punto e non rimborsano neanche i biglietti ce l'aveva detto eh ce l'aveva detto Italo ma succo eh Italo nel senso che parte come un treno ma succo e quindi andata così ragazzi però ci rifaremo con altri tornei che pensa questo cristiano se qualcuno gli dice di guardare lo stream italiano ti vogliamo bene Italo ti vogliamo bene ti abbiamo adottato un pochettino alla fine dovremmo avere i pairings dovremmo finalmente avere i pairings per la prossima fase intanto vi do un trivia Sekiam che è tornato in grande pompa magna perché ha fatto quarto posto se non sbaglio a Lille l'ho ritrovato ai Twitch Rivals di quest'anno a luglio ho giocato contro di lui a Four Guys pensate un po' agli europei di Four Guys di Twitch io ho giocato contro Sekiam e avviso la regia che è arrivato in visola cantonese prego Silva è arrivato in visola cantonese e ha molta fretta di consegnare vedo di che ha suonato già due cose beh quantomeno questo giro ha suonato Italo direttamente anche qui abbiamo un altro Italo che però allora Silva tavolo 2 contro Medina Silva Medina se non ce la fanno verè Italia Spagna quindi godo perché sono tra le migliori però non so se dopo l'hanno mandato Spagna Portogallo rimandano Italia non puoi non mandare Medina Silva sono adesso ma perché Spagna Portogallo è l'Atanzi Rios li abbiamo già mandati entrambi opposto quindi c'è l'Atanzi Rios è l'Atanzi Rios Spagna Portogallo per il 6-0 e abbiamo già mandati entrambi quindi direi che le porte sono abbastanza aperte perché l'altro 6-0 arriva con Cugna contro Ruiz anche lì sono già andati e non si può fare dai via ha senso per tanti motivi Victor Medina e Silva sono tra i migliori giocatori europei e questo è il primo motivo il secondo motivo è che l'Italia non è mandato di streaming il terzo motivo è che sono entrambi ora in top 16 europea quindi non ha senso non mandarli sinceramente arrivere a questo punto la speranza è quella può essere però mi ero preoccupato un attimo avevo visto un Silva un po' più in basso è sempre il parente quindi non Marco Hermanitas sappiamo ci pensi che Marco Silva e Mago Silvan sono simili come suoni narrativamente questa cosa come si colloca nella serata che Marco è un prestigiatore fa sparire le sconfitte e tiene solo le vittorie mi piace mi piace ha senso è convincente c'è nel senso se me la racconti così effettivamente parlavo li sto recuperando adesso strada facendo abbiamo prima Cognetta contro Fattura attenzione top 16 americana intanto guarda là Fattura ha fatto seconda posizione probabilmente con i local ha fatto quanto fa strano non vedere il nome di Wolfie è vero che solitamente in questo momento almeno della season è o primo o quasi top 8 qua abbiamo quasi tutti i nomi che conosciamo Justin Tang leggermente più in basso rispetto all'anno scorso che invece l'aveva visto partire col fuoco Pol Chua Michael Zeng che è fresco di vittoria di Sacramento giusto Killam Van Severin diciamo l'intruso nuovo nuovo una domanda dopo Leonard Craft terzo arriva World of Leonard Craft no arriva Ciuppa Cross quarto ah ok pensavo fosse tipo Power Rangers ah ok sono già in ordine fabbricati per competere ha senso ha senso mi chiedevi di Tarlao e contro Lara ok quindi abbiamo Tarlao contro Lara su 5-1 ma fattibile secondo me dice fattibile vince anche perché non ho visto un Lara convincente ha ragione si è attitubato così tanto contro il suo avversario non ricordo chi fosse come Tarlao se lo può se lo può diciamo cucinare non conosciamo ancora il team di nessuno dei nostri commeditoni porca miseria eh no ci auguriamo di vederli di vederli quantomeno Marco contro contro Torviv contro Victor Medina il nickname di Victor che è Torviv tra l'altro appare come Torviv anche nella classifica play pokemon tu puoi scegliere di farti presentare nella classifica pubblica o col nickname o col nome stiamo a vedere un po' cosa accade in questo settimo round incrocio le dita per un italiano intanto ci fanno vedere anche la top play europea molto meglio la nostra a livello grafico mi permetto e abbiamo Marco Marras con 430 punti che però tali rimarranno perché con 3-3 non credo che raggiungerà la top 128 ma potrebbe andare in realtà 6-3 sereno a dici se va avanti 6-3 hai ragione era anche 3-0 no no che ho detto era 1-2 era 1-3 e poi si è ripreso non ce la può fare però deve vincere questo deve fare e contro Renzo Lucas Hernandez cileno ok qui abbiamo Barisakos che chiude la classifica ovviamente la chiusura a 22 player perché al 22esimo si esaurisce l'ultimo posto per l'invitation in tier 2 guardate Victor Medina diciassettesima posizione e poi abbiamo Marco Silva adesso mi sta sfruggendo eccola settimo quindi insomma ha senso ha super senso metterli l'uno contro l'altro in streaming per troppi motivi Marco Silva e Victor Medina che visto il result secondo me se ne torneranno a casa come va va con un bel bottino si 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 e gli darà un ulteriore boost per poi avere stipend insomma snobollare per la season e qui top players K-region e infatti ecco qua i migliori Latam il Latam top 8 Latam top 4 Oceania ah è vero c'è anche l'Oceania hai ragione beh Megan Rattel riconferma l'ennesima stagione da sovrana dell'Australia con l'uscita poi non vedo i Cannes gli Amedy è vero i Cannes non ci sono e solitamente invece entrambi i fratelli fanno bene Christopher e Nicolas la memoria non mi il Calcane esatto porca miseria ragazzi Paul Ruiz e Juan Salerno fanno gran bei punti sono già invitati al mondiale col tier 3 e in realtà se mantengono questo andamento a livello di ritmo col tier 3 eh perdonami col tier 1 perché in questo momento sono in top 16 stiamo ancora attendendo però questa benedetta partita uno streaming dal ritmo non pensavo fosse possibile peggiore rispetto a quello giapponese non voglio lodare Europa e America però lo devo fare e quindi Europa e America gestiscono i tornei in tutt'altro modo sono contentissimo che i mondiali siano alle Hawaii perché posso mettere la mano sul fuoco sul fatto che la gestione dovrebbe essere abbastanza snella mentre qui ragazzi siamo alle 9 e un quarto e deve partire il round 7 ma non solo ce ne rendiamo conto dalla diluizione dei cauci i cauci non durano mai così tanto a volte avevamo difficoltà in alcuni internazionali a di qualcosa nel cauci che subito dovevamo sfrecciare al tavolo invece si è più a parlare da un botto ci fa piacere però ci rendiamo conto che per una cadenza giusta ci utilizziamo come cartina tornasole della situazione live ma dalle mie parti è un ma è anche il day 1 quindi è il primo internazionale dell'anno è il day 1 del primo internazionale no ma ovviamente domani hai ragionissimo roberto saranno meno sarà anche più facile non ci sarà da aspettare il tavolo 362 tra l'altro ho visto tante questioni di disconnessione attorno al round 3 4 ho visto stavo seguendo un attimino i nostri highlight su twitter su x ed effettivamente ci sono state delle segnalazioni simili quindi immagino che come abbiamo avuto modo di vedere in live ci siano stati anche dei casi in cui si è dovuti ripartire da capo si è andato a impiegare tantissimo tempo sulla pausa al round 3 quindi ci sono state anche delle tempistiche obbligate da fattori esterni che hanno poi forzato una situazione del genere domanda pazzedella tu che sei esperto in internazionali giocati e non vissuti dei role quinte come vi fanno a connettere? con una connessione LAN o con il wireless? no no tutte LAN ci sono i dock cablati con cavi Ethernet e quindi c'è una connessione LAN interna cablata tra switch tu metti la switch nel dock e ti colleghi come per andare su internet ma la switch non va su internet va sulla rete poi devi creare una cerchia quindi potrebbero esserci problemi in venue allora onestamente la switch non è che dia sti grandi sti grandi problemi devi mettere delle impostazioni particolari quelle debug con i tasti che devono far loro intendi? no 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 proprio devi mettere le impostazioni al momento prima di round 1 sulla switch come un IP specifico finché tu appunto sia tutto a norma per quanto riguarda la cablatura potrebbero essere problemi in sede semplicemente perché hanno impostato male la rete locale e non gliela riconosce ogni tanto potrebbero anche esserci problemi a tavoli di persone che magari sono al primo torneo e sono come a Vezzi non hanno fatto o pensano di averlo fatto invece non hanno fatto le impostazioni più giuste così come ci possono essere problemi effettivi magari un collegamento un cavo non messo bene un dock non funzionante perché sono tutti i dock che finito il suo torneo viaggiano ti blocco subito viene confermato silvain streaming godo finalmente abbiamo buone notizie signori viene confermato silvain streaming arriva questa meravigliosa novella dalla regia direttamente quindi abbiamo anche la conferma di un match non solo bello da vedere ma anche emotivamente molto importante per quello che si porta con sé allora facciamo una posa per i social così i mod spameranno ovunque il fatto che si gioca italia spagna fammi una faccia d'italia spagna ok ti faccio una faccia d'italia spagna fammi una faccia 3 2 1 facciamo finta che non sia mai successo è veramente di un cringe allucinante no è importante perché così avvisiamo tutti che l'italia c'è esiste in questo torneo visto che qualcuno potrebbe aver detto vabbè oggi io alludevo al toro in caso non fosse sì l'avevo capito non pensavo tu stessi citando Eddie di Stranger Things però va bene anche così finalmente l'italia spagna finalmente un altro match iper qualitativo che mi aspetto fa c'è pochi d'artificio come precedente finalmente vediamo Marco Silva che è la nostra bestiaccia sul 6-0 vediamo il suo team vediamo il team di Medina e vediamo bellissima questa cosa chi dei due si porta a casa il dei due ah ho la febbre ma sono simpatico lo stesso se andiamo via non nel senso soffende qualcuno soffende qualcuno non credo regge possiamo avere uno zoom sulla faccia di fra e noi ce ne andiamo ogni tanto comuniceremo con versi culturali dall'altra stanza queste persone non mi capiscono non va bene però però effettivamente qui si parla si parla effettivamente di vittoria si parla effettivamente di una vittoria per un 7-0 molto importante si parla di un 7-0 da qualifica ma abbiamo già parlato di come un 7-0 non sia un'assicurazione così grande perché arrivare al dei due con un 7-2 sul groppone pesa no in un'ottica di pensare in grande e quindi di a questo punto pensare anche di potercela fare per il dei due un conto è fare 7-2 un conto è fare 8-1 un conto è fare 9-0 è quasi scontato dirlo però lo diciamo per chi magari non fosse avvezzo a tornei competitivi Pokémon al dei due si mantiene il punteggio il giorno prima quindi ci si presenta con la possibilità di poter banalmente perdere più partite al fine di poi di poter raggiungere la top 8 e poi di costruire un tabellone tegnistico chiedono se a fine live i calzini verranno messi in vendita si certo ma a un prezzo ridicolo cioè vogliamo che venga premiata la velocità e non il wallet warrior ok ok mi piace quindi saranno tipo un paio d'euro a calzino con lo sconto 3 euro entrambi i calzini il più veloce vince un calzino costerà più dell'altro si c'è un calzino in realtà che costa 2,50 euro e l'altro solo 50 centesimi solo 1,50 euro il calzino insieme il calzino di resta costerà meno perché come potete vedere quello di sinistra tocca più il terreno più di Cydonia tra l'altro vi racconto la storia di questi calzini questi calzini fanno parte di un cazzo di niente perché noi vogliamo all'interno del caster splendida storia splendida storia e ci prepariamo a questo punto per quello che è il settimo round di Svizzera abbiamo Marco Silva versus Victor Medina i nostri caster si stanno preparando si stanno incipriando si stanno imbellettando e a questo punto passiamo la parola direttamente al caster desk per questo round 7 amici artigiani della godità vediamo subito in sovrimpressione il team di Marco Silva sul 6-0 il nostro gladiatore tricolore con Amungus Tornados e la sua Tailwind Ironhands Arcanine di Isui Goldengo e Urshifu Acqua gli oggetti sono una Citrusa un Rocky Helmet Assault Vest Choice Band gli avanzi classici per Goldengo e la Mystic Water altrettanto classica vediamo poi una Terafei su Arcanine potrebbe essere utile successivamente da quest'altra parte abbiamo dei commilitoni molto simili ancora una volta Urshifu Rapid Strike con Mystic Water è proprio disambito Isuyan Arcanine che però monta la Tera normale per potenziare gli Extreme Speed e mettere sotto scacco i Cippati di cui sopra nel round precedentemente commentato insieme Rillaboom Ghost anti-fakeout Fluttermane Booster con la Terafeiri e poi abbiamo visto un Cienpao che è praticamente una delle poche rovine ad essere sopravvissute perché WoCN non è mai entrato in gara Team Gloos è fatto la Regulation C è arrivato Cifu e sono arrivati gli erba Ciaone e poi si è elevato Ciu Ciu C'è ma non quanto Cienpao Cienpao sta dominando alla fine abbiamo avuto ragione le disgrazie dell'attacco hanno vinto hanno vinto statisticamente come era anche prevedibile specialmente con l'iniezione di Pokemon Home che ha buttato dentro un Cifu e che quindi sposa benissimo non solo in non proteggere il Crittare ma anche una bestia come Cienpao che anche tipologicamente ben sposa ma siamo in partita Amici tutti quanti in piedi sul divano sulle sedie dove me pare a voi perché Italia Spagna colora questo round 7 dobbiamo vincere per garantire l'ingresso di Marco Silva Arcanine mano ferrea da una parte Urshifu Tornatus dall'altra Urshifu intimidito da Arcanine di Isui ma i pugni del Surgo attraversano anche i meno uno è qui una lead buona per certi versi da una parte e dall'altra perché comunque abbiamo un Enz che non sta affatto male contro Tornatus Urshifu dall'altra un Urshifu che fa bene contro Arcanine però appunto potrebbe stare sotto il fake out e qui infatti Victor decide di togliere Tornatus e inserire Rillaboom Rillaboom mette sotto i piedi di tutti quanti gli altri in gara un bel campo erboso individua per non prendere danni fake out che si infrange proprio sugli esagoni a protezione dell'Urshifu un nemico e poi Rockslide che colpisce la protect e hitta l'altra slot un buon danno signori è cibi sì sì è choice band quindi band a scelta attacco aumentato dell'1,5 motivo per il quale comunque un Pokémon con una buona resilienza fisica quale Rillaboom si prende un 35% adesso però è Victor Medina che può usufruire di Bruciapello di Rillaboom del batterista regalandosi anche Momentum con un Urshifu pronto a questo punto a poter dire la Sula e magari andare anche a forzare una terra cristallizzazione di Arcanine pena altrimenti un dannato la frana colpisce entrambi dobbiamo ballare la danza del flinch che però non riesce a macumbare Rillaboom U-turn colpo e ci si riposiziona dai 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 con questo ballo del flinch Arcanine entra in campo a intimidire le slot ambedue fisiche di Marco Silva gran giocata dicevi per questo bello rock slide surging strikes parte signori e Arcanine muore in un solo colpo per i meno a detti i lavori ricordo che il crit è garantito quindi la fortuna non è dalla parte di nessuno in questo momento guardiamo qui però cosa farà Iron Hands che tira un wild charge dritto per dritto che in virtù dell'intimidate di Arcanine Bisui non coglie il KO su un Pokémon che ricordiamolo comunque ha un'ottima difesa fisica va bene si però comunque è un bel danno sul Shifu assolutamente purtroppo non c'è Arcanine con la CB a chiudere queste pratiche lasciate aperte ma a vita gialla abbiamo però un Urshifu abbiamo un Urshifu con la possibilità di poter quindi spaventare a questo giro lato Marco Siva l'Arcanine di Victor Medina un Rilabum che potrebbe rientrare ma che non avendo fatto fake out ha preso quella frana e quindi è in range anche di un altro surging di Urshifu qualora peraltro dovesse anche scegliere di tracristallizzare insomma un turno secondo me molto importante questo è il turno che decreterà chi si porta a casa questo Game 1 qui si dà la spallata decisiva mi piacciono tantissimo questi turni decisivi che svoltano la partita da una parte o dall'altra a seconda delle scelte dei giocatori Arcanine torna indietro per Tornadus Surging Strikes colpisce e affonda la slot di Urshifu oddio aspetta deve rollare bene dovrebbe venire giù rolla bene sì 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 arrivederci e grazie a Urshifu che non può continuare la sua killing spree di pugnazzi e qua a seguire un bel vol switch che pesca il dannetto e soprattutto garantisce riposizionamento dell'ultimo Pokémon di Marco Silva ancora non è entrato in gara ovvero Tornadus quindi non si gioca a Tailwind spaiate entra un Tornadus da una parte ma subito fa lo stesso il giocatore italiano allora Tornadus da una parte Tornadus dall'altra come stavi suggerendo quindi possibilità di Tailwind da una parte e dall'altra con secondo me un Marco in vantaggio qui perché va bene c'è Rillabum però è un Rillabum più di là che di qua è un Rillabum che non può più incassare i colpi acqua dell'Ushifu di Marco e quindi un Rillabum che di fatto si può tirare Grassi Glide ma che comunque non riuscirà a scardinare l'Ushifu di Marco che peraltro può anche andarsene e far rientrare Iron Hands quindi Iron Hands qua dietro con un Rilla anche con quei PS attenzione però perché comunque dall'altra parte c'è un Victor Medina con il bottone sulla Switch capace di poter fare come tutti gli spagnoli lui soprattutto ha un modello particolare proprio un modello Medina con la possibilità un amico Victor ci mancherebbe di poter comunque anche lui fare delle ridi importanti qui esce infatti troppo importante Urshifu ed entra Manoferrea per non prendersi Grassi Glide in cassa il Grassi Glide Blinkwing Storm colpisce entrambi i Pokémon vediamo se arriva il drop per l'eventuale pareggio di Tailwind potrebbe essere importante Blinkwing Storm anche dall'altra parte Hit su ambedue le slot via Rillabum e Urshifu dietro se la ride sta cominciando a sfregare i pugnazzi bagnati per me questa è non di niente di niente è abbastanza fattibile intanto segnaliamo meno uno sulla slot dell'appena entrato Manoferrea che si è preso della Sea Glide può fare fake out o potrebbe cominciare a chiudere la partita con Wild Charge è a meno uno ma tornato sei di carta ti torna che possono ancora terracristallizzare ambedue? mi torna assolutamente non hanno ancora terracristallizzato nessuno ha terracristallizzato quindi qui la terracristall di Arknine è normale normale si è feri solo dalla parte di Silva quindi è una terracristall che peraltro non scongiura neanche la super efficacia di Drain Punch no vero o di close combat o di close combat quindi è difficile qui per Medina e la terraghost su Tornadus non serve a niente arriva il taunt però attenzione bello vediamo se c'è cascato provocazione Victor Medina prova a riprendere questa partita per i capelli e qui ce l'ha fatta il wind non parte Rock Slide hita la slot di Tornadus e lo manda a KO attenzione non deve flinciare non deve flinciare ma c'è il bottone impossibile balliamo la danza delle mani grosse sono grosse queste mani guarda quanto sono grosse sono come quelle di Macigno e sgretolano il cranio di Tornadus e lo riportano dentro Pokémon Home e ad Isui e le mani erano particolarmente grosse sono mani grosse per controllare il game per picchiare va bene allora e qui entra Urshifu ok ci sarà la terra ma insomma voglio dire loccato su Frana penso che Drain Punch più Surging o Close Combat meglio ancora perché così se terra normale è finita possa andare a regalarci un 1-0 per il nostro Marco Silva contro Victor Medina qui Terra Crystal di Arcanine per prendere meglio Drain Punch vuole proprio stare male Victor Medina questo è un Arachiri ho sbagliato tutto puniscimi guerriero giustamente provarci fino in fondo nonché guardare anche chi è più veloce fra Urshifu e Arca attenzione Rock Slide non muore Manoferrea qua è finita Close Combat si porta a casa il KO quindi 1-0 per Marco che è letteralmente a un game da il day 2 già vero sono d'accordo però un game molto bello con un ritmo a senso unico non è stato a senso unico è stato un bel shift è stato un bel game questa secondo me se l'è vinta Marco nel turno che lascia Arcanine in campo per fare frana per perderlo ma per fare un danno decisivo su Rillaboom che poi con Wild Charge a meno 1 di Iron Hands ti permette per esempio la kill su Tornadus non solo volevo arrivare al fatto che Rillaboom prendendo quella frana Choice Band rimanendo al 25% poi non sarebbe più più potuto entrare sui surging di di Urshifu hai ragione quindi di fatto a Marco bastava togliere l'Urshifu dai Glassy Glide e farlo fuori con un Black Queen Storm infatti morto Rillaboom la partita per me era finita ora che ci penso peraltro non era Tornadus ad averla presa in faccia probabilmente non ricordo se anche Tornadus era stato cippato no in quel turno lì Ainz ha fatto Wild Charge nella slot di Urshifu che ho detto no è una buona difesa e poi Urshifu è stato ucciso dal triple surging strike dell'Urshifu di Silva corretto esatto quindi lì secondo me con una buona rid perché avrebbe anche potuto prendere Fake Out più Surging ha avuto ha avuto un rischio si è preso un rischio e il rischio ha pagato diciamo che un game del genere richiede che le frane facciano un buon lavoro anche in game 2 se si ripete la stessa flowchart perché le frane hanno ittato non hanno generato tentennamenti incredibili però hanno colpito sempre in realtà tutti e due hanno colpito sempre anche con i Bleak Wind è andato bene sia l'attacco di Silva che l'attacco di Medina quindi un game che non ha fatto sconti a nessuno nel senso che ha fatto ittare tutte le mosse non dal 100% vediamo se sarà lo stesso in questo game 2 o se la fortuna aiuterà uno dei due sfidanti siamo a un game dal dei due Fluttermane protosintesi clorofiliana special attack stavolta non speed come per esempio abbiamo visto per i Roaring Moon lo special attack però va per la maggiore sui Fluttermane e qui entra in gioco un Fluttermane che non aveva fatto parte dell'equazione nel primo game lato Victor Medina vuole provare a scardinare quello che è stato l'elemento indubbiamente più rognoso per lui cioè mano ferrea paradossalmente perché è stato quel collante con bruciapelo e wild charge a destra e a manca capace di fare emergere gli altri suoi con militoni lo dicevi qualche round fa che Pokémon competitivo 2v2 non è un 4-1 contro 1 ma sinergia del gruppo e quindi godo nel vedere Pokémon utility a volte come Iron Hands che anche a meno 1 riescono a prendere il giusto tentennamento come in questo caso e permettere al compagno di pescare delle kill godifere Dazzling Glimm colpisce mano ferrea ma il colpetto assalto gli fa reggere il colpo anche dopo il booster anche dopo la terra fairy Arcanine flincia in virtù del oddio lo zuccone e smash e smash signori si spacca la terra in mille pezzi parte con la cattiveria canina Marco Silva e l'head smash detona 75 Flutterman in campo questo è il pugnazzo di Paul notare Victor Medina non è andato di Moonblast con mano ferrea che ad occhio e croce non avrebbe comunque preso il KO dal danno di Dazzling Glimm ma avrebbe rischiato di prendere il KO e di dare anche magari momentum a Marco inoltre comunque un chip anche su Arcanine poteva far comodo per portarlo in range di altre cose ora attenzione perché è vero se ne è andato via il Flutter la terra peraltro di Victor però ora Victor ha anche tanto momentum quindi occhio affinché non scelga i tasti giusti dove premere può fare anche doppia kill può fare anche doppia kill qui arriva Frana e killa per l'appunto Arcanine vediamo se il surging sarà o meno in grado di tirare giù Enz io sono d'accordo con te attenzione il chirurgo Bisturi colpisce ce la fa solo con lo studio senza tirar fuori la laurea signori mano ferrea va giù hai ragione il momentum ora è dalla parte di Medina però vediamo chi c'è dietro e ora è fondamentale veramente capire il contro comeback sì perché qui magari tieni di conto la doppia kill che prenderà in turno 2 in questo caso però il comeback non mi sembra violento come dovrebbe essere allora se dietro il quarto di Medina è Rillaboom potrebbe essere Godifero no in realtà potrebbe essere potrebbe essere brutta per Marco no perché si prenderebbe una kill poi entrerebbe Rilla a far fake out minacciare Grassi Lai partirebbero dei mind game non piacevoli infatti qua Marco che deve buttare in capo questi Pokémon si prende qualche secondo anche per pensare al dopo ragionare già regalarsi un come dire supplemento di timer nel turno in corso Bliquind quanto fa su Rillaboom? Saita ovviamente allora dipende molto dalla spread dell'uno e dell'altro però un 60 glielo fa non poco perché comunque AV attenzione Terra Acciaio perché non deve prendere la frana kill Terra Acciaio per Tornadus una Terra estremamente difensiva ma che lo scopre al fuoco di Arcanine che però se n'è appena andato sostituito da vediamo se è Rillaboom no Tornadus non c'è Rillaboom e qui già allora forse la situazione è migliore non ho visto cosa ha cliccato l'Urshifu di Marco non lo so c'è però una Terra Acciaio che scopre sia al fuoco che al pugno pazzo close combattiano di Urshifu questo Tornadus dall'altra parte Bliquind attenzione non prende la kill però è un gran bel danno drop fondamentale su Tornadus drop doppio bello e qua godo e non disdegno e il Surgo chiude la pratica a Urshifu e qua fondamentale questo meno uno perché vuol dire che anche a parità di Tailwind il Tornadus di Silva sarà più veloce potrebbe tauntarlo per esempio a taunt questo Tornadus te lo ricordi? non mi sembra ti dico la verità in ogni caso con il proprio Tornadus stare sempre sopra quello dell'avversario è buono un Intimidate che non cambia il gioco perché tanto c'è Surging che fa bene su Ambedue non dire niente vabbè dai amico mio cioè Tailwind Tailwind Urshifu è più veloce di Arca cioè non è più veloce ma insomma deve arrivare un flinch adesso e dopo Bleakwind Storm ma col Terra Steel peraltro di Tornadus sta anche abbastanza comodo eh ma guarda potrebbe mettere anche Raindance tanto qualunque cosa metta il taunt arriva dopo se arriva però Raindance a che gli serve? no infatti per intare dice Bleakwind qui arriverà Tailwind contro Tailwind Frana per cercare la magia il taunt ovviamente per bloccare qualunque ha preso almeno uno ma si 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 adesso arriva Surging Strike però va di là ok va bene si però Arca 9 come attenzione a Rocky Helmet eh ma sono due colpi ok due colpi già se avesse rollato il terzo essendo CB sarebbe cambiata la sostanza più che altro adesso è sotto Tailwind solamente Marco Arca 9 non credo abbia la kill su Urshifu con niente non mi sembra abbia Wild Charge va di Flare Blitz là e allora è partita finita 2 a 0 perché qui arriverà il Surging che killerà in modo secco Arca 9 di sui e quindi Marco Silva è ufficialmente il primo giocatore italiano Urshifu prepara i pugni bagnati Arca 9 sa che stanno arrivando e non può fare a meno di prenderli vediamo un controllo rapido sulla Tailwind ne basta uno signori un calcio Arca 9 si inchina all'Italia che comodamente con facilità vola con un 7-0 al day 2 bravo Marco Silva bel game 2 ancora meglio del game 1 si con un rischio finale probabilmente in fondo perché è andato di surging nella slot di Tornadus con un Tornadus che a meno 1 ha fatto un taunt che non aveva molto senso perché aveva preso anche meno 1 drop speed di Black Queen Storm se avesse rollato male il surging e quindi avesse preso un terzo Rocky Helmet poi Arca 9 poteva killare con la Tailwind fatta sarebbe andato paradossalmente in range di Flare Blitz poi Flare Blitz è arrivato su Tornadus quindi non si parla di nulla però con la Tailwind messa dal Tornadus di Medina abbiamo visto prima ah ti dici senza il taunt scemo senza il taunt no lì infatti non lo so perché ha fatto taunt sai eh non lo so nemmeno io o si è dimenticato del meno 1 però un po' strano infatti è il commento che ho fatto prima di quel turno che il taunt non avrebbe avuto senso perché sarebbe comunque partita prima la mossa del Tornadus ad ogni modo di Silva Silva che vince comodamente non è finita per Silva nel senso che è già il day 2 no deve cercare di fare questo punto 9-0 in modo da poter mettere legna in cascina per quanto riguarda il day 2 un team solido quello di Marco provvisto di Tailwind possiamo dire che il day 1 è il day 1 del vento in coda tutti i migliori giocatori lo stanno utilizzando 0-3 Tornadus è molto presente è vero 0-3 croom 0-3 farigiraf che tra l'altro in realtà è altissimo in usage fino a prova contraria eppure non lo abbiamo minimamente osservato 0-3 dusclops che è un po' meno alto in usage chissà magari poi il dipinto del day 2 sarà totalmente diverso ci saranno 50 farigiraf però al momento sembrerebbe il torneo della velocità e non quello della lentezza nel più che altro Urshifu Chenpao Urshifu Tornadus con un Tornadus che acquisisce oltre a essere ancora sempre il miglior Tailwindsetter la possibilità con tutti questi erba di poter anche fare danni di Black Queen Storm ad area non redirettabile con town prioritario con Rain Dance per andare a far fare dei danni insane a Urshifu magari che terra rompere le palle a Yitran Tornadus Urshifu is the new Tornadus Chiogre ok in format standard quindi Tornadus è sempre stato da quando è stato inventato centralizzante in più gli hanno dato Black Queen Storm ho appena realizzato una cosa nel meta Uber Urshifu via dai coglioni perché esiste Miraydon almeno quello acqua si nel meta Uber si anche se comunque Uber con la terra non ci metterei la firma si può terrare qualcosa di diverso bisogna vedere Terapagos che roba sarà si dice una terra estremamente difensiva perdonami un'abilità estremamente difensiva ma in realtà perché ho detto terra c'è un motivo perché l'omnitype questo probabilmente il nome del diciannovesimo teratipo è un tipo neutro o almeno si intuisce questo secondo me la terra di Terapagos agirà un po' come faceva quella di Zygarde di maniera fallacea con i Veltal Xernias con coloro che terra cristallizzano cioè andavano trasformare una sorta di stab multiplicator boost solo sui terra in un nerf di chi ha terrato ok ok quindi vai a punire come Eternatus che punisce le Dynamax esatto se tu teri invece di avere la stab per 2 ce l'hai meno 1 e 5 ho capito ruba la stab degli altri potrebbe potrebbe partirebbe anche il mind game del mi conviene non terrare sai che avrebbe senso in virtù dell'esistenza delle disgrazie sarebbe la disgrazia della terra cioè se tu teri davanti a Terapagos lui è la disgrazia della terra perché il potere è il suo se lo riprende che assorbe e peraltro tornerebbe anche molto con la fisiologia del guscio quindi teoria confermata mi devo far crescere il codino vediamo vediamo io mi aspetto che sia semplicemente un tipo neutro e che il nuovo Terra Blast sull'omnitype di Terapagos faccia una cosa unica oppure un tipo neutro super efficace sulle terra ma solo per Terapagos che però sembrerebbe avere una terra difensiva peraltro Terapagos si dice che abbia tre forme una probabilmente non giocabile che è quella tipo Eternamax ok di Eternatus due però giocabili e ambe due sarebbero viable quindi diciamo che sia il Terapagos bambino che il Terapagos grosso potrebbero essere utilizzati in partita non vedo l'ora soprattutto non vedo l'ora di vedere come e con quali Pokémon interagirà perché un conto è Terapagos nel mondo degli altri Uber e un conto è Terapagos con Miraydon e Coraydon e gli altri Paradox peraltro non sappiamo neanche e qui mischiamo il competitivo alla lore se Terapagos verrà o meno messo all'origine dei paradossi nel qual caso l'abilità potrebbe anche boostare o interrompere le abilità dei vari paradossi che insomma lo vedete spero decisamente nel fare perché dovessero boostare Flutterman sono d'accordo però tu pensa è già praticamente liccato che le UB non ci saranno questo secondo me è per ordine mentale perché le UB sono state le prime bestie paradossali ok il concetto è lo stesso hanno tutte la stessa abilità si boostano in partita in qualche modo loro con le kill invece arrivano tutte da un buo strano mi interrompo questa frase interessante da approfondire perché c'è Marco Silva il concetto ma una cosa che mi sento che era molto interessante per il tuo team è il Terra Steel Tornadus. Cosa è la cosa che ti sento era la right call per questo tornamment? Molto volte quando hai chiesto il Terra per Tornadus, le persone usually go for Ghost perché, almeno, you try to avoid per farcate per Tornadus. Ma in questo caso, I'll Protect. Quindi, I can use Tornadus in una different forma in cui I can stay a lot in the field and also go for a lot of Black Queen. So, a Defensive Terra, like, the Steel type was really good. It felt like it played such a big role in that, especially that second game, to be able to make sure that that Terrasalization would work in your favor. But, something else I wanted to ask you about about your team is your choice of moveset for your Arcanine, as well as the item that it has. So, talk me through the choice for the Choice Band as well as the Head Smash. Yeah, so, I want to start by saying that, actually, I wasn't the inventor of this team, but my friend, Federico Camporesi, which unfortunately cannot be here for, like, health issues, he built this team. And, yeah, we actually had, we had Choice Band because we felt like it was great in the Tailwind core, in general, with Tornadus, Surge, and, in this case, Ironhands, but, for example, Victor had Rillaboom, but it's really similar. So, Choice Band was really good there. and we had locked-in Thread Blitz, Rockside, and X-Speed Speed. And, actually, until yesterday, I was pretty tempted to use Terra Blast, because there's a lot of Rory Moon. For example, if they see that you have Terra Blast, they're kind of forced to, at least, make some type of, like, defensive play, like, protect, or switch out, or something like that. So, at first, I had Terra Blast, but then I kind of realized that, yeah, I had the option, but, at the same time, I kind of needed something else for another match of that. I cannot really say, because it might happen that I might play tomorrow or today. So, yeah, I kind of just want a heavy eater, an teammate, because it's also pretty good with Gold Angle, and, yeah, in general, it fits really well with the team. Don't worry, I won't ask you to reveal all of your strategies for those future games, and you are looking right now and making that day two, so, how do you feel knowing that this last round was a huge boon going in that direction? Yeah, so, honestly, I was expecting this team to do really well, because last week, I actually played in a local tournament, the mid-season in Italy, and I ended up winning. I didn't really pick up the team before that tournament, and, yeah, I kind of felt like, okay, this might be the one, because it played really, really well. So, yeah, I was expecting to do really well. I wasn't really expecting to go, like, 7-0 without dropping one single game, because I went 14-0. But, yeah, we're going to see how it goes in tomorrow and in the next couple of rounds. No way. So, you haven't dropped a single game so far in your set? Yeah, yeah, I haven't. So, is that just comes with clear game plans for the match-ups that you've had, or is this just experience with the team after playing in such a stacked region? I mean, Italy has been such a strong contender when it comes to these international events. Yeah, I think the preparation for this tournament has been really great. In fact, compared to, like, other tournaments, usually, I tend to maybe make some more games than I usually do. But, for example, here, I played around, like, 10 best of threes. I kind of realized, okay, so this team is really good. I don't want to popularize it, because, for example, I played the Rory Moon team with Amungu, Si, Tram, Charlemagne, back in Lille, and now everybody's using that. So, I kind of didn't want to, like, reveal the team and just get super high on the in-game ladder. But, yeah, I just did like the games that I needed, and then I just tore in my mind what I need to do in, like, the particular match-ups. Let's talk about that, because you did get top eight at Lille, and you're coming off the back of such a great tournament performance. Do you feel like that has definitely helped you when you know that team is everywhere right now? Yeah, yeah, I think it really helps for me, like, in general, because since everybody's playing that, I also know what actually beats it and how to, like, play around it and play around the Rory Moon, play around the Hitchin. So, I think playing that team kind of also gave me a boost on how to play this team as well, because it happened to me also in this tournament to play some Rory Moon really similar to my team. I think you're going to see a lot of Rory Moon for the rest of the tournament, too, I bet. But, Marco, I want to let you go to prepare for your next round, because I know you're not going to take your foot off the gas for this next one. But is there any shout-outs that you want to make? I know you said FediCamp was helping you with this team. Anybody else? Yeah, I also want to thank my friend Arash, because he also helped me with the game plans, and I'm pretty sure, like, he hasn't been playing too much in the last couple of months, but he's going to come back with the next year or with the next European Regional, and I'm really grateful for him, like, helping me with the prep. And, yeah, shout-out also to all my friends, my family, and the friend group of the server. You have a lot of great people in your corner, Marco, so thank you so much for sharing those thoughts with me and for the rest of the stream. I'm going to let you go to get ready for that next round, and we're going to throw it back over to the casters before we get ready for that round eight. Arash onnipresente anche quando non è in streaming, godo, sono contento, sono contento, più che altro che tornerà a giocare, me l'aveva già confermato in privato, quindi vedremo cosa farà dopo un mondiale non eccellente, quello giapponese di agosto, che però, voglio dire, non è stato eccellente per un sacco di player italiani, purtroppo tu incluso, ma insomma ce ne sono stati tanti che hanno capitolato a Yokohama. Ci sta, capita, capita, ma al di là del latte versato, mi focalizzerei su anche proprio il team, la scelta di come è arrivato, team buildato dal Fido, Fedecampo, un po' Batman e Robin, che peraltro si è giocato anche Marco per vincere il mid di Cerea, quindi l'importanza dei local, infatti anche lì ha detto io ho capito lì quanto girasse bene il team, ho detto no, this must be the one, è questo, il team è questo qua, e devo dire, dice non mi aspettavo di fare così bene perché sono 14-0, non ha ancora droppato nemmeno un game. Pensa te, pensa te. Quindi abbastanza inarrestabile, e peraltro, insomma, ha chiedato 2-0 a uno, ma è Victor Medina, eh, cioè non robetta. Sono d'accordo, peraltro ci ha raccontato, sempre riguardo il team, quanto la Terra Steel sia stata guidata da una volontà di sparare quante più Bleak Wind Storm possibili. Solitamente si tende a mettere sul campo un Tornadus Spettro, proprio come quello di Medina, per non essere colpiti da bruciapelo, ma non è questo il punto del Tornadus di Marco Silva, che ha la possibilità di proteggere, quindi gestisce il Fake Out con la protezione, e poi quello che fa è Terrar Steel, essere difensivamente solido, sparare tante Bleak Wind, sperare di fare danno, e soprattutto magari anche di cogliere drop. Drop che possono aiutarlo contro altri team con la Tailwind pareggiata. In un Tailwind team che, chiudo l'analisi, viene condito da un Choice Band Arcanine. La Choice Band ti dà l'attacco a più uno e ti locca, vero, brutto, meno brutto, sei la Tailwind attiva. E il tuo Arcanine ha praticamente una scarf e, anzi, più, ha due scarf. Ribaltando anche il ragionamento, in un'ottica dove la frana spam di Arcanine Choice Band, e quindi loccato, è particolarmente nutrita, Terra Steel ti permette anche di far fare la scelta all'avversario su cosa loccarsi. Perché se si locca su frana, poi decide paradossalmente di non colpire più con facilità quel Pokémon Tornadus, che in realtà dovrebbe colpire in maniera super efficace. Quindi crea del conflitto. Rigirando... ah, perdonami, perdonami. No, no, niente, quindi quando si va a creare del conflitto, competitivamente parlando, è sempre una buona cosa, perché si va quindi a cercare il vantaggio, la giocata. Rigirando il ragionamento al contrario, la Rock Slide Choice Band, che va veloce per via della Tailwind, gode anche dei flinch sui Pokémon tendenzialmente più veloci di Arcanine. Sono tutte percentuali che tu butti sul lato del campo dell'avversario e che quindi poi sommate tutte insieme, non vanno neanche, secondo me, a far sì che si possa poi parlare di Axe, a meno che poi non arrivino in maniera massiva. Cioè, tu vai a preparare una serie di trappolicchie, e il flinch, attacco per primo, il crit anche, è una di quelle. E qui, appunto, la cura del dettaglio, la scelta della Terra sul Pokémon difensivo. E sono tutti questi dettagli che poi alla fine vanno a creare l'identikit di un campione. E infatti, a mio giudizio, al momento Marco Fiero è il giocatore italiano più forte, ma proprio con distacco rispetto agli altri, perché sta dimostrando proprio una solidità, dettata anche dall'età, che gli permette di poter, per l'amor del cielo, essere molto presente, no? Sia sul campo di allenamento, sia sugli eventi locals ed internazionali. E fa bene a battere il ferro finché è caldo, poiché appunto i risultati sono quelli di un 14-0 oggigiorno. Quindi... Tanta roba. Veramente, veramente tanta roba. A questo punto, secondo me, vabbè, ha già l'esperienza, perché è giovane, ma già molto esperiente, di sapere da solo che deve puntare a questo punto al 9-0, perché uno come lui se parte 9-0 domani... Fa 14-4, tranquillo. Cioè, è giusto, ok. Tranquillo, sereno proprio, il vero obiettivo è quello. Perché tu non devi spaventare troppo gli avversari, altrimenti tirano fuori, come Goku, la rabbia, il nuovo livello di Super Saiyan e ti battono. Devi fare finta di non essere così bravo, ok? Arrivi su un dimesso 7-2, fai sì, è andato bene il day one, però ce l'ho fatta per il rotto della cuffia. E poi, in day 2, li devasti. Che ne pensi? Strategia di merda? Sono d'accordo. Non volevo dirlo, hai detto tu. Eh, ma noi dobbiamo fare Protect Dazzling Glimm. Che poi... A me mi fa cagare Dazzling Glimm. Teino Dazzling Glimm. Teino Dazzling Glimm. Vai. Abbiamo boniato il nuovo metodo di gestire la cuffata. Teino Dazzling Glimm, che poi siamo anche malati, quindi abbiamo anche le tazzine. Io sì, sto... No, anch'io sono malato, ma per attesco. Regia, posso avere uno zoom su questa tazza? Rice Tarnished. E' la tazza del senza luce, perché oggi non ho la luce in corpo. Sono raffreddato. Però ci provo. Va bene. Ce la metto tutta. Beh, amico mio, io ti direi che ci siamo fatti la nostra chiacchierata. Se il cauce è pronto con qualche risultato, passo loro la linea, altrimenti no, aspetto cenni di godo, non di godo, dall'altra parte della barricata. Ci sono cenni di godo, quindi io direi, senza ulteriore indugio, di passare la linea al nostro K-Couch, corretto? K-Couch è la definizione giusta. Il K-Couch. Il K-Couch è di sapere che cosa hanno fatto gli altri italiani e che cosa ci aspetta eventualmente con i pairings per questo round 8. Siamo arrivati quasi alla fine. Signor Cinurso, lei quasi ci offende. Lei quasi ci offende con le sue parole. Se il K-Couch è pronto, il K-Couch è sempre pronto, il K-Couch è nato pronto, ed è qui per voi. E qui per voi, come sempre, aprendo con notizie di Cronaca. Bisogna prepararsi a dare le notizie di Cronaca. Oracolo dei risultati ci illustri. Dacci 4 win. Mi piacerebbe farlo, ma non è quello che fa. E allora niente. E purtroppo ragazzi, purtroppo va così. Allora, partendo dai risultati, abbiamo visto per fortuna in streaming la vittoria di Silva che sta arrivando con un percorso che per lui non è un 7-0, per lui è un 14-0. non ha droppato una singola partita. Che run incredibile che si sta portando a casa, anche perché qui portarsi a casa dei 2-0 su fasi così avanzate di Svizzera, stiamo parlando di performance veramente, veramente solide, specialmente perché abbiamo visto delle scelte anche controverse e molto discusse. Ne abbiamo parlato noi in backstage di quell'ultimo turno, ne hanno parlato tanto al desk. Sono scelte che mirano a quel tipo di sicurezza che sta rendendo la run di Silva davvero una grande run. Sì, non sta lasciando davvero niente al caso quel surging su Tornadus che l'ha esposto magari a un doppio extreme speed, si ragionava, poi noi non sappiamo il calcolo del danno dietro alla spread di Rishifo, ma un doppio extreme speed di un Arcanine che poteva terare, tra l'altro, normale CB, avrebbe potuto prendere il game, invece va per un surging doppio proprio per evitarsi l'eventuale crit di BQ Storm, andare a gestire comunque il late game con precisione, cioè ha giocato davvero senza lasciare niente al caso. Nonostante terra acciaio, quindi comunque veramente giocandosela tanto sicuro. Sì, è stata veramente un'ottima scelta, anche solida, anche in intervista ha detto che non è vero che poteva terare, perché se la RG mi aiuta con un supporto tecnico, la possiamo vedere... E se non lo fa, comunque le vogliamo bene. La possiamo vedere la terra di Medina del game 2. perché vi racconto in retroscena, mentre sono andato a chiedere questo replay in regia a Chiara, Chiara mi ha detto sì, 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 sì. Perché era anche lei con te. Era un momento veramente di goduri. Mi aspettavo un retroscena un po' più. Guarda, guarda quanto è poetico, no, questo cuore su Flutterman che vuole fare innamorare il pubblico, vuole danzare sotto la luna, no, sotto i raggi lunari, e ci prova, cioè ci prova, vedi, il suo amico viene bruciapelato, tentenna, impauerito, ma lui con questo bagliore magico cerca di dargli sicurezza, eccetera, e poi dall'altra parte c'è un Arcanine ignorante, proprio ignorante, che va di head smash. Basta, ciao! Questo è stato veramente bello, devo dire. Questo è stato veramente, veramente bello, ma... la reazione di Marco, che era veramente in tensione, e poi sospiro di solieva totale quando entra, perché... E si spezza il cuoricino. Beh, nel constatare, clinicamente, comunque, che la longevità della diretta di oggi abbia avuto un danno mentale irreparabile, purtroppo, sul povero Pietro, andiamo avanti con le notizie di cronaca, dove abbiamo Cognetta, che si porta sul 6-1. Portata a casa la vittoria su Fattura, tra l'altro. Quindi è anche una vittoria importante, una vittoria che non era neanche da dare così per scontata, anche perché Fattura stava avendo un paio di ultimi round comunque saldi. Sì, sì, sì. Tra l'altro, Dave, che in site ci dicono portare un team molto particolare, che non staremo qui a dire. Non sa mai che qualcuno ci ascolti. Senza guffarlo, speriamo di poterlo spoilerare domani in streaming. Ma magari anche questi ultimi round, è vero? Perché no? Partono i 6-1 adesso. Allora dovrebbero andare i 6-1, esatto. Quindi, dai, speriamo. Ultima notizia effettiva è quella di Tarlao, perché dall'altro lato Marras sta ancora giocando. Marras già ha tre sconfitte, quindi comunque per lui non ci sarà il day 2. Sta giocando per top 128, quindi sta giocando comunque per portarsi a casa dei punti più importanti. Anche 64 potrebbe al pelo riuscirà. Con tre sconfitte? Potrebbe al pelino farcela. Poi vado un attimo a dare un'occhiata alla classifica generale, anche per capire come siamo messi a livello di aspettative. Tarlao invece perde, purtroppo per a mano di Alberto Lara. Anche lui che è comunque un pochettino inviperito dall'ultimo round, un pochettino anche, secondo me, gonfiato dal livello di gioco che si sta inalzando, perché poi sappiamo che questo livello di giocatori più gli dai benzina per giocare, più inizia ad ingranare bene. Sì, certo. Invece su 7-0 che abbiamo? Allora, attualmente 7-0 ne abbiamo solo due. Ah. Abbiamo solo due giocatori 7-0 e sono Silva dall'Italia e Lattanzi da Bergamo. Un saluto a Lattanzi da Bergamo che ci segue sempre. E guardiamo BR sta per Bergamo adesso, narrativa ufficiale della diretta. Tiago Lattanzi che ora a memoria ha un team molto simile a quello di Marco. Tornadus Staff anche lui. No, aveva Leggelecchi, Ciu, comunque. Ah, no, è vero, è vero, è Leggelecchi, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero. Il Tornadus c'è, però. Stavo vedendo che sulle tre sconfitte attualmente l'aspettativa è attorno alla top 84, quindi scalare su 64 è dura ma possibile. Questa è dura partendo da 3-3. Vedremo, vedremo. No, sì, tutto... Comunque deve vincere entrambe anche per la top 128, quindi comunque... Sì, sì. Stiamo solo aspettando i risultati anche lì, quindi. No, comunque è tanta roba lattanzi 7-0 con un team simile perché vuol dire che lo sai governare alla perfezione perché quei tipi di ever offensive non lasciano margine all'errore, praticamente, quindi... È un'antimeta, è un'antimeta con le pick giuste e nei match-up giusti quando batti, no, sai? Quando vinci i primi round e inizia a trovare quei team un po' più solidi, sono più facili, paradossalmente, perché hai i plan pronti, sai come giocare, eccetera. ha smaltito ora il grosso del blocco, no? Sì. Della... del team inaspettato, della pick esotica e lui con la sua pick esotica stava andando avanti, quindi vediamo se Elecchi riuscirà... È già dei due, vediamo se riuscirà ad andare avanti. Stanno ancora giocando Cunha e Ruiz, tra l'altro, sul 6-0 entrambi, anche loro giocano per la qualifica, si sta ancora giocando la loro serie, quindi stavo vedendo un attimino qualità che li stiamo ancora aspettando per i pairing del round 8. Devono capire chi è il campione del mondo più forte. Esatto, ma secondo te, la cosiddetta World Champions Diff tra due campioni del mondo, cioè come funziona? Chi l'ha vinto dopo è... Chi l'ha vinto più di recente secondo me applica comunque diritto di prepotenza. bufata totale. Per Cunha. Adesso c'erano Ruiz, dato un'ascia qui sulla schiena. Ma ha appena crittato. Raga, appena l'ho detto Cunha ha perso. No, vabbè dai. L'ho ucciso in diretta, un obicidio qui sugli schermi. Evidentemente i miei poteri si traslocano da universo a universo. Dobbiamo stare a tenere a un dubbio. È pericolosissima questa mia cosa. Ho raffresciato nel momento in cui ho finito di dire la frase l'ho ucciso. Ruiz 7-0 si qualifica per il dei due. Un applauso a Ruiz. Chiederei alla regia di mandare il mio iban a Ruiz immediatamente dopo a questo punto perché comunque mi deve qualcosa arrivati a questo. Vabbè, sei uno comunque. Comunque sei un ottimo risultato. Ora devi vincere le prossime due per comunque... Mi sento in colpa. Mi sento in colpa ragazzi. C'è il senso. Intanto devi vincere la prossima per arrivare comunque al dei due garantito. Sì. in più deve vincere quella dopo per arrivarci con un ottimo risultato di 8-1. Ah, sì, sì. Vabbè, quando ti chiami Edoardo Cugna puoi farcela. Tra l'altro la sfidza di 6-1 è una sfidza di 6-1 interessante. Sono tanti, eh. Sono tanti. Anche Ciuppa continua a vincere. Dopo il primo game loss è lì sul 6-1 è quello che dicevo. Nel senso che è facile partire male ma puoi ingranare senza problemi. Quindi è lì adesso. È veramente lì. Ci sono un sacco di sfide interessanti sul 6-1 che si potrebbero andare a delineare. Speriamo di vedere qualcosa in streaming contro Cognetti che sarebbe il top. Vi chiedo un refresh personale sul regolamento sulla Svizzera all'interno del circuito Pokémon c'è l'impossibilità di reincontrare eventuali cioè quindi non ci saranno rematch up. Non ci saranno rematch se non in top cut. Da domani ci possono essere. Ok, perfetto. Sembra di sì. Allora, quindi per adesso stiamo guardando un parziale sui 6-1 e ce ne sono veramente tanti quindi Cognetti non ci possono essere rematch dei due esatto all'interno della stessa giornata non puoi affrontare il suo adversario due volte. Questa è una giornata diversa. Sì, sì, sì era quello che mi interessava sapere per andare a prevedere anche un attimino i match up adesso perché abbiamo dei 6-1 davvero importanti Cognetta Medina No, io l'ho beccato una volta in Europa e una volta in America per mancare chi molto distanti molto distanti a chilometri di distanza abbiamo Nunez abbiamo Lara abbiamo Cugna abbiamo Signorena abbiamo domi veramente importanti sul 6-1 comunque e continuano l'elenco di 6-1 perché Cignonez è sul 6-1 Croce è sul 6-1 Signorena Cioè qui dove pigli 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 madre vabbè a questo punto direi che ci siamo ecco perché siamo nel punto caldo ma Agati Agati mi sa che ci ha abbandonato Agati ci ha abbandonato lo sto andando a recuperare in questo momento guarda se filtri per Brasile secondo me ci metti meno allora non ne sono sicuro restringe il campo veramente veramente poi per Bergamo per Bergamo hai ragione per Bergamo andiamo a cercare direttamente però restringere per Bergamo Sud allora Agati 5-2 ah vabbè c'è 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 ancora corre Agati sul 5-2 2 win le può fare anche Ugarte si Gomez Comfort abbiamo Yuya Tada sul 5-2 pericoloso è una mina vagante anche perché cosa starà giocando Yuya Tada ma può giocare di tutto giapponese ricordiamolo giapponese ma con cittadina no con residenza in Australia di conseguenza non può gareggiare per la classifica del mondiale giapponese quindi non non può partecipare al nazionale giapponese deve farlo per CP ricordo che è anche venuto nel regionale di Lille ha fatto tipo top 32 mi sa con Gudra con Gudra giocava Gudra Bulky Gudra tra l'altro con Tingluo Gussien mi sembra addirittura si 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 con una roba del genere quindi chissà cosa si porta ed è l'unico giapponese al torneo si possiamo dire è l'unico giapponese anche se non si si no vabbè però è come sotto bandiera però esatto è come Michael Zhang che vediamo sempre nelle classifiche europee con bandiera inglese ma in realtà è di nazionalità cinese e residenza inglese ma studia in America e quindi fa i locali in America e quindi fa punti in America è un po' complicato l'incastro no no assolutamente con parlavi di regioni abbiamo tenuto qualche regione sott'occhio ancora ottime performance in generale da parte della Spagna dove stiamo vedendo diversi 6-1 continuare a farsi vedere dovremmo già avere anche tutti i pairing confermo confermo allora abbiamo 7-0 sto andando a recuperare un attimino perché Silva Lattanzi? teoricamente ma c'è un altro 7-0 anche Ruiz no i 7-0 abbiamo Lattanzi Ruiz appunto e rimane come buy sul 7-0 Silva che invece va contro un 6-1 che è che è Plasenzia Luciano Nugnoz Plasenzia e qui vincesse Marco sarebbe ottimo perché andresti a abbassare sarebbe 8-0 sì esatto perché vai ad abbassare il rating cioè alzare il rating ma abbassare lo score di quello che sarebbe poi un 7-1 che manca e quindi che diventerebbe automaticamente un possibile 6-2 e invece Cognetta Ugarte dai voglio vedere lo in streaming vi prego facciola vedere lo in streaming la Cognetta Ugarte ancora qui l'italiano degli americani contro un italiano italiano quindi sarebbe un grandissimo giuseppe Tarlao si gioca la sopravvivenza contro Kyle Ayala Kyle Ayala statunitense anche qui mi dice qualcosa ma non so cosa secondo me lui è ce l'hai è un ladderiro è uno dei ladderiro americani che sono spiegazioni di cos'è un ladderiro sono quei giocatori che spesso giocano solo online nel battlespot però arrivano sempre in alto ok se non ricordo male lui gioca tanti tornei online capito poco va in in tornei dal vivo però il torneio online fa abbastanza bene non ha il gran risultato alla Dervesh del singolo è bello che si è messo la prova adesso è sul 5-2 quindi si riesce a battere Tarlao e andrà avanti altrimenti comunque avrà fatto una buona aggiornamenti collaterali su Marras l'avevamo lasciato ancora in sospeso vince la partita contro Hernandez quindi per adesso 4-3 ancora speranze molto alte per il cut in 128 abbiamo Marras contro Cristiano Rangel dal Brasile da Bergamo che sottolineiamo non è specificato da bandiera se si tratta di Bergamo di sopra o di sotto ma abbiamo da parte dei singoli giocatori poi le dichiarazioni quindi in questo caso Rangel dovrebbe essere della Bergamo di città è interessante domanda importante per il rating di Marras a questo punto i giocatori contro cui ha perso che rating hanno? ah difficile adesso non devo dire due per due non lo so dovrei andare a recuperarli bisogna fare un buono storico poi magari si può fare sotto il nome di Marras infatti sono a prendere direttamente da qui ah si ah ma sei un esperto scusa eh si perché cercare di capire se può puntare alla top 64 il rating no 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 lo scorre ah scorre no pensavo stessi no no che vorresti sapere su tutto quanto allora vince contro Hernandez che va adesso appunto sul 3-4 adesso siamo sul 4-3 contro Rangel sul 4-3 era passato Rogerio di tutti sono tutti grossomodo lì l'unica sconfitta che sta avanzando tanto per Marras è Johan Salerno che adesso è sul 5-2 però ok quindi quasi siamo sul 50-55 rating che non è male non è altissimo però però non è nemmeno basso quindi con l'X3 la 128 te lo assicuri la 64 devi Salerno ti deve portare su si ti deve portare su ti devono portare su anche un po' gli altri si beh tutto si può dire insomma ancora tutto in gioco quindi speriamo tanto l'importante è che lui punti a vincere ecco perché è la cosa fondamentale si intanto deve vincere il prossimo tra l'altro non so se col 5-4 eh col 5-4 prendi punti dalla 128 perché potrebbe essere siamo vicini al kicker dei non siamo troppo lontani dai 300 siamo eravamo tipo 3-60 ma forse 2-3-4 si non tantissimi se proprio è e il problema è che sulla 128 ce la si gioca veramente con contro chi hai perso te la giochi tanto su questo è un un original work of art indoviniamo il po' anche nominato il mio alter ego per questa serata ha disegnato qualcosa secondo me è uno spoiler della decima gen è lo starter fuoco è possibile sì secondo me è mi raido è lo starter erba che finalmente rimane quadrupede invece che diventare umanoide bipede è un gatto quadrupede e ovviamente diventerà bipede perché è un gatto quindi per forza per favore deve diventare erba elettro umanoide bipede ok e il tema centrale è gatto carriola e abbiamo detto che tipi sono erba elettro erba elettro perché comunque è veloce come l'elettricità comunque la carriola eh no deve essere lo starter d'acqua no deve essere lo starter d'acqua eh perché il gatto elettro il gatto fuoco il gatto a è vero è vero quindi secondo me è l'acqua acciaio acqua acciaio è giustamente la carriola piena d'acqua bipede con i baffi o acqua elettro è figo anche acqua elettro e a quel punto che trittico di contraccolpi metteresti sui secondari fuoco terra erba volante erba ha il suo perché ha il suo perché è perché l'erba terra se lo sono già giocato due o tre volte mi sa che ti è arrivato un contratto della game freak sulle mail controlli è una denuncia quella era di prima è che sta entrando finalmente mi hanno detto smettila di spoilerare la decima genna sto nel frattempo mentre stavamo sparando a zero cercando di capire cosa fosse cioè stavo ancora pensando a cosa potesse essere ma secondo lei è Mirai sì perché c'aveva comunque delle ruote aveva le ruote o sai Clizard addirittura tu sei dalla chat che adesso sì le proposte principali sono tra Coraydon e Miraydon dipende molto dalla cresta quindi non è forse questo il bello dell'arte essere incomprensibile procurare confusione e dubbi sul perché si è stato mandato in onda intendevo proprio questo in un certo senso posso dire che i disegni di Karen al couch sono più belli ma non si possono purtroppo non c'è stato modo di mandare in live il ritratto che ho fatto di Cydonia poco fa perché avendolo qui accanto in una posa statuaria come suo solito mi è stato possibile fare un ritratto anzi a questo punto farò un ritratto anche direttamente di voi abbiamo delle utility specifiche poi i potenti mezzi di Cydonia metteremo tutto sui social metteremo tutto sui nostri social quindi non vi preoccupate da questo punto di vista questo è un Karen originale ma ricordatevi sempre che il vostro falegname chi l'ha capito ha capito io non l'ho capito il vostro falegname è un falegname la Lire lo avrebbe fatto meglio più o meno è un vecchio saggio sempre aggiustando secondo inflazione insomma stiamo anche seguendo un attimino per capire tutti gli altri che stavamo tenendo d'occhio come si stanno comportando perché comunque avevamo messo una lunga lista di un altro papabile match in streaming 6-1 se proprio non dovesse essere e infatti stavo pensando un attimino a quelli perché Giuseppino e chi ci vuole essere sul 6-1 per non mandarmi i bet ma perché non voglio bufarla quindi dico dai magari mandano questa altra ma Rios adesso l'abbiamo già visto Cognetta Ugarte è veramente dai lui è veramente bello c'è il mico contro Beppe è il derby della parrocchia la domenica è il mico contro Beppe signorena Molina ma signorena Molina l'abbiamo visto signorena signorena abbiamo l'abbiamo visto no contro chi era signorena era contro era Tanzi forse no Cugna contro Cugna bravissimo e direi a questo punto che potete iniziare a spostarvi immagino considerando che stiamo vedendo già entrare in posizione i giocatori chiedo conferma alla regia su questo ma questa non è né Cognetta né e di conseguenza non penso che neanche è familiare il viso americano non è no no è veramente familiare adesso ce lo diranno subito comunque chi c'è sul sei un americano appena ci dici no allora l'orsi no cross confer no scusami confer già siamo sul 5-2 quindi sono solo Ugart che comunque abbiamo già pagliato e quindi non può essere lui e abbiamo l'orsi e cross brasiliani forse è un 5-2 in streaming no difficile ah oh difficile brasiliani sul 6-1 chi c'è brasiliani sul 6-1 non ne abbiamo abbiamo brasiliani sul 7-0 abbiamo brasiliani sul 5-2 nessun brasiliano in 6-1 e sudamericani abbiamo sul 6-1 allora spagna italia spagna spagna portogallo america america spagna pesaro immagino la sigla p.e penso sia pesaro pesaro infatti doppia americana e fine quindi no neanche lì neanche lì ci viene confermato alla fine era un evento spiritico ci viene confermato che qualcuno si sta preparando appena avremo informazioni si è stata un'apparizione senza scoprire serviva un attimino per speziare le cose quel sentimento di siamo pronti siamo pronti no ma è chiaro che bello adesso invece se sul pato compaiono in realtà era pokémon go hanno rubato il colore rosso del bgc e l'hanno dato a pokémon go no ci sta allora se è un 5-2 a questo punto ti dico di sì perché non torna i 6-1 bene o male di vista li conosciamo tutti pur di non streamare con niente mandano i stream i 5-2 sono scesi pur di privarci esattico no che è un gran peccato considerando anche il matchup nello specifico ma era proprio perfetto boh chissà perché sta scelta ma vediamo stiamo a vedere perché non ho davvero idea di non mi viene proprio in mente il nome di chi possa essere no il ragazzo americano mi ha familiare di viso adesso appena ti mi dici i nomi ti dico ah sì cavolo lo sapevo sui 5-2 abbiamo Confer Navar James Beck Justin Carris Stefan Mott Soeb Mufti Fattura James Evans siamo già sul 4-3 però con Evans quindi ah Evans 4-3 Evans 4-3 Evans 4-3 è una sconfitta contro Navar tra l'altro in uno scontro fratricida tra statunitensi esce così ho tornato difficile Evans Navar Navar Villano dos Santos vince contro Cugna e Beck perde da dos Santos e Navar quindi comunque anche proprio un trend strano da parte sua è stato certo abbastanza bizzarro abbastanza bizzarro sto continuando a pensare a chi fossero ma mi sa che forse è anche canadese sì c'è secondo ragazzo ma vi dirò di più ci siamo vi dirò di più in questo momento io prenderò la scena su di me farò in modo che possiate concentrarvi solo sulla beltà della mia persona perché i miei colleghi stanno per essere catapultati direttamente al Caster Desk ci si sta preparando per quella che sarà la prossima serie vi ricordiamo che siamo all'interno del round 8 vi ricordiamo che siamo nel penultimo round della giornata che pur essendo stata particolarmente longeva ci ha regalato un paio di ottime narrative un paio di partite veramente emozionanti e quindi parola al Caster Desk per il penultimo round della giornata e dopo tanto tempo eccoci di nuovo qui al Caster Desk grazie a Roberto per la linea e per questo tempo che ci ha dato per spostarci di chilometri e chilometri fare questo viaggio dal CK Couch ormai Roberto e Roberta condividono l'host del Couch di questi internazionali fino a qua fino a round 7 di questi internazionali di San Paolo round 8 ormai round 8 abbiamo appena concluso round 7 round 8 dell'internazionale di San Paolo penultimo round di oggi e noi siamo già pronti tuffati in mezzo a questa calura no brasiliana questa subtropicale ok e sai chi abbiamo ah ecco certo qualcuno che da tanto tempo alberga questi streaming non era Master non era nemmeno Senior la prima volta che l'abbiamo visto ma era Junior Nicolas Kahn contro Renzo Navarro ecco io sì sì ti stavo per dire Renzo Navarro ecco sì sì chiaramente un giocatore affermato dalla parte statunitense non mi ricordo se forse anche canadese comunque è un giocatore storico e dall'altra parte abbiamo quindi una nuova leva nella categoria Master forse Nicolas Kahn fratello di Christopher Kahn esatto e un gran giocatore campione internazionale categoria Junior e anche Senior secondo anno addirittura forse in Master sto andando a memoria è faticoso ma poi verificheremo comunque finalista mondiale Junior e finalista mondiale no top 4 mondiale Senior comunque un giocatore che gioca da tanto tempo e che nelle precedenti categorie ha fatto benissimo molto giovane viene da una famiglia di giocatori perché Christopher Kahn è Christopher Kahn quindi è cresciuto bene insomma occhio a pane VGC pane VGC e il team è un team impegnativo team impegnativo solido uno di quei good stuff da gente esperta quindi vediamo come riuscirà a governarlo comunque se è sul 5-2 vuol dire che sa giocarlo bene dall'altra parte invece abbiamo Navarro che si decide di giocare un hockey porn erba questa volta addirittura direttamente dalla BBA secondo Jamie Boyd esatto lo stavo per dire andiamo col Razor Claw di Oggerpon maschera ma non ha la maschera e quindi è un povero Oggerpon erba che cercherà di critare il più possibile senza però come insegna appunto Jamie Boyd quel Focus Energy pensi col Razor Claw che gli dà la possibilità al 50% di critare con il V-Cagel e al 12% invece di critare con il suo stomping touch sì sì il 50% di crit chiaramente è veramente tanta tanta roba quindi quando arrivano poi se arrivano al momento giusto possono fare tutta la differenza della partita lo vediamo insieme a un Roaring Moon che ancora una volta torna lo vediamo insieme a un Goldengo che se ne sono visti infatti tu una volta prima mi avevi chiesto quale Pokémon ti aspetti che salga in usage io ti stavo per dire Goldengo perché secondo me Goldengo è uno di quelle pick che sta uscendo sempre di più ultimamente e che secondo me domani potremo quasi vedere nella usage della top 12 ti dirò vediamo se riuscirà ad affrontare il good stuff del suo avversario vedremo perché comunque ripeto non sottovalutate la giovane età di questo ragazzo perché ha l'attivo un campionato del mondo una top 16 mondiale esatto chi di noi facendo i conti non è semplice da giocarci è uno che di bg cinema stica tanto e con un team molto bello e molto compatto di cugnana memoria ha tolto quella mongus se sostituisci quella mongus con un roaring moon e quel flatterman con un urshifo è un po' il team di cugna ma dall'altra parte c'è il grande protagonista di oggi perché a questo punto è il grande protagonista di oggi quel roaring moon che è stato presente praticamente per tutta la giornata ci ha accompagnato in tanti miliardi è la sorpresa di questo internazionale e se la sta giocando davvero davvero tanto bene sì in entrambi i suoi set sia support che offensivo li abbiamo visti in entrambi i modi è sempre presente quindi sta facendo bene in questo formato e vediamo se continuerà a fare bene perché la partita inizia Nicolas Kan dal nostro lato della spectator dall'altra parte invece abbiamo Renzo Navarre Ironhands Lando contro Oggerpone Goldengo eccolo che torna io vedo un Intimed di Landorus davanti a un Oggerpone con Defiant quindi stiamo attenti perché questi adesso i Bicagel a più uno se crittano direi che si fanno sentire lead ottima da parte di Navarro quindi che decide di ridare con il suo Defiant davanti all'Intimed però Landorus si può riposizionare può fare U-Turn può minacciarlo con un Terra Brass volante può minacciare Stomping Goldengo quindi comunque ha presenza offensiva e qui se la va a proteggere invece va a proteggere proprio per preservare quel più evitare il Fake Out più Mossa volante ma ecco che arriva la Doppia Protect proprio per andare intanto a capire su cosa si serve lo Cattolando che va con uno U-Turn e otterrano il Spike e i Shield e questi sono danni buoni sono dannetti buoni ecco comunque dai Doppia Protect ci sta perché sei davanti a Fake Out più un Pokémon Choice Item e quindi dici mi scouto il Fake Out mi scouto la Mossa su tutti gli occhi Doppio Dot attenzione il Doppio Dot ah eccolo spaventato da Hoggerpone doppio cipettino tanto per iniziare tanto per gradire così a turno 1 con una Protect spolverata di droppini spolverata di droppini ho deciso di fare danni attraverso le Protect va bene così attenzione che qui arriva già una Terra arriva una Terra vediamo di chi sarà il potere eccolo Hoggerpone che va a atterrare va a atterrare con la maschera quindi più un in speed grazie al Berga Memorie e un Defiant che gli ha già dato un più un in attacco porta a questo Hoggerpone aver fatto praticamente una Dragon Dance più un attacco più uno speed e va con la sua clava di liane tipologia che rimane intatta rimane di tipo erba sul Lando a più uno cala la clava non serve nemmeno la scrittina arancione e arriva a condire un nasty plot per Renzo Navarro che se la gioca al meglio il Drain Punch farà sì un po' di danno recupererà un po' di HP a Renzo ma ora c'è un Goldengo a più due e un Hoggerpone a più uno speed a più un attacco no ti stavo per dire di fatto attenzione che con questa Terra perde il Defiant quindi Lando lo potrà intimidire ma problema risolto perché ha fatto un One Hit che io ho pulito pulito quindi ottimo così bella la scelta di Terraro perché appunto andando più uno di speed se sopra hai Landorus Scarf quindi l'ha potuto ospidare e killare in tranquillità quindi ottimo turno anche se quel Drain Punch comunque ha fatto un 50% potrebbe essere error potrebbe reggere il secondo c'è da capire chiaramente Flatterman è esposto quindi se la potrebbe proteggere però dall'altra parte c'è comunque un Goldengo che altrimenti può continuare a flottare e riparte ancora la giostra torna la clava di Liana e la tipologia originale non è stata cambiata arriva su Flatterman secondo che io in due turni per Renzo Navarre che parcheggia il bus parcheggia la maschera in più arriva anche la Shadow Ball di Goldengo a più due su un Iron Hands che comunque se la tanca manco fosse un resistita e col Drain Punch limita i danni mandando K.O. finalmente quell'Hoggerpon ma mia questi vi caso che non hanno neanche bisogno di critare a questo punto in virtù dell'Intimidate che è assorbito e trasformato in un più uno in attacco adesso dobbiamo stare attenti se Nicolas riuscirà a ribartarla magari con una terra però vedendo che l'ultima slot è Amungus non è che faccia tanto diciamo contro Goldengo la vedo tosta ormai per Nicolas perché entra Rory Moon che si va a boostare la speed e quindi in questa situazione però non ha la terra e può ricevere quel Drain Punch da parte di Iron Hands è vero è vero Amungus può anche redirettare volendo per non fare prendere i Shadow Ball a Iron Hands così è infatti va a redirettare con Rage Powder arriva Rage Powder ma viene ignorato dalla mossa d'aria di Rory Moon che con Breaking Swipe va a calare di un attacco di un Amungus inutilmente ma di un Iron Hands e questo è importante perché il Mekitrain fa fuori quella Amungus il più due si fa sentire quel Nasty Plot calato turno uno da Renzo Navarro fa paga dividendi finalmente paga i dividendi e il Wild Charge va a colpire Goldengo un po' per scautare i danni probabilmente questa kill è stata presa anche in virtù dell'item di Goldengo perché di solito i 7 Nasty siamo abituati a vederli Leftovers oppure magari che so Citrus invece questo ha lo strumento per aumentare la potenza delle mosse di tipo acciaio di 1.2 e quando spammi la Metal Coperta la Metal Coperta che spammando i Mekitrain fanno i genti danni veramente più due quindi veramente un'esecuzione ma devo dire a partire dalla lead purtroppo Nicola se l'è rischiata veramente lì dando Landorus davanti a quella che è la pick più particolare di Navarro quale Logger Ponerba e da lì ha premuto sull'acceleratore perché più uno doppia stab più uno speed abbiamo parlato tanto di Christopher Kan come un giovane di talento campione del mondo in categoria junior eccetera 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 Navarro però con un'aggressività e gli occhi proprio iniettati di sangue a strappare il round 1 a morsi ammazzate chiodati tipo Erba perché allora Ogre Por Erba non sottovalutatelo mai perché è quel Pokémon che messo negli slot giusti e nei punti giusti della partita soprattutto se riesce ad assorbire un Intimidate col suo Defiant e poi cambiare in alberga memoria e quindi andare a più uno anche in speed e quindi calare quella tra virgolette Dragon Dance come l'abbiamo chiamata fa davvero male perché Ivy Cudgel 100 120 dalla maschera 240 dalla stab raddoppiata a più uno con il 50% di crit iniziano ad essere una serie di moltiplicatori che fanno tanto male anche perché ricordatevi sempre che Pokémon è un gioco di moltiplicatori ma vediamo chi li userà meglio questi moltiplicatori perché c'è finalmente un Italan che prova a arginare il problema Ogre Pongoldengo dal lato di Nicolas Can Sì questa volta non lead non lead saggiamente di Landorus Navarro giustamente dice non cambio lead praticamente vinto di lead chi me lo fa fare vediamo come ti aggiusti quindi andrà anche a scautare quelli sono gli aggiustamenti di Nicolas che posizionandosi con questa Italan Orb diciamo che fa bene e qui arriva di nuovo il potere della terracristallizzazione direttamente dal primo gioco dal gioco originale senza DLC perché qui un drago una testa di Charizard compare sopra le monetine di Goldengo e uno Spikeshield per andare a coprire quello che sarebbe stato un ottimo danno di Heatwave su un Oggerpond costretto a rimanere erba arriva il Follow Me per rindirizzare su un Pokémon Acqua l'eventuale Shadow Ball e un Make it Rain che comunque non avrebbe praticamente fatto danno a nessuno dei due ma qui arriva il Nasty Plot e un Heatwave che ora diventa da debole a resistita che non farà grossi danni pur essendo orb comunque viene contenuto bene diciamo che la Terra Drag è una delle migliori Terra in questo momento del formato per Goldengo perché si vai a resistere a tripla core fire water grass e quindi sta sul campo molto bene arriva il Follow Me di Oggerpond che di nuovo si riporta al centro dell'attenzione questa è un Ivi Cagel non bustata dalla maschera ma bustata dal crit e lo Shadow Ball va a chiudere questo double up su un redirector fondamentale per il gioco di Nicolas Kan però nuovamente è libero di calare l'Eatwave vediamo su chi missa missa su Oggerpone e qui il danno è ridicolo su Goldengo che ancora resta lì imperterrito cosa vedo non c'è Flutterman non c'è Flutterman poteva essere la risposta in questo momento per cercare di prendere il momentum e sparare un bel Dazzing magari anche Terato ma così purtroppo non sarà perché ha deciso di non portare solo dietro vediamo se comunque riuscirà a gestirsela magari con un fake out danno però manca la presenza offensiva per colpire bene quel Goldengo quindi c'è da stare attenti tra l'altro le mazze che ho date sono sempre una mina vagante perché dove sparano possono crittare quindi si vanno ad aggiungere quei danni di Maitky Terain quindi qui il momento offensivo è ancora tutto dalla parte di Navarro vediamo se deciderà invece di proteggere Goldengo aspettandosi un fake out mossa che potrebbe starci oppure deciderà invece di switchare magari Oggerpone per mantenere un po' una sorta di presenza offensiva Spiky Shield da parte di Oggerpone che va a coprire quella slot e immagino se ho capito un po' il game plan di Renzo Navarro che va a doppio proteggere entrambe le slot Cipettino di nuovo che arriva sull'Iron Hands come in Game 1 perché il fake out arriva sullo Spiky Shield e quindi altri 29 HP che vengono tolti Iron Hands e il Flash Cannon non impatterà per via degli esagoni evocati da Goldengo tutto fa brodo ormai con questi cipettini di Spiky Shield e qui c'è da stare attenti che abbiamo visto che comunque Goldengo è più veloce di Hitlarn quindi è anche un po' spreddato bisogna vedere se riuscirà a prendersi questa Shadow Ball più due più magari un doppio da parte di Oggerpone si aggrappa al potere della terra cristallizzazione Nicola Scan il cuore compare sulla testa di un Hitlarn minacciato dal Igor Spower ne presenta all'interno del set di Oggerpone Erbae ma arriva Livy Kajel ancora in predict che danni con il crit e ricordiamo che quel Goldengo ancora più uno libero di calare la Shadow Ball che va a prendere il K.O. su un Iron Hand da V ma occhio alla Hitwave che ora potrebbe dovrebbe necessariamente entrare colpisce Oggerpone che va finalmente giù e ritorna nella Pokéball di Navarro si vabbè Hitwave che entra ma Mackie Train che entrerà al turno dopo quindi voglio dire che mi sarà che sarà difficile da recuperare a questo punto per Nicola soprattutto perché appunto l'ultimo è Among Us peccato non abbia portato Flattermain e adesso si è veramente in balia di un M.K.E. Train più veloce si mi sa che ormai la partita è praticamente chiusa arriva il boosting speed per Ronin Moon questo ci rivela un set un po' più supportivo ma non serve si arrende Nicolas Kan 2 a 0 Fulminio rapido quanto la velocità di Oggerpone dopo aver terato Erba e un Oggerpone Erba che si prende la scena a mani basse a mani basse si si ma 2-3 clavate e via puliti tutti ma guarda ti dirò secondo me più che altro Nicolas ha sbagliato un po' il game plan o quantomeno non è riuscito a individuare bene quello che potesse essere quello più efficace e ci sta magari da un giocatore che è novizio nella categoria master per dire prendere un team così solido non sempre è facile individuare subito qual è il plan migliore contro team che non sono usuali perché comunque a parte si Loggerpone Erba comunque c'è un Goldengo con questa metal coperta non è sempre così usuale sono set particolari che non si vedono spesso ci sta che non avesse il plan pronto come magari si è preparato per altri team più usati più good staff contro cui magari si riusciva a giocare bene qui è stato un po' colto alla sprovvista c'è chi risolve le partite giocando a scacchi come Cugna e chi prende la clava e fa la gara chi picchia più forte la switch dell'altro Navarro vince vince clavando via letteralmente Lando Ironhands Hogar le ha clavati via tutti via via 2 a 0 pulito dei due assicurato sul 7-1 attualmente si va a giocare per l'8-1 non era 5-2 mi fai venire forse era 5-2 alla fine erano sul 5-2 si giocherà il Wind & Din adesso allora si va a giocare la Wind & Din che anche invece dovrà giocarsi la possibilità di toppare con la top 128 o comunque 64 essendo arrivato comunque bello alto di rating per raccimolare qualche CP che fanno comunque morale e fanno comunque punti ma certo ma ti dico probabilmente sarà il suo primo internazionale nella categoria Master secondo me il secondo perché anche l'anno scorso giocò al mondiale da Master fece dei 1 dei 2 passò al dei 2 con 5-2 e poi salirono si si no vabbè ci sta comunque si deve ancora chiaramente ambientare in questo tipo di ambiente da Master che non è per niente scontato anzi e poi comunque trovare sull'X1 Oggerpond erba non è comunque un plan che vai a studiare cioè i danni che ti può fare su un Iron Hands non li è un calcolo che puoi fare ma mentalmente non ce l'hai pronto fresco perché lo vedi di continuo si 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 per quanto puoi sapere quanto Iron Hands prenda giustamente sia da clava di liane di tipo erba che di tipo acqua che di tipo fuoco quello erba devi andarlo a pescare cioè non è ok mi fa questo eh no però se quello mi fa così allora sì ok mi ricordo bene dovrebbe circa farmi cosa cioè non è un ragionamento che hai rapido devi sempre ragionarci e quel ragionarci toglie tempo ti toglie energia mentale quindi comunque arrivare a fine giornata stanco al penultimo round contro qualcosa di particolare ti frega tra l'altro ti dirò invece è chiaro che Navarro avesse il plan pronto contro un team così solido sapeva cosa fare i 4 da portare erano quelli in quella posizione quindi magari lui ha potuto anche rilassarsi dire io faccio cioè io mi siedo queste sono le mosse che devo cliccare e vado così perché me lo sono preparato e questo è proprio il pro di giocare dei team magari più innovativi più particolari in cui tu sei preparato contro gli altri e gli altri non sono preparati contro di te ed è quel vantaggio in team preview di plan eccetera che può fare la differenza soprattutto magari contro giocatori più giovani sai quali sono i pro e i contro di queste best of 3 così rapide voglio prima i contro vuoi prima i contro no non ti voglio mettere in difficoltà no scegli tu va bene voglio i contro o i contro allora i contro è che noi dobbiamo alzarci andare di là a riposare i pro sono che noi siamo stati letteralmente qui 10 minuti e loro dovranno tornare di qua a me dispiace perché mi divertivo in realtà però vabbè arriveranno i franceschi dopo essersi riposato 12 minuti netti di pausa c'era in realtà perché dovevano cenare esatto hanno cenato probabilmente triturando il loro cibo e dovranno tornare qui quindi cerchiamo di prenderne un po' di tempo se avranno qualche segno di ops perdonateli speriamo che arrivi prima o poi un'intervista al vincitore in quanto comunque rappresentante del Sud America eccetera speriamo gli venga data appunto la possibilità di mostrarsi in streaming un'intervista salutare e infatti l'ho proprio chiamata perché c'è l'intervista la possibilità è una cosa che ha più iniziato il nostro progetto questo è stato il nostro progetto il nostro progetto il nostro progetto questo è stato un po' di questo è tutto ciò che ho aspettato non sono stai ma sempre sottotitoli all'inizio. You've had a lot of success, but the high-level players' cup matches that you had to face to win that championship, how does it compare to an international championship like this? Well, the main difference is that it's a person-in-person tournament. I haven't actually had the opportunity to play many ICs, only LA ICs. This is my third one, I think. e in level terms, in difficulty terms, I think it's similar to the Player's Cup because the Player's Cup, it was a very hard tournament as it is this one, but it's what I expected. And I think there's a lot of people that are really interested in your Ogre Pond, the teal mask version. A lot of people kind of sleep on it. They much prefer the water version, the fire version. So what led you to bringing the just basic Ogre Pond here at LAIC? Well, first, not many people expect it. Secondly, it hits very hard because it has the defined ability. It is a very good ability. And also, if I terror, I have the option to terror and gain a speed boost, which makes it very fast and KO many of the important ones of the meta. And I know you're from Peru. there's a lot of great Latin American talent here, obviously, in Sao Paulo. Can you speak about the Latin American VGC player base and just how talented the players are here in this region? Well, I think we have many good players. Unfortunately, we haven't had the opportunity to win. And I see that this is our goal. I think everyone in LATAM wants to win one finally, especially if it's home. I think it's going to be great to see what happens this weekend. Do you have any shout-outs for friends or family watching or friends to help you build your team together? Any shout-outs? Yeah, to all my premium friends for watching. A special thanks to my friend, Deo Gutierrez. I built this team with him. And to my family, my mom and dad, my brother, and my girlfriend is there. All right. Congratulations to Renzo making it to day two. You still got one round ahead of you. Try to get, try to, you know, try to stay strong, feel, feeling confident. But we are actually going to toss it back to the casters. So thank you, Renzo. Go enjoy yourselves. And we will rest to stay casters. Take it away. di Navarro, perché è il vincitore della Players' Cup 4. Il famoso Moltres di cui, Moltres Galar, di cui per tanto tempo si è parlato in quel del Mondiale per fatti molto particolari, in quanto il suo Moltres event è stato bannato. Sì, 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 era proprio lo suo. Preso una a una e messo dentro, venne bannato. Probabilmente un errore di lista a quel punto. Era tutto già pensato da Navarro, in realtà. Siamo giunti a questa conclusione. Un giocatore che comunque vince la Players' Cup. Ah, un giocatore super solido, chiaramente. Un giocatore di lunga data. Eh, infatti, è un giocatore storico. Perché dal 2016, che va avanti con tanti special event vinti in Sud America, in Peru, eccetera. Tra l'altro, top 4 alla Global Exhibition perso in top 4 da Bonanomi che poi si è portato a casa quel mini mondialito. Sì, sì, hai capito. Giusto ripercorrere un po' la storia, perché così lo conosciamo bene. È un giocatore che si è fermato molto, appunto, in questi tornei online, in epoca di tornei online durante il Covid, eccetera. E quindi adesso lo vediamo bene anche in forma. E chiaramente, come dici, la voglia di portare la Coppa a casa, c'è, si sente. E quindi chissà se riuscirà lui e il suo Ogerpon in questa impresa. Adesso ho ancora un round avanti prima di concludere questo day 1. e quindi gli auguriamo, dai, di riuscire a passare avanti. Comunque si è dimostrato solidissimo in questo set. E quindi qua si è vista completamente la differenza tra giocatore esperto, come dice, gioca dal 2016, ha vinto una Players Cup, ha vinto il regionale in Latam, contro magari un giocatore nuovo in questa categoria. È proprio il vecchio contro il nuovo. è l'allievo che deve cercare di superare il maestro e la prima volta che va e lo sfida prende solo pizze. Si cresce anche così. A un certo punto ne prendi sempre meno, sempre meno, sempre meno, finché non sei tu che dà le pizze al tuo maestro. Prima o poi succederà. È così che si cresce. Quindi ci siamo ricordati del Pamarest di Cannes, non ci siamo ricordati di quelli di Navarro, comunque alla fine abbiamo estrapolato tutti i suoi Result. Tra l'altro Result che vengono celebrati ogni anno da ogni evento internazionale da The Pokemon Company. Per chi se lo fosse perso c'è la possibilità di riscattare quello che è il Dragapult Terra Ghost di Gomez. Sì, che ha fatto la storia al night. Di quell'internazionale fantasma, no? Una finale tra lui e Ragav che è stata giocata ma non è stata giocata. Cioè, molto particolare. E tornando alla partita, quanto ora shifterà il meta su Ogher Ponerba? Dopo questa dimostrazione di forza di Ogher Ponerba, quanto durerà il periodo della gente che dirà voglio giocare Ogher Ponerba a tutti i costi per poi rendersi conto che trovano Rory Munter a volante e scopriano? Però comunque è una doppia dimostrazione perché ha fatto benissimo anche a Toronto nelle mani di Jamie Boycey. Quindi già vederlo sul 6-2, già vedere una top 4 in un regionale vuol dire eh, cavolo, c'è, può fare bene. Cioè, magari non è Rillaboom, magari non è Among Us, però c'è, può fare il suo critando con le mazzate chiodate. Quindi, perché no? Secondo me è uno di quei Pokemon che si può vedere sempre più spesso. Ma anche in virtù del fatto che con la sua terra va un più uno di speed e quindi può anche ospiddare i Scarf Shifu, i Scarf Lanzorus. In realtà è una pick particolare che forse è un po' sulclassata magari appunto da questi altri erba, Quaririllaboom, eccetera. Però di per sé è veramente un Pokemon buono. È una pick interessante anche perché va a gestire matchup come i Gustafoni, no? Sì, esatto, esatto. Va a soffrire un po' da quello che è Champaul Dragon. Ma poi il crit comunque ti va a rompere il calcolo perché comunque tu puoi... Lo devi sempre prendere, eh, il crit. Esatto, però comunque puoi dire io magari mi spreddo l'Iron Hades per reddere un determinato numero di Eevee Kudgel questo calcolo ti va un po' via nel momento in cui hai Eevee Kudgel dell'erba con Razor Crow che può anche critare quindi è un po' un'incognita. È un'incognita anche per chi lo gioca perché purtroppo è sempre una percentuale non sai se la prendi o non la prendi però è spaventosa molto anche per l'avversario che può rompere appunto certi determinati tipi di calcolo. Sì, il crit anche proprio a livello difensivo, no? Quando vai a statappare in difesa è vero che in Tolto Gudra non ci sono grossi stat-up difensivi in questo meta però sai, andarne ad ignorare intanto vai a counterare completamente d'ondoso. Sì, ah! Cioè è l'incubo di Cydonia se lo sognerà questa notte Ogre, Ponerba che... Adesso usciranno sempre di più... Che crita e cancella d'ondoso Certo. Anche perché poi ho più un outspeed di anche Tatsugiri Scarf Quindi sei finito completamente Perfetto, perfetto. E la fine cioè proprio sancita la morte di Dondoso A me è anche uno gioco che terra drago Ma ti crita uguale Ti crita uguale Ti fa male uguale Sì, sì Non importa No, no, però scherza parte è una buona risposta perché terra non terra comunque quando gli forzi la terra e magari dall'altra parte tu hai anche un flatter main a quel punto dici Ok, mi teri, ti spammo Moonblast Eh, ho detto questa È comparso Urshifu Gras Sì Beh, che però Ogher, Ponerba e Urshifu Gras cioè alla fine Esatto Noto delle somiglianze Sì Cioè, critare e critano entrambi One-shotare e one-shotano entrambi Allora Cugini Sono alla lontana Cugini E Tricrum Cavolo Allora, sono spariti tutti I Farigiraff Farigiraff è stato tolto Sì, Farigiraff Nessuno Un sacco di flatter main Però, tendenzialmente Non sono Tricrum Center Però, la imparano Abbiamo visto un IndyD Che impara Tricrum Ma non l'aveva Ah, tra l'altro Sì, abbiamo visto Dei flatter main specs Come Quartaslot A volte Perishong A volte Una Misty Terrain Una o il Misty Terrain Sì, forse è quello di Eric Rios Adesso non voglio dire cavolate Eric Rios Eric Rios Che aveva allenato Talmente con cuore Il suo Rory Moon Che era È tipo l'Ash È tipo il Gengar di Ash, no? Sì, sì Che a un certo punto Prima della Lega Di Spada e Scudo Torna indietro No? Accanto Con i suoi Pokémon Sì, sì E Gengar impara Willowisp E era riuscito Pure a dare Willowisp Anche a Rory Moon Ah, sì Solo lui può Solo lui può farlo È Rory Moon Di Rios Per la grafica Della Regione Internazionale Aveva Willowisp Tranquilli Non impara Willowisp Ve lo metto Per iscritto L'abbiamo controllato Ci siamo Fatti tante domande Da riguardo Però comunque Oggerpone è uscito In tutte le sue forme Dondoso ancora no Aspetta, quella roccia Io me l'aspettavo E basta Allora non c'è È ludica ormai È ludica che manca Gioca in D-D-Sesh Non c'è Oggerpone Roccia Ci sono tutti gli altri tre Oggerpone Non c'è Dondoso Ancora In nessuna delle tre forme Né speed Né attacco Né difesa Né stall Né senza Tatsugiri Né con Tatsugiri Né shiny Né non shiny Non c'è Non c'è Per ora non c'è Tricrum Ancora non si è vista Ma dai Non c'è Cresselia Un Cresselia Un Dusclops Non c'è Ursaluna Un Farigiraff Quanto meno Che fa finta Ecco Farigiraff Proprio qui ti volevo portare Eccoci Farigiraff è stato Perfino tolto Da quei good stuff No Come Di Rilla Urshifu Tornados Non c'è più Farigiraff Tra l'altro Anche Lattanzi Addirittura ha preferito Metterci un Nindidi Piuttosto Che il Farigiraff Quindi Boh vedremo Chissà se compariranno Tutte all'improvviso Il D2 Però per ora Di 8 round streamati Comunque Tricrum Setter Nemmeno l'ombra E neanche Nella lontana ombra Di Farigiraff Che ha fatto Veramente molto molto bene Nei scorsi regionali In questo formato Quindi Chissà Ha fatto molto bene Anche al mondiale Ricordiamo È andato a giocarsi La finale Nelle mani Di Michael Kelsch Giocatore tedesco E Tanti assenti Bandola ancora La Snow Completamente assente Anche Ninthers Completamente Fuori dai Rad Cos'altro Non abbiamo visto Tanti hands C.U C.U Completamente scomparso Ce n'è stato uno Uno che ha missato Overheat Poi dopo Basta È stato tolto Dal matchup C'è Empow Dragonite No però Sì La grande sorpresa Invece è Roring Moon Che ha preso Completamente il dominio Perché potendo essere Viabile In entrambe le versioni Sia Dragon Dance Che Tailwind Setter Si Viene essere un Pokémon Davvero molto Duttile Performante Che può essere Spammato in diversi team Per ricoprire questi ruoli Che comunque Servono sempre Dalle stat incredibili Quindi È la sorpresa Di questo internazionale In tanti ci hanno puntato Ti dirò Infatti secondo me Domani Sarà anche in usage Perché Sei nella top 12 Tra tutti i giocatori Vuol dire che È diventato quasi Un fenomeno proprio Da portare Ecco Un Pokémon comune Quindi Sta facendo anche bene Quindi mi aspetto Anche di vederlo alto Nelle top cat Domani All'inizio della giornata Di domani Quando verranno rilasciati Quelli che Sono i dati Della top 12 Dei Pokémon Più giocati Al Day 2 Scopriremo Se effettivamente Rory Moon È salito All'interno Delle statistiche Di usage Statistiche di usage Che ancora Dobbiamo scoprire E ancora Dovranno essere Influenzate Da quelli che Saranno gli ultimi Giocatori Ad accedere Al Day 2 E mentre Il couch Si arma di clava E maschera Noi gli passiamo la linea E buon hoggerpon a tutti Secondo me ci siamo Secondo me ci siamo Forse ci siamo La situazione è critica Perché ci è morta La call Con la quale Non abbiamo in questo momento Una spia diretta Per sapere di essere live E io non sto Visurando la febbre Vabbè Ma nel senso Comunque Hai l'atteggiamento Di un duro Che si Prodica Per la sua community Dove lo hai messo Il termometro? Nell'ano Dicevamo Dicevamo Mentre stiamo cercando Un attimino Di recuperare Le funzioni vitali Del qui presente Mentre stiamo Cercando di recuperare Le funzioni vitali Del qui presente Schermo Che ci ha Abbandonato momentaneamente Quindi non sappiamo Quanto siamo belli Ma adesso lo sappiamo di nuovo Adesso sappiamo Di essere molto belli Sì e malati Allora Quello però lo sapevamo anche prima Cioè nel senso Sapevamo di stare male Ma non sapevamo Quanto fossimo belli Nello stare male È vero Hai ragione Siamo belli e graziosi Anche stando male Ciò detto Cominciamo a tirare le fila Un po' di questo Day one Visto che loro stavano Cominciando a Parlare di usage Vado di cronaca? No aspetta Hai già tutti i risultati? Manca Tarlao Allora aspetta Di avere anche Tarlao Così li diciamo Tutti insieme Intanto Cerchiamo di predictare Quali saranno I top 3 Pokémon più utilizzati Del Dei due Due sono banali Flutterman e Aeron hands Perché è palese Più stiamo andando avanti Più Flutterman e Aeron hands Ci sono sempre Sul terzo invece Ho dei rubi Sul terzo potrebbero esserci Delle incognite Perché abbiamo visto Tanta roba diversa E soprattutto Tanti protagonisti Come dicevano i nostri colleghi Che in teoria Nelle chart Diciamo Dell'usage Anche raccolto online Dovevano essere Grandi attori Dell'Aic E invece Non lo sono stati Merillaboom Rillaboom Tornadus Se non è Tornadus È il Pokémon Che sarà più presente Come terzo Pokémon In Newsage Però avevi ragione Nel dire che Oggerpone Piano piano Sarebbe cresciuto Abbiamo visto Prima i due Oggerpone L'uno contro l'altro Se non sbaglio Un Ran 4 Poteva essere il 4 Il 5 Ma dovrebbe essere il 4 In teoria Perché loro fanno i pari L'abbiamo commentato loro E poi abbiamo visto anche L'Ogerpone Wellspring Di Cugna Quindi insomma Aveva ragione Forse Pardini Tenderà a salire Oggerpone Piuttosto che scendere Oggerpone è giocatissimo Quindi Il water Soprattutto Dimmi di ci vi è detto 37 e mezzo Non è male Non sta crescendo Ora c'ha Pesti tutti Si si Non c'è male Potresti fare meglio di così Però È vero È vero Però Nel senso 37 e mezzo Non è niente Se ho 39 o niente No no Sarebbe qui Stiamo male Noi siamo comunque Attiviamo un certo tipo di atteggiamento E poi 37 e mezzo Nel senso No ma questa secondo me È la febbrina Da mi sta venendo Il raffreddore Poi verrà Che si traduce Ok Ha senso Ha senso Però Godevole Godevole Fare l'internazionale Così è un po' come se Ci fosse una realtà A metà Tra la finzione Il vero Mi sento nel sogno Di terapagos Forse è tutto allora Quindi in realtà Non sta facendo altro Che promuovere Il nuovo dire Bravissimo Attraverso la malattia Allora È un modo Come un altro Alla fine Siamo qui Semplicemente Per fare metaspettacolo No quindi Abbiamo qui L'impersonificazione Io In quanto Don Doso Player Ti auguro ogni male Ah ok Ti auguri anche A tre totello Dai a questo punto Allora però Devo dire che Questo è anche Un momento di lutto Ormai arrivati Al penultimo Couch della giornata Perché abbiamo Fra in lutto Per la mancanza Di Don Doso Io invece Molto triste Perché avevo Dichiarato le mie Antipatie Non ho dichiarato Le mie simpatie Ok Giusto Amungus Nemico numero uno Ma Sono un grande amante Di Trick Room Sono un grande amante Di tutti i setup Che ruotano Attorno al concetto Di Trick Room Che ho sempre trovato Molto interessante Perché va a forzare Tantissime scelte Scacchistiche Perché poi Del Pokémon competitivo Quello che Vado ad amare Personalmente Proprio quel gioco mentale Il giocare a scacchi Quadridimensionali Prima ancora Di entrare in partita Vedere una partita Che è quasi Già risolta Da situazioni complesse Che un giocatore Legge meglio dell'altro E ho sempre trovato In Trick Room Alcune di questi aspetti Molto sviluppati Non vedere nessun Setter Non vedere nessun Setup particolare Non vedere magari Anche Qualche Ursa Luna Che tra l'altro Nella sua versione Blood Moon Mi è sempre piaciuto Particolarmente tanto Però Allora Io non mi spiego Il perché Perché con tutte Le priority Che abbiamo visto In giro E Extreme Speed E Aquajet E Grassi Glide Fare i Giraffe Oltre a essere Un Trick Room Setter E anche un famoso Blocchino Un famoso stoppino Di tutte le mosse Prioritarie Con la sua abilità Quindi Mi spiego in italiano Sai che non me lo ricordo Armatura Coda 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 armatura Tutto attaccato Tutto attaccato Strano perché Mente Occhio della mente Come cazzo si chiama lui Occhio balocchio È scritto staccato Mainzai E invece vede Coda armatura Ma lo io hanno Perché ho giocato Farigiraff Negli ultimi due tornei Ok Come lo scrivi Occhio della mente Mentocchio No no Si chiama Occhio interiore Occhio interiore Si chiama Comunque Interocchio Inter Milan Scherzi a parte Appunto Farigiraff Mi sembra Un Pokémon buono Al di là Della possibilità Di montare Trick Room Per la presenza Di tante Tante mosse prioritarie Zuccata morto Forse Non solo Zuccata morto Tanti Rory Moon Suggi Strattera morto E poi anche Tanti Rory Moon Che gli possono fare Knock off morto Capito Quindi forse Nasty Blood Meditri morto In risposta A tutte queste cose Che stai dicendo Alla fine Farigiraff Ok Avrebbe bloccato Le priorità Ma sarebbe morto Di tanti altri No Per l'amor del cielo In realtà Dicono Di super senso Perché Farigiraff È stratopic Nel team Sulla Rhinia Si gioca tantissimo Perché blocca Le contro priori Come dicevi Può essere Trick Room Setter Che anche solo Per Iron Hands Gioco Quale la candela Talvolta È vero Poi però Insomma Ci fermiamo Diciamo che Otto partite Su Un'internazionale Magari Stanno girando Magari tanti Farigiraff E per l'appunto Siamo state sfigate E non li abbiamo visti Non sembra essere questo il caso No perché ora stiamo arrivando Comunque nella fase finale Del torneo E ancora di Parigi Non si sente parlare Abbiamo visto Un team Sul 14-0 Quello di Marco Che è tutto Tranne che Trick Room Oriente Sembrerebbe andare In un'altra direzione Il trend Secondo me Di questo È tornato Il metagame È ben delineato Non è un caso Se a Lille E dall'altra parte Del mondo In America Con Sanbite Ciupro Svincelo Stesso Team Tailwind Urshifu Arkaizui Cienpao Botte Pedalare Anche perché Normalmente Ti rischi anche Dei colpi di culo Dell'avversario Pensate A Tailwind Rocks like Di Arkanahine Fleece È finita La partita Era quello Che dicevamo Prima Nel seminare Nel seminare Percentuale Volere o volare Adesso Tornado Stailwind Setter Più Questa roba Si è scoperta La sinergia Fra Ushifu E Arka Choice Band Poi c'è anche Taunt Di Tornado Se anche questo Non l'avevo messo Nell'equazione Poi c'è Rillabum Che comunque Ti serve Sia per offendere Sia per fare Fake out In priority Grassi glide E anche Andare a rompere Le scatole A quelli che potrebbero Essere i trick room Migliori Cioè Indigliano Rouge Che avevano avuto Un colpo di rene Ultimamente Stavano cominciando A salire Soprattutto nella versione Tremenda Wick Armor Sì sì Invece ti dico Proprio di sì Dopo quelli a Giorno Dondoso Che vengono quelli Con Wick Armor A Sacramento A Sacramento Ce n'erano diversi Ho scandagliato Tipo la top 64 E un paio Con Wick Armor C'erano Avete un gruppo Telegram Dondoso Wick Armor Un gruppo Telegram Si riuniscono Ciao Francesco No se possiamo giocare Di bastardo Sì 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 Tipo alcolisti anonimi Però Per chi gioca A lista aperta È più pericoloso Dondoso Che Wick Armor Perché Wick Armor È proprio turbo Telefonato Dondoso Ancora ti può dare fastidio Oddio Io Ne farei Biocombustibile Con tutte e due Però Sì Probabilmente sì Comunque Abbiamo risultati? Stanno Ancora giocando In diverse Devo dire che stiamo avendo Anche degli slot molto particolari Con alcune partite risolte Molto in fretta Altre che si prolungano all'infinito Senti ma io ti posso chiedere Come la giro E io non lo sai Come va il massucone? Dai Andiamo L'abbiamo lasciato sul 3-3 Italo Massuco Vediamo se Vado a arrivare Italo a questo punto Vediamo se è Italo Pokémon Italo o Pokémon Massuco? Te lo immagini? Allora Italo sull'ottavo round Attualmente lo vediamo sul 4-4 Vabbè dai Dai Continua a dare un colpo al cerchio Un colpo all'Italo Un colpo all'Massuco Esatto esatto È veramente nome nome Tutte le volte vinceva la partita Dice no Massuco E allora perde È giusto Italo e poi sul 4-3 Eh però Massuco Tra l'altro è andato sul 3-4 Per poi recuperare sul 4-4 Quindi siamo In traiettoria ascendente di nuovo Già in bifronte Ancora non ha deciso Potrebbe aver finito la sua parentesi Massuco per oggi Chi lo sa Se fa 5-4 già Adesso sappiamo da che parte cade Sappiamo se cade dal lato Italo Parlando però di 4-4 Ne abbiamo un altro invece in terra Perché abbiamo Marras Che non riesce a portare a casa il quinto punto Perde da Christian Ranger Brasiliano o Bergamasco A seconda della collocazione che gli vogliamo dare A livello narrativo Ma ha detto Power Ranger Ciò non godevole perché Dalla prima posizione Marras scenderà a questo punto Con un conteggio di 0-5 acquisiti o quasi Beh sto vedendo anche la Una stagione davanti Cioè è a 4-3 Vabbè ma capita Lo scivolone Non è che si può fare sempre Sto cercando un attimino Di win rate Per vedere come si va a piazzare Anche su un'eventuale 5-4 Intanto ti direi Di parlarci degli italiani Dei quali abbiamo risultati Così non rischiamo poi di arrivare in ritardo Sull'inizio del prossimo match Abbiamo tutti Tutti i risultati Si è chiuso adesso anche l'ultimo Che era Tarlao Che stava ancora giocando Tarlao vince Contro Kyle Ayala 6-2 Tarlao 6-2 per Cognetta Purtroppo Che perde contro Ugarte Potremmo Brutto Giuseppe Potremmo però avere Altro Ita in streaming Adesso Vediamo i pairing Perché potrebbe esserci una win in in Silva continua a vincere Silva 8-0 Silva Godo Violentissimo oggi Veramente inarrestabile Giusto così E ripeto Da una fotografia Evidente Senza massimo Quindi si Come situazione italiana Per adesso appunto Abbiamo Silva Che si porta a casa L'8-0 Contro Plasencia Abbiamo Cognetta Che perde da Ugarte Va sul 6-2 Da 6-1 a 6-2 Abbiamo invece Da 5-2 A 6-2 Quindi in rimonta Per Tarlao Contro Kyle Asala Statunitense E chiudiamo appunto Come abbiamo già detto prima Christian Rangel Che sconfigge Marras portandolo sul 4-4 Parlando di Marras Appunto Lo sto andando un attimino A cercare Per vedere se sul 5-4 Può comunque sperare In cut a 128 Con il win rate Ma Le dura La run è stata incostante Ha una resistance bassa Secondo me Però vedremo Vedremo Insomma Poi tanto i calcoli Li facciamo finito L'ultimo round Momento slide indorso Per l'Italia invece Perché possiamo Nel migliore dei casi Avvenne 3 su 4 Che sarebbe un risultato Non godevole di più Oppure 1 Che è comunque Un risultato godevole Perché era un 4 su 389 Però Insomma Ben diverso da 3 Ben diverso da 3 Anche perché Quei 3 Sono 3 Punte di diamante Certo Ne porteremo 3 Di cui 2 Sul 7-2 Che quindi possono perdere Domani all'incirca Una sola volta Anzi Senza all'incirca Una sola sconfitta Domani si possono permettere I signori Vedo che Pietro Squatta la testa Quindi magari potrebbe essere Un conteggio diverso Sono 5 round Credo domani Quindi forse Neanche una sconfitta Credo che questa sia La preoccupazione di Pietro Però vediamo Fatto sta che Speriamo di vederli Al tavolo Un po' di italiani Di nuovo Perché ne abbiamo avuto Solo uno in streaming Solitamente la regia Internazionale Ci grazia Con maggiore Luce di riflettori Staremo a vedere Abbiamo la classifica Ne approfitto anche Per una rapida lettura Sui Oppo win rate Siamo a 53,79 Che non è neanche Così alto Per Marras Che quindi Temo che Sulla prima giornata Andrà a salutare Anche la possibilità Di Cutta A 128 Lo penso pure io Amico mio Ma insomma Avevo questo dubbio Già da prima Vediamo anche gli altri risultati Abbiamo Da classifica Comunque appunto Stiamo vedendo Tarlao Cognetta Lattanzi Anche lui Sull'8-0 Stavamo aspettando Che si andasse a concludere L'ultima parte Continuano Su questo doppio 8-0 Silva e Lattanzi A braccetto Sulla mancanza Di sconfitte Ruiz 7-1 Abbiamo il Sempre glorioso Chupacross Sul 7-1 Chupacross Quarto Quarto Che è successo Agli altri tre Hanno figliato Quindi via via Quindi sono una questione Generazionale Non sono state Successione Lui è la mega evoluzione Cioè Tipo Il quarto Ah ok La linea di tre Poi Chupacross Quarto Solamente in partita Sì sì Ok È tipo Yami Yugi Yu-Gi-Oh Cioè diventa Yami Yugi Solo quando gioca a carte Lui è Chupacross Terzo Perché è cresciuto tanto Però poi Chupacross Quarto Solo quando imbraccia La switch Mi piace Mi piace come lettura Ugarte che come abbiamo Già detto Si porta a casa La vittoria Contro il nostro Con nazionale Costringendolo Alla seconda sconfitta E parliamo della vittoria Contro Cognetta Che lo porta Quindi al 7-1 Abbiamo Gomez Abbiamo Lorsi Sul 7-1 Che vince Contro Cugna Merda Gran risultatone Sì 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 Beh Abbiamo ancora Altri risultati Sì Guarda là Come si delinea Aggressivo e violento Sto dei due Qui c'è Qui c'è Tantissimi nomi 5 6-2 Che Castiglia Saluta Il Dei due Col 5-3 Juan Salermo Lo stesso Penghi Acast e Fanmotte Lo stesso Guarda quanti nomi Sul 6-2 Che se tu non Vedessi Se si diresti Magari su 9-0 Sì Sono d'accordo Sono nomi altisonanti Che mi Aspetterei di vedere A un dei due Di un torneo del genere Però insomma Vuol dire che comunque Il cut sarà Cruento E sarà cruento Perché al netto di Una Bella centinaia Di giocatori inesperti Se ne sono presentati 30-40 Veramente Veramente potenti Che poi saranno quelli Che immagino domani Si giocheranno il dei due Quanti ne passano 32 Sì Sul X2 Dovremmo avere Top 32 Sì O una manciata in più 34 Più o meno Secondo me Saranno i grandi nomi Più qualche Dipende poi Da Gli up pair Vari Down pair Che si creano Chi vince o meno Quindi Tra l'altro anche questo Ha reso molto particolare La giornata di oggi Perché è una giornata Che è andata ad impennare Molto in fretta Abbiamo avuto un inizio Giornata Molto blando Molto tranquillo Giornato quasi in automatico Dalla Dalla top E poi abbiamo visto Che i match Hanno iniziato a diventare Un pochettino più ostici Sì Sì In Ritardo Se posso permettermi Rispetto al solito Però Comunque Ci siamo Dal quinto round Abbiamo cominciato a volare No vabbè Sesto round Sesto Siamo Siamo secondo me In linea Con le aspettative Di quello che potrebbe essere Un internazionale In Sud America Sono d'accordo Senza Radial Scichismo Ecco Però Per tutti i motivi Che abbiamo già detto Secondo me è stato uno streaming Tutto sommato Super godibile Anche dal punto di vista tecnico Io mi sono divertito Ed è stata bella la storia Di queste partite Che come diceva Roberto Si sono Evolute nel tempo Come i pokemon Si sono stratificate Sono diventate Più Ciupacross 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 E' stata bella la mia forma finale Dopodiché E poi Adesso Vabbè basta Bello Bello Pazzotti E poi hanno iniziato a ingranare E sono d'accordo E è andata così Speriamo che questo Dei due Continui Il trend Insomma Il punto Che volevo fare Era questo Nel senso E' vero che un po' Destabilizza la giornata A livello di Ressa Sulla giornata singola Questa impennata Nel ultimo terzo Di giornata Perché comunque Con i nomi Con molti giocatori Che nessuno Sapeva cosa aspettarsi Neanche alcuni Dei giocatori stessi Il fatto che Ci sia sul terzo Finale di giornata Un'impennata così grande Crea delle grandi Aspettative Per il dei due A livello proprio Di gameplay A livello di Difficoltà Delle decenni da fare Secondo me Non verranno traditi Perché se i nomi Sono quelli E' molto difficile Poi ci sta anche La partita brutta Fra due grandi nomi E' successo Però è raro Perché ci devono poi Ci devono essere Degli incastri Particolarmente sfigati Ecco Quindi Personalmente Penso che domani Ci divertiremo Non poco Poi Io ritorno N'è finito C'è un altro round Oggi Io ritorno a punzecchiare Ma non vi state divertendo Di più del mondiale Di quest'anno Io si Ma ti ho fatto cacare io qua Ce lo dici di continuo Cioè Bro sì Ma perché Il posto è traumatico Ma perché lo dicevo Si sarebbe divertito di più Se l'avessimo frustato Durante la trasmissione Ma perché l'ho detto di continuo Anche durante l'evento Ho sempre aspettato Questo momento Nel quale il mondiale Il mondiale si sarebbe voluto Invece Day One È stato macchiato Da quel Stato un edging No ma da quel continuo Roberto Parente Sul 5-0 E no Bannato Via Ok D'accordo Fantastico Day 2 Ha avuto I suoi momenti Per carità Ma insomma Le partite sono state più brutte Che belle E anche la finale Secondo me Di gran lunga La finale peggiore Che abbiamo mai streamato Ma non perché i giocatori Fossero scarsi Ma perché c'era una differenza Tra i due Talmente tanto abissale Che non riuscivo neanche A essere coinvolto Insomma Era una mattanza Il povero Michael È stato distrutto Dall'avversario giapponese Shohei No come si Kimura Shohei Kimura E quindi Boh Rispetto a Anche solo Una bella finale Come poteva essere Quella di Sam Pandelis Non ha avuto neanche Delle giocate Rimaste nella storia Se vogliamo Il problema vero È che io riesco A identificare Ogni finale Di un mondiale E ogni mondiale Con un turno Della finale E allora vogliamo pescare Wolfie Glick L'entrata di Raisho Sul Thunder Ok O la Sword Dance Di Mega Raikwaza Sono entrambi i turni Focali e fondamentali Che raccontano il meta Non solo la finale Vogliamo beccare La finale di Sam Pandelis La breccia Il vela aurora La nuova meccanica Di sole e luna Era proprio didattica Anche quella finale Umbreon Finale del 2019 La picca esotica Che tant'esotica Non era Ci ricordava Il Paci Risu Del 2014 Davvero Giga Giga la marada Ok L'importanza dei dot Edu Cugna Contro Castiglia Il trapping in campo Come vedete Ve ne so parlare A Yosa Invece La finale dell'anno scorso Non ha un vero senso È Amungus Che addormenta tutti Ma in una maniera Anche diversa Rispetto allo sfruttamento Della trick room Di Arash Nel 2013 Perché non c'era neanche Una trick room Sfruttata C'era semplicemente Questo Amungus Che era nella posizione Con la terra acqua Di mandare a nanna tutti E Michael Che non riusciva a rispondere Quindi non lo so Non ho sentito Un turno Come mio Un movimento Di un giocatore Offensivo Difensivo Come identificativo Del mondiale Forse La Finale Semifinale In realtà Più emozionante È stata quella Italiana Più perché c'era Fede Campo in gara E quindi eravamo emozionati Per la possibilità Quel raggio di luce In fondo al tunnel Di un'Italia di nuovo in finale Però se andiamo a vedere Anche quella semifinale Tecnicamente Purtroppo è stata una vantanza Fede Campo è stato schiaffato Schiaffeggiato Da un faricera Per due game E chi si è visto Si è visto Quindi non lo so Tenderò a ricordare Quel mondiale Come un mondiale Che umanamente Mi ha dato tantissimo Siamo andati in Giappone Professionalmente Mi ha dato tantissimo Perché abbiamo Fatto uno sforzo produttivo Che mai probabilmente Si ripeterà O comunque raramente Si ripeterà Nella storia della mia carriera E della nostra carriera Come produzione Degli internazionali mondiali Però come Fan di Pokémon Vi giuro che lo dimenticherò presto Purtroppo Scusate È per Il dolore Essermi dilundato Ma volevo motivare il perché Perché se no Sai dire È brutto Sì ok Perché Perché secondo me Non c'è stato Quel momento Che viene messo nel cemento Come le impronte Degli attori a Hollywood Non c'è quella giocata Nel cemento Non l'ho trovata Almeno Non la ricordo Nel frattempo Vi aggiorno Sull'andamento Del campionato Stiamo aspettando Ancora una volta Un solo tavolo Per i payring Ma sei garbato Dovi è il mondo Abbiamo Cristiano Io mi riprisuro la febbre Allora ragazzi Dai Tu ce l'hai da fare Vediamo Vediamo se riesco a Hittare i 38 punti No ma con calma È soltanto mezz'ora Che è finita Facciamo una svizzera Poi su chi riesce a toccare Le temperature più alte Ed escludiamo Guarda io sto trascendendo In questo momento Sento sempre più L'anima che si separa Dal corpo Ok In questo momento Sono più o meno Altezza muro Anche se voi non lo vedete Ti interesserà sapere Che è ad aspettare Impedirci di avere È un X-A Deitalo È Ivo Avido Ivo Giorgini Che ci portiamo dietro Ancora una volta AR Che mi pare fosse Arezzo Sì AR Arezzo Ok Ok C'è Ptis 2 E Aretino Quindi ok Abbiamo Ivo Giorgini E di Arezzo Per forza E dall'altro lato Cristian Andrade 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 BR Bergamo Quindi Bergamo Arezzo È l'unico tavolo Che ci impedisce In questo momento Di avere un round C'è grande campanismo Fra Bergamo e Arezzo Sì Non sapevo Anche il cancio Ok Ok Stanno facendo Le predict Sulla mia febbre Grazie ragazzi Se volete fare una poll Secondo me Sempre 37 e mezzo Perché è quella Che stordisce Di più 37 e mezzo 38 Sei praticamente Il mondo Di suoni Non te ne accorgi Se non è chiaro Di là che si la ride Dice 37 e mezzo Non è neanche febbre Può essere Io 37 e mezzo Trascendo Quindi secondo me È rimasto 38 in realtà Stai bene Cioè 38 Sai di avere Cioè meglio 36 Molto Molto quasi Perché Sei come il condo Non è la febbre Ma disinibito Perché dice Vabbè sto male Quindi è normale Che io possa comportarmi Da persona con la febbre Ho fatto la mia personale esperienza Abbiamo Un racconto dal vivo Scusa ma Vieni No 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 In queste condizioni no Con la febbre Io ho passato 30 anni A dovermi scontrare Con il fatto che Forse possiamo Essere tutti d'accordo Che il problema È la variazione Di temperatura Certo A dove parti Una temperatura Che è standard A x E poi scopri Il giorno dopo Cioè 2 gradi di più Stai male Non è A quale grado Arrivi No Questo significa Che se io arrivo A 37 Ma parto Da 35 E 4 Per me è febbre Per il mondo No E quindi Se io ho 37 Sto una merda A te la temperatura Io ho la temperatura Di base A 35 4 Pensate Ok Consuma poco A me fa straridere Pensare A questo momento Come il momento Nel quale il responsabile Dei pokemon company Dice 2500 spettatori All'11 e 4 Bravi ma che fanno E ci sono io Lo si E chiara che parla Eba 35 37 Escursione di 2 gradi E febbre E loro Boh Va bene Ragazzi mettiamo a budget 5 termometri E la febbre Perché fa spettatori La febbre 2 Un film Di Bruno Liegi Bastogliegi Ivo Avino Tanto c'è già E infatti Mancano Hector Sciamena Rupert Sciamena Cioè sulla lore Di Maccio Capatonda Non mi batti Ok Io ho avuto Questo bivio Della mia vita Apri un canale In teorie Su pokemon Su Maccio Capatonda Poi è andata Come andata Ok Però comunque Erano Hector Babonde Hector Baboden Baboden Sì Fabio Di Nino Fabio Di Nino Grande classico Amalia Freglioge Amalia Freglioge Amalia Freglioge Amalia Freglioge Hanno messo che Round 9 Ci sarà Con le diapositive Dopo Up Next Up Next Ah vabbè Sì Ma è 20 minuti Di Up Next Però abbiamo i pairing Abbiamo Però abbiamo i pairing Di giocare I due Sì Ivo Avido E Ciccio Castrani Di Unreal TV Bellissimo Il ladro Sta per rubare I soldi Dall'ATM Scappa dalla polizia Non riescono a prendere E poi La svolta Il ladro Vede la madonna E c'è E c'è sto ladro Che si ferma In mezzo alla città Oh Bellissimo Quello è Jim Messie Per me Quello è Fra Con 37,8 Di febbre Il risultato è quello Le reaction A Unreal TV Se non parte Il round 9 A poco tempo Per partire Dopodiché Trasformiamo Questa diretta In Unreal TV Che viene mandato Nel background Dei caster Anziché La mappa Di palzare Mi piace Però con l'audio Qui siamo noi Eh Perché attenzione Questa Questa terapia Della madonna Dicevamo Prego Prego Vabbè Stavo per fare Delle domande Infacibili Su questa diretta Quindi Torno a parlare Un attimino Del torneo Un minuto Al temperatura Reveal Silvalattanzi Silvalattanzi Forse Tarlao Allora Abbiamo Tarlao Contro Gomez Bella Quindi Tarlao Gomez Ultimo vincitore Delle internazionali 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 E peraltro Stanno distribuendo Anche il suo Dragapulto Grande furto Non inteso Come immediato E attenzione Grande furto Inteso Come furto Ai danni Della community Americana Che aveva In tutto il resto Ah In quel senso Sì sì Certo No no Gomez Ha fatto Un internazionale Incredibile Sarebbe un frutto Non farcela vedere Gomez Gioca a Dondoso Ah vabbè No Dondoso senza Tazugiri Onorevole Con Tazugiri E fa schifo No no Dondoso ci sta Con Olè La versione Sbadiglio Che ti forza Tra l'altro Degli switch Secondo me Qui con Le sword dancing In giro Nasty plot Aspetta Nasty plot In realtà Non lo freghi Se non con Wheezing Perché lo tira Col Dengo Quindi in realtà L'Ognone Non glielo fai Però comunque Forzare via Uno switch Secondo me È sempre utile In un meta di pokemon Che vogliono rimanere A fare danni Però è l'altro Gomez questo Ah non è Alex No è Renan Ah Eh Tarocco Quello di Bish Mi dispiace Mi dispiace dirvelo così Ragazzi Ragazzi Temperatura reveal Temperatura reveal Sempre 37 e mezzo Ve l'avevo detto Preciso preciso Sì 37 Quasi 6 E no perché C'è un Comunque una discussione Allora è più 37 e 6 Ma anche prima era così Quindi sono stato impreciso È la stessa Temperatura di prima Che ha scritto 37 e 5 Secondo me merita comunque La vittoria Adesso vi aggiorno Va bene Allora a quanto pare Stanno andando Per la Vox Populi In questo momento Per decidere Quale match Streamare Cosa significa E lo stanno facendo Decidere la chat Nella prima volta È stato fatto anche Durante il round 1 Durante il primo E l'ultimo round Faranno decidere Alla Vox Populi Che cosa mandare Ragazzi andate a votare Andate a votare Se c'è Vabbè Tarlout Se c'è Tarlout Andate a votare Tanto li sfondate Con i vostri voti C'è problemi Andate a votare Nel caso E poi in questo momento Abbiamo un potere Mediatico Praticamente Superiore Alla portata Stessa Credo che dobbiate votare Attraverso il sistema Di poll di Twitch Non attraverso Sì Ma Pietro fa no Quindi non c'è Tarlout Non c'è Tarlout Niente ragazzi Non andate più a votare Niente Andate così Tarlout Privato di ogni gioia Tarlout Non c'è più Ok Bike Confe Confe Ah ma Tarlout Non c'era proprio tra le opzioni Per qualche cazzo di voti Vabbè no Vabbè però Abbiamo avuto uno Ed è stata veramente una bella partita Se fosse stato Alex Gomez Secondo me l'ha mandato No infatti ti stavo dicendo Con l'altro Gomez Secondo me ci sta come scelta Tarlout Non ha vinto nessun major Se la memoria non mi inganna E Ma fatti top 8 All'Ewik l'anno scorso Sì però se devi mandare i bike Tra bike e Tarlout Devi mandare i bike Eh no La bicicletta Non bello Come sono messi noti Si spera molto in Bike Comfort Qui sappiamo Ma è giusto Ma è giusto Ma è giusto così ora Scherzi a parte Ok ci fa piacere vedere gli italiani Che quando ci arrubano dai match importanti C'è che abbiamo anche Ma qui va benissimo Bic contro Bic contro Confer Confer Che l'anno scorso Venivo a farci una pc Cazzo un confer Americano Era in vacanza A 5 tele Venivo a farci una pc A San Giovanni Vandato Me l'avevi detto Maledetto lui Cioè te vai a prendere il cielo E il cielo Cazzo un confer Avevo un Dannato bisogno Di fare il cielo Ma è tranquillo No no Sfigo cazzo Perché almeno Però insomma Te lo ritrovi lì Dici cazzo ci fa cazzo E no Eh sono in vacanza Sono una prova Io penso che Morirò clinicamente Se il round over Dovesse cominciare Detto 5 minuti Quindi Se non incomincia È stato bello Streammare per voi Per 8 anni Sta cominciando a colare il naso Le mortacci tua No no è finita ragazzi Sarete tutti appestati Per la fine dell'internazionale C'è Jokes on you Io sono arrivato qui Già malato Ah quindi è colpa tua No Ah che stavi male Già quando sono entrato Quindi non puoi dire Ah non ci siamo visti Non ci siamo visti Io spero nel periodo Di incubazione Per riuscire a tornare a casa Domenica sera Così ti ho malato Il games week proprio Però Non ho visto te Ma ho visto Chiara Che avrebbe potuto Quindi fare da vettore Ma Chiara non è stato male Potrebbe essere Asintomatica Potrebbe essere un vettore Asintomatico Sai cosa secondo me Te la posso buttare lì Vai Il Luca Comics Allora quello è stato Leggermente letale Per veramente tanta gente Che ne pensi Il Luca Comics Tornare a leccarsi dal vivo Con migliaia di persone Dopo tanto tempo Che gioia No ma io probabilmente Sai dove l'ho presa Finale di live tunes Era un bel po' Eh anche lì ok Al fresco Eh sì Ed è anche più plausibile A livello di finestra temporale Perché Luca ormai Ci siamo lasciati alle spalle Da un po' Troppo indietro Anche virologo Bravissimo Bravissimo E il virus di domani È dondozo Speriamo che sia Si dà casualmente Il caso che Medicina e chirurgia San Raffaele di Milano Quindi in realtà Anche Sono catturato da questa narrativa Non so dove andrà a parare No non capito No quindi Come virologo Sono quasi più esperto Come virologo Che come conoscitore Di Pokémon Nonostante Come mai Io si Per sbaglio Sono complici di più Praticamente Un giorno Sono È comunque più interessante Di aspettare Sono inciampato Sono inciampato Dentro ad un'aula Universitaria Del San Raffaele di Milano Però hai in mente Quelle situazioni Dove ormai sei lì E dici Pare male Che faccio Non lo faccio Un percorso Quinquennale Esatto Pare male dire Vabbè raga Però io Non No scusate Mi sono sentito in imbarazzo E quindi sono rimasto Già laurea Cinque anni No Ho interrotto al quarto anno Il quarto anno Ho buildato il coraggio Per dire Ah comunque raga Io non dovrei Ho sbagliato Ah quindi è un inciampo Durato quattro anni Poi ti sei rialzato No era solo caduto Sì esatto Molto macho capafondica Questa Per chiudere il cerchio Quindi Sì Sì Questa è una È una storia Strappa Una lacrima Strappa Storie Sì sì Una volta Se esiste un dio Parte tra dieci secondi Il round nove Contiamo Dimostriamo Contiamo Per la teologia Del cilurso Contiamo insieme Ragazzi vi giuro Comincio a credere No io dopo il terzo Vilo Svispo Ho smesso Vi giuro Attenzione Mi confermano dalla regia In questo momento No E poi inizia No Cioè ci potremmo stare anche Perché è confortevole Credere dico Non fare un round nove Va bene Ma credere Alla fin fine Ti senti meno solo Invece no Mondo grigio è il mio Aggiungo dei bit Di corno Molto particolari Un mattino Un emu Ha provato ad impedirmi Di entrare in aula Cos'è un emu? È tipo Un ostruzzo Quello che usavi Per scaricare la film E lei è il mule Quando scaricavi Pokemon 3 Entai Lo scopo sbagliato Sbagliato Dicevi Provare Secondo me Secondo me La più grande Opera Di marketing Terroristico Verso l'utenza Nell'epoca Di emu E comunque Del peer to peer Selvaggio Vin Diesel Che chiama il suo film D'azione XXX Quello è stato La peggiore opera Ma ha distrutto Generazioni A seguire Guarda io ho L'aneddoto che ho già raccontato Mille volte A miei utenti Ma lo racconto anche a te Vai C'è un software di musica Non so se lo conosci Per registrare le canzoni Che ora non si usa più tanto In studio Però ai tempi Si usava veramente Un fottio Che è Cubase Si Non so se lo conosci Mi sono fermato al 4 io Ok fantastico Io avevo già cominciato Da un paio d'anni A suonare la chitarra Quindi registriamo qualcosa Perché più che altro Vi faccio ridere Ho pubblicato anche Dei video su YouTube Che trovate ancora online Sul mio canale Francesco Cilurso Insomma che era il canale Di me che Stimpellavo la chitarra A 14 anni E facciamo anche altre cazzate Fatto sta che avevo Cubase piratato E quindi c'era Su questo Scusate Mi scuso col signor Cubase Purtroppo I tempi erano quelli che erano Quindi Tanto è in prescrizione ormai Quindi Avevo Mi ammettere il reato Avevo questo disco Della versione X Di Cubase Ok Cubase X E mia mamma Una sera Arriva con una furia In stanza Con questo disco in mano E mi fa Francesco Ma almeno puoi evitare Di lasciare in giro Cubase X E io Ma è mamma Wow Wow In realtà Era Cubase X Già E quindi tu avevi il disco Di Cubase X In giro per casa Però bello pensare Che esista un porno Ambientato a Cuba Allora nel senso Statistica Presuo più duro Sì ma qual è la lore Fumano i sigari Non penso Che sembra una lore Combattono il capitalismo Con il sesso 39 di febbre Ragazzi Siamo neanche a round 9 Se già a round 4 Stavamo doppiando i caster Cosa vi aspettavate A round 9 Chi responsabile The Pokemon Company Si collega Perché fanno 2500 Spettatori Combattono il capitalismo Nel sesso Signori Dite all'autore Di cambiare tutto Play Pokemon Invadi Cuba Da domani Da domani Le domande sono Come battere il capitalismo L'internazionale di Cuba Però io lo vorrei vedere A questo punto Il prossimo internazionale Lo vorrei a Cuba Territorio che comunque Certo Sì Vabbè Chiedo alla regia Se quantomeno esiste ancora Un avenue a San Paolo Si è stata distrutta Nel mentre No Stanno giocando per la strada Adesso Cosa fanno Ma cosa cazzo Stanno facendo Ma cos'è Il meet and greet Di Junichi Masuda Ma prima vede Ci sa da fa Il meet and greet Di Italo Masuda Junichi Masuko E ragazzi Secondo me E come E come il maestro Buse Che si scrive A Tenkashi Che il tuo nome Jack Chan Si leva la magia E io des E raga Qui è un momento conviviale Che poi in realtà Se ci pensi E' veramente Molto imponente Come IGN Per presentarsi A dei tornei Videoludici Di qualsiasi disciplina Cuba Sex Come si Tornando al discorso Di cui sopra Ci sono già Minotti Dieci account Su Simulatori Adesso Devo provare Alloccare Urgentemente La cosa Puoi fare come Quelli che hanno Già L'endol E lo vendono Al miglior offerente Perché Il prezzo Andrà Skyrocket Dopo questa live È vero Che è paradossalmente Molto capitalistica Come cosa Dopo questa live Mi fa una settimana Se va avanti così Va bene Comunque con calma Tanto voglio dire No Ma abbiamo però In compenso I paling del day 2 Che si deve iniziare Abbiamo Sappiamo già Chi è passato Sappiamo già Chi è passato Guarda Ci sono i giocatori Che stanno aspettando L'ultimo round E qualcuno fa Guarda mi fermo qui Tranquillo Lascia stare Non ho neanche dormito Alcuni di loro Effettivamente Non hanno dormito È tipo Lo squid game In realtà L'ultimo round Non comincia mai E passano solo Quelli Stoici Che a un certo punto Tirano fuori Tipo la capanna La tenda Posso giocare la snap Intanto No 1v1 vai Aspetta Perché devo sapere Che Kennedy Durante i ritagli Snappiamo Nel dubbio Oddio Attenzione No ma che dici È arrivato Flavio del Pidio Attenzione Che c'è Che c'entra Non lo so in piedi Ovvero Flavio Lo salutiamo Ok ok Chi c'è Questo promette bene Come scenario James Beak Carlson Compton Ah già è vero Riconosco Riconosco Gattone E Carlson Compton Io mi andrei timidamente A posizionare Nel desk No perché Ho paura che se lo faccio Con troppa vemenza Si alza Nel cinema Se lo fai troppo convinto Di poterlo fare Tu puoi fregare Andiamo No guarda ragazzi C'ho bozzi No Andiamo Allora io inizzerò Una lunga E lenta Presentazione Del desk In modo che voi possiate Lentamente passeggiare Si guarda Guarda Lui fa Guarda Lui c'ho Si può cifrare Lui sia figlio legittimo Mi rinizzo C'ho L'agendina Della blind Randy Scarlatti Violetto L'ho messa Un attimo Da parte E niente Mi sono segnato Le mosse Quelle forti Ciao E niente Ti dicevo Mi sono segnato Le mosse forti Per fare Delle grandi play Cosa c'è lì sotto Mi sono calato Un attimo addosso Perché comunque Andiamo a commentare Ma lì Ma lì l'hai fatto? Eh sì E purtroppo Scusami Ladies and gentlemen Amici sportivi Il momento Che avete tutti quanti Tanto 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 Atteso E finalmente Arrivato Dopo l'otto Incredibilmente La scienza conferma Eserci il nove Nell'ordine Dei numeri E questo ci porta Finalmente Alla fine Della giornata Al round nove I nostri caster Sono quasi pronti Come già detto prima Se la stanno prendendo Molto con calma Ma perché? Per potervi garantire La creme Della creme Della creme Di quel poco Che rimane Della materia grigia Di Francesco Cilurzo Che troviamo Al caster desk Ben ritrovati Tutti amici Videospettatori Qui è il buon Saidonia Francesco Quel che ne rimane Pardini E ci prepariamo A chiudere le tende Del sipario Dei campionati Internazionali Pokemon Latinoamericani Di San Paolo Una giornata Che in questo Ultimo round Deciderà Non solo L'esito Della run Di Confer E Beck Ma soprattutto L'esito Dell'andamento Tricolore Con quattro Giocatori Che si sono presentati In venue Uno Già qualificato Al dei due Due che potrebbero Entrare Per il rotto Della cuffia Con il risultato Di 7-2 E chiudendo un attimo Il cerchio Su questa cosa Possiamo dire Che in quanto Giocatori del livello Di Deil Cognetta E di Tarlao Si devono qualificare Per il rotto Della cuffia È vero Che il torneo È cominciato morbido Ma si è indurito Nel corso dei round Anche abbastanza Repentinamente Infatti abbiamo visto Sti giocatori Fare 3-0 4-0 E poi cominciare A collezionare Dopo il quinto round Le prime sconfitte Sì Un livello Comunque Insomma Non travisate Quello che è stata La nostra filosofia Di narrazione Alto Perché è un internazionale Diciamo La curva Della difficoltà È stata all'inizio Un pochino più dolce Salvo poi Ovviamente Per costruzione Gironi Svizzero Salire Fatto sta Che vedremo Anche nel caso Gioratori non italiani Ma di un derby A stelle e strisce Una partita di qualità Probabilmente Perché vedremo James Beck Contro Carson Confer Con team Anche sembra Abbastanza interessante E qui la febbre Mi scende Amico mio Perché finalmente Vediamo Regi Drago Regi Drago Che ho provato Veramente tanto Nella scorsa Regulation Purtroppo non con Grande successo Perché è un Pokemon delicato Che richiede un po' Di setup Contorto Soprattutto attraverso La gestione del suo Teratipo Che ai miei tempi Era acciaio Dall'altra parte Abbiamo Bramblegast Che è Dimostrato essere Grande compagno Di merende Di Tornadus E del vento in coda Sicuramente Doppio vento in coda Sarà Una delle equazioni Di questo Ultimo round Vediamo poi Un Intimidate Solo dalla parte Di Carson Confer Vediamo un Goldengo Da ambe due le parti Un Urshifu Che verosimilmente Sarà acqua E un Ciu Che era un po' Scomparso dai radar Negli ultimi round Sì Con un Tornadus Ancora sempre presente Che ancora una volta Viene scelto Da James Come il suo Pivò Della manovra Offensiva Diciamo che James ha sempre Utilizzato Tornadus Qualora fosse viabile Non ti ricorderai È vero Hai ragione Quindi Si riconferma Giocatore di Tornadus Il vero re di Tornadus Con Chiogre Con Ushifu E qua con Bramblegeist Peraltro Quindi Veramente interessante Ma guarda Lore nella lore Se l'è sempre giocato Con Rain Dance Oggi se lo gioca Con Sunny Day Probabilmente Per aiutare La palla di attivazione Di Flutterman Dopo la consumazione Del booster energy Ciu Che ha E2 Wave Attenzione però Perché il Goldengo È terra acciaio Quindi il Sunny Day Gli dà fastidio Anche in terra Perché va Potenziare Le mosse fuoco Che gli possono arrivare addosso Vediamo il set di Regi Drago Che subito Mi interessa E cattura l'attenzione È un set base In realtà Non c'è grande Inventiva e fantasia Terra Steel Dragon Fang Drago Energia Drago Bolide Geoforza E protezione Eh qui sono danni Qui sono danni Dragon Energy Con Dragon Small Lo smascellamento Del Drago 1.5 Di moltiplicatore U-turn Urshifu U-turn Urshifu Sì che sullo scarf Legit E ti aggiungo un altro dettaglio Come nel round di Silva Abbiamo un Tornadus Spettro Quello di Confer E un Tornadus Acciaio Quello di Bic Quindi un Tornadus difensivo Per Bic Che aveva la Covered Clock L'anonimanto Strumento introdotto In questa generazione Che protegge dagli effetti secondari Buono Perché Bruciapello non parte Per esempio Il che giustifica L'assenza del Terra Ghost Non mi serve Diventare Spettro Assolutamente Per evitare Problemi di tentennamento Sì hai visto bene Red White Terra Grass Rillaboom Una Terra che comunque Abbiamo rivisto È una Terra per menare Per fare male Avere magari il Grassi Glide Potenziato Dalla doppia Stab Oltre che il campo Oltre che la donata Priorità Quindi secondo me Non si sbaglia Soprattutto in un mondo Di Urshifu Che potrebbero essere Un po' più bulky Terra Erba Arrivederci Se mi rendo conto Che è così Ti dà quel surplus Di danno in più È la Terra normale Di Arcanine Può essere Sì 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 Che con il campo Insomma quando tu aggiungi Un terzo moltiplicatore Alla Stab Ed al campo Insomma È una Terra anche Molto Molto valida Si gioca anche Nel team di Sula Rinia Con Maira Col Seed Proprio per avere Un quarto moltiplicatore Dettato dall'oggetto Attenzione perché Il Tornadus invece Di Carson Confer A Rain Dance Quindi ci potrebbe anche Essere questo Questo gioco Di Weather War Magari Infatti sarà Secondo me Chiave di volta Della partita Capire chi Dei due Tornadus È più veloce Non solo perché Ci potrebbe essere Una Black Queen Storm Che parte prima Ma perché ci potrebbe Anche essere Talvolta Qualora il Gioco di Meteo La Weather War Dovesse diventare Topic Della partita Essere importante Il Tornadus Più lento Ma hai ragione Perché setta Per ultimo Ma è vero Direi Di Lasciare da parte Le chiacchiere Perché si parte Con Tornadus Arcanine Lato Carson Confer Contro Tornadus Goldengo Lato James Che mi dici Di queste lead? Beh Due Tornadus Chiaramente Che come era prevedibile Vogliono subito Mettere la table Non partire di Tornadus Contro un team Che ha Tornadus Potrebbe essere devastante Se non si hanno Pokémon come Ironhands In grado di poter Un attimo gestire La situazione Quindi Tailwind Da una parte Tailwind dall'altra Vediamo Vento in coda Per Beak Anche poi Per far beneficiare Di questa Volata Il Bramblegast In the back Flare Blitz Nella slot Di Goldengo 13 HP Però Goldengo La regge Un po' di recoil Per il cane De sasso Che il sasso cane Non è Make it rain E qui la metal coat Fa tutta la differenza Per prendere chiuso Arca Che buetta Signori Arcanine Tra recoil Make it rain Va giù Nonostante sia Una per uno E Tornadus Prende una bella sleppa Deve entrare Urshifu Però attenzione Perché c'è Bramblegast Lì dietro E più che altro C'è anche una Black Windstorm A andare A rendere difficile La situazione Per questo Urshifu Da notare Il Tornadus Di James Beck È più veloce Del Tornadus Di Carson Confer Quindi Qualora dovessero fare Tutte e due Sunny Day E Rain Dance Si andrebbe Poi a vedere Una partita sotto Rain Dance Perché partirebbe Prima Sunny Day Ma verrebbe Subito Sovrascritta Abbiamo una Terra Acqua Di Urshifu E vediamo Se arriva Proprio Il momento Sole che arriva Sole che se ne va Sunny Day Per James Beck Il sole è cosciente Ma subito va via Il pardo L'ha predictata Comincia a piovere Quindi questi pugnazzi Surgici Sono ulteriormente Potenziati Boom Una hit Ne bastano Due signori Calcio Pugno La combo è true La juggle funziona Tornadus Se ne torna In the back E quindi In che senso? No quella è in the big Ah ok E quindi purtroppo In the back the big In the back the big E quindi purtroppo Non ci sarà più il sole Perché il sunset era morto Guarda questo Guarda questo Questo qua Che in grafica Danno specs Ma Ah è specs Non è metal coat Avevo visto una metal coat Probabilmente nel team di Di Carson Non mi sono bevuto il cervello Però Vabbè ci sta Fatto sta che Comunque Finisce il lavoro Fa anche un buon danno Tutto sommato Sul Shifu E qui La rain Ne può Usufruire Anche E direi soprattutto Il L'Urshifu Di back stesso Attenzione però Perché entra Rilla boom Qui ci stava meglio forse Bumblegast Sì però Non poteva saperlo Se ti mette Se ti mette Tornadus Quindi Vediamo un po' Qui Tornadus è andato che io Quindi questi erano i due Perdonami No niente Vediamo i monstri ovviamente Tutte e due Normal Allora Quindi Diciamo sì che Entrando Rilla Carson Non è messo Malissimo Perché qui c'ha Fake out da una parte Surging Su Su Goldengo O ancora Addirittura Su Shifu Sarebbe anche potuta Starci perché Comunque Un make it rain Meno due Se lo sarebbe potuto Gestire per poi Killarlo dopo i grassi glide Portarsi avanti Con il lavoro Su Shifu Io Ti dico la verità Sarebbe fatto Questa Questo Surging Terra water Sotto rain Sull'urshifu Di back Però l'ha vista così L'avrebbe portato anche in range di grassi glide Peraltro Ora arriva Bramblegast Ora però E non avrebbe lasciato lo switch in Peraltro Corretto Ora invece arriva Bramblegast Che può counterbeccare la situazione Windrider Ma capite Counterbeccare Ma che bravo Però sarebbe counterbeccare Detto ciò Abbiamo un Windrider Più uno Non occulto Per la balla de fieno De Paldea Che va di sneak Che secondo me Terra Più uno Non coglierà la fila Pizza e birra Va bene Va bene Mi fido di te Rimane nel rosso L'uomo dei calcoli E con quasi 38 di febbre Non ti contesterei mai A stento lo faccio a 36 No più che altro C'è anche il recovery di grassi terra In un 110 di Mentre Mi ho spento la luce Il calcio coffe C'è un 110 C'è una bella difesa Di un scifu Che Fa decisamente Comodo e piacere Arriva la terra Cristallizzazione Ti do un surplus Di commentare Perché ti vedo In low battery Tranquillo Tranquillo Abbiamo una terra cristallizzazione Spettro Le anime di Lavandonia Convergono Sulle punte Sui rovi Di questo pokemon Ha una fisionomia molto strana Furti Bombra Per sfruttare Botte Priorità Ma la kill Come aveva detto il buon pardo Non arriva Acquagetta Cercare di chiudere il lavoro Niente Urshifu è ancora in campo Grassi Glide Fa male Ma non prende la kill È un turno di uccisioni Eggiate Surging strikes Secondo me Qui invece Fa grande sesso Perché purtroppo L'elemento erba È stato perso E qui It's cotton Qui è finita Qui è finita Però No aspetta Sì no è finita È finita Ha vinto Ha vinto Carlson Ovviamente No 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 Mi stava Scureggiando il cervello Tranquillo È comune In questo momento Dopo 12 ore Dobbiamo imparare A tenere botta All'ultimo round All'ultimo round Ci smontiamo sempre Non abbiamo più le tane La vera La vera Potenza È non smontarsi Neanche all'ultimo round Faccio meno fatica Ai turnei Te lo giuro Mamma mia Infatti guarda The battle was cancelled 1-0 Per confer Purtroppo Non entrando In quel turno Con Brambleghast È andato un po' A meretrici Certo Non poteva sapere Dell'ingresso di Rillaboom C'è anche da dire Che Brambleghast È vero erba Però sotto rain Da surging Era water Secondo me muore Ah sì Tre colpi anche con l'erba Allora Facciamo un ragionamento Veloce veloce Insieme Surging strike Sul ghost Quanto ha fatto? Due hit Di cui una ha tolto tipo 80 HP Credo Quindi vuol dire Che se fosse stato erba Gli avrebbe fatto una metà E quindi hai ragione In teoria Sono 40-80-120 Metti anche Che ha rollato bene Gli avrebbe fatto 35 35 per 3 Fa 100 5 Quindi sarebbe Stra venuto giù Quindi Il La partita Come immaginavo Si è vinta Da chi mette Il meteo Per ultimo Cioè quindi che lo lascia Quindi da chi ha Paradossalmente il Tornadus Più lento Che non avendo taunt Perché c'hai Sunny Day Non è un problema Diventa un problema Adesso è più veloci Mi ritorna È un motivo per il quale Io giocavo Markro Un punto più lento Dei Tornadus Non tauntabile E Sunny Day Sempre posta Ci fanno rivedere Il replay Della partita precedente Quindi ce lo gustiamo In attesa del prossimo game Abbiamo la Terra Water Di Urshifu Che colpisce E affonda Il Tornadus Guarda Hanno ripreso Proprio Quel momento Cruciale Nel quale Andando giù Tornadus Poi la Reign È rimasta Come unico meteo Come unico meteo A boostare A boostare proprio Questo danno Che non avrebbe protetto Brambleghast Neanche con l'elemento Erba Aveva preso Molte più Aveva preso 90 40-45 A colpa Avrebbe preso Quindi Perché ok E Erba Regge Però C'è la Terra C'è la Reign C'è i crit E c'è Brambleghast Che non è propriamente Paolo Maldini In difesa Ecco Sono d'accordo Sono d'accordo Bisogna cercare di sistemare Quindi questo game 2 Tu non punteresti Su Brambleghast Dunque O meglio sì Ma giocandosi meglio Il Sunny Day Il problema è che Però come fai Esatto Cioè Come fai A giocarci meglio Il Sunny Day Mi sembra di no Mi sembra Black Windstorm Rain Dance Protect Mi sembra di aver visto Da tutte e due le parti E Tail Wind Anche perché Quello acciaio Quindi verosimilmente È simile a quello di Marco Lì ho punti A tirare giù subito Il Il Tornadus Però Ha un po' le mani legate Bic Nel senso Se l'altro mette Rain Dance Mette Rain Dance C'è poco C'è poco da fare Magari avrebbe potuto fare Quel turno lì Black Windstorm Però Ti dico Anche complice Il fatto che Carson Confer Quando ha fatto quella giocata Che non mi è piaciuta Andando a chillare Col Dengo Che lo assimilo Anche come un mezzo Errorino Avrebbe potuto Anche vincere Meglio Carson Confer Quindi questo è sintomo Del fatto che Non è in un cattivo spot Vediamo Può indubbiamente Cambiare Può partire Forse direttamente A un Brambo Però c'è Arkana Innisui A rompere le scatole È un po' È un po' Difficile Per Per Beck Perché questa velocità Negativa Mi riporta alla mente Il meta Di bianco e nero Quando il Weather Setter Per abilità Più lento Aveva ragione Per ultimo E qui Purtroppo La situazione è simile La situazione è molto simile Perché Se la Reign Rimane in campo Come avete visto Quell'Urshifo è inarrestabile La Taunt Che comunque Beck dovrebbe averlo Grazie per l'aiuto Il problema è che Se fai Taunt E non fai Tailwind Ti prendi Faccio per dire Una frana Hai ragione Però intanto Non gli fai mettere la Reign Secondo me è peggio Fagli mettere la Reign No Così non devi si anche Ovviare Tailwind Sarebbe Sarebbe proprio Tra l'altro Il Tornadus Più veloce È il suo Sì Magari non ha fatto Taunt Perché non lo sapeva Adesso lo sa Potrebbe starci Speriamo allora che vada così Speriamo che questo Taunt Speriamo che Dato la partita cominci Mi sembra Cioè potrebbe No? Buona idea? Che idea che ho avuto eh Io sto Cercando Di rimanere in vita Con tutte le mie forze Tra l'altro Se continua così Avrò Zero ore di sonno Per domani Perché ricominciamo Intorno alle 12.1 Quindi Spero che finisca presto Perché sono le 23.50 Manca ancora il game 2 Forse il game 3 Infatti non me ne voglio Gli abic Ma spero che perda 4-0 Nel primo minuto Barra 30 secondi Spero che Scivoli su fuga Tanto poi dobbiamo aspettare Il tavolo 374 Quindi Dopodiché Mi auguro Che i risultati Arrivino presto Presto Intanto È arrivato il game 2 E noi ce lo andiamo a gustare Eccoci qua Tornadus Tornadus Arca da una parte Col dengo dall'altra Allora prego Raccontami un po' di queste lead Beh Carson potrebbe Rifare Flair Blitz Oppure potrebbe decidere Di andare di frana Andandosi proprio A annusare magari La possibilità di Un Taunt Da parte Di James Beak Quindi voler andare Anche a danneggiare Fortemente Quello che poi È il cardine Nella partita Ossia proprio Tornadus Attenzione Perché arriva subito Una Terra Invece Lato Proprio Carson Confer Che decide di diventare Terra Water Qui di resistere Quel making train Che nel primo game L'aveva portato K.O. Sì sì Terra Water Arcanine Abbiamo visto le Terra Di tutti i tipi Su questi Arcanine Fairy Normal Water Un Pokémon Dal Terra Tipo cangiante Ma è giusto così Dimostra la velocità Del meta E la sua varietà Terra Steel Doppia Terra Turno 1 Stavolta Per questo game 2 Terra Steel Più Choice Packs Questo coso Mena ma l'acqua resiste Vediamo un po' Vuole tirare giù Tornadus Lui con questa Terra Ma Carson Confer Se la sniffa Questa giocata E va a proteggerlo Attenzione Guardiamo Potrebbe tauntarlo Sì Potrebbe Però bisogna vedere Vediamo se ce l'ha Bisogna vedere se Frana Frana Extreme Speed Questa comunque Frizza secondo me Infatti Questo 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 Crit Ah ok Troppo potente Francesco Ragazzi Un crit comunque Più 50% Quindi avrebbe frizzato Lo stesso Qui ha frizzato Veramente tanto Questa è la capacità Dell'occhio a mandorla Che ti permette di fare Il crit che ti porta Il make it rain successivo Intanto Fier Blitz Regge a 33 HP Il signor Goldengo E si brucia Ma non serve a niente Questo No Questo burn Perché tanto è in range Di qualsiasi cosa Il recoil Non basta Prendere la kill Grazie alla recovery Di citrusa Taunt make it rain E si sta Si sta comodi Si sta comodi In virtù di quel crit Bastardo Di James Bastardo Pezzo di merda No il crit Ci mancherebbe Il crit è un pezzo di merda Ci mancherebbe Ci si vuole tanto bene A James Hai ragione Qua Tornadus Pratica chiusa Per la gioia di un game 3 E della mia salute Della mia salute Vediamo un attimo Saluto io E la salute pure Mi saluta Salve signora Tutto bene Vediamo Vediamo Se invece Confer riesce A raddrizzarla Intanto Rillaboom Entra in campo E con lui Il grassy surge E quindi Il campo erboso Recovery per tutti Coloro che toccano terra E grassy glide In priorità Inoltre Terremoto Depotenziato E tutte le mosse erba Più forti Taunt Sul Rillaboom Che si incazza e basta Io sono entrato qua Sono al tamburo E tu mi dici Che mia mamma Fa quelle cose Intanto Make it rain E questa rifrizza Spex et era anche a meno uno Anche sull'assault west Questo è un bel 60 Attenzione Arriva sul Rilla Va donk e donk Poteva anche grittà Dai A sto punto Fallo durare poco È giusto Meno due Meno due per Goldengo Ma farà ancora male Sì sì Perché ci sono troppi Multiplicatori positivi No poi arriverà anche Arriverà un fake out Probabilmente Su Goldengo Perché non può farlo Su Tornados È Covered Clock A uno dei treddoni Della morte Per potersi nascondere Poi arriva Blik Sì Arriva James Blik James Blik Windstorm Esatto È lui È lui Che ha cura di cento Immaginati James Bik A torso nudo Su una nuvola Va bene È la febbre questa Ragazzi Fate fitto Di non aver sentito Niente Questo è uno sprazzo Di salute È uno spiraglio Nel buio Arcanine se ne va E al suo posto Entra Tornados Mi pare una grande idea Ma lo scopriremo presto E niente Vuole prendere Grandi botte Grassi Glide Non fake out Ma indifferente Anzi meglio Guardiamo se riesce A doggiare il Black Windstorm È qui Deve Deve evitare Text Frizzo Deve evitare Perché se no Rilla va giù Attenzione evita Attenzione evita Proprio Rilla Il potere dei campioni Ma prende il meno uno Te lo dico No Non lo prende Gli serve E non gli serve È vero Qui gli sarebbe Indubbiamente servito Di più Hittare Rilla Boom Comunque Entra Bramble A più uno La cui terra Non è disponibile No Perché ha terrato Goldengo Goldengazio Però il Tailwind Dà la possibilità A Bramblegast Di andare a più uno Con Windrider C'è ancora C'è ancora Un gustoso Taunt Grassissimi Glide Scrivono in chat Enormi Glide Sono delle scivolate Corpose Metà del campo È occupata Da questa scimmia Gigante Che scivola E qui Protezione di Tornadus Con Taunt Che arriva Giustamente Per bloccare In maniera precauzionale La Tailwind E un Polchiegeist Ma prima Un altro Grassissimo Scimulone Grassissimi Glide Sul campo Per questo Ultimo round Attenzione Vediamo se Ita Yaya Arriva il Poltergeist Grazie Grazie Rolli Scimmia Non scivola più Scivola dentro Pocket Scimia Scimia Di merda Scimia Di merda Ragà O ci permettete Questo momento O io domani Ascolta Merono C'errone Al giorno Va tirato Eh ce l'ho Nel contratto E' vero Poi oggi Niente Indirium Rouge E quindi La forza Non è espanso E poi Il pubblico Di Albania Che ci segue Sempre Deve anche Sentirsi a casa Ragazzi Se non sapete Qual è la reference Cercate il video Pietra miliare Di tube Toy Story In Albanese Veramente Una Kikarara Bellissima Che mi fa ridere C'è anche Neck Cantato dagli ucraini È fantastico Comunque Al di là di questo Allora Abbiamo Qui Un Bramblegeist Che Torna più zero Perché arriva L'intimidate Di Arcanine Arcanino Cane Cattivo Che però Non puoi Impedire Cane guarda Altri fastate Dietro me E Urgifo Tu non hai paura Di miei amici E Arcanine Sono albanese E allora Cisciaro Orso di merda Che è pure un orso Bene Ti stai sdando Sento Benissimo Che arriva la provocazione Ancora E cosa dice Ecco E qui arriva il flare blitz Però attenzione Nella slot di Urshifu E Barna E Barna Siccome immobile Dato il mortal sospiro Guardiamo se prende il burn No Un recoil Che fa poggio E buca Che fa pari Peraltro Non so se lo sai Verissimo Poggio più buca Uguale zero Esatto La matematica Secondo gli antichi Certo Certo Era l'abaco Con poggio Da una parte E buca E dall'altro E quindi Occhio perché qua Beck la sta gestendo Non facendo mettere La Tailwind A Carson Molto Sconfere Perché è sconsolato Di questa cosa Insomma Sta gestendo la partita Entra Bumbleguy Sta accanto Ancora una volta Al Tornadus E il Breakwind Store Connette E prende la kill Che è importante Entra amico mio Su entrambe le slot C'è pure un meno uno Ma soprattutto Una kill Su Arcanine E anche l'internazionale Di Arcanine di Isui Eh fratello mio Eh sì Ne abbiamo visti tanti E tutti cruciali Tutti cruciali E qui il Breakwind Va soltanto A pompare L'attacco Di questo Brumblecoso Che oltre che Rotolare Finalmente game 3 Volevo stare un altro Pochino qua Sì Quindi godo Godo tantissimo Sì 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 Che bello Viva James Bick Viva Tijuana Ti auguro assolutamente Bick di vincere Anche il prossimo Perché guarda La gioia che tu Mai regalato Stando ancora in piedi A mezzanotte Un 38 di febbre Una cosa unica Se ti trovo dal vivo Ti stringo la mano Forte Eh A questo punto Vediamo forse uno switch No Non ci ripensa Non penso ce ne sia Bisogno amico mio Nel senso che Qui c'è Brumblegeist A più uno di attacco Non c'è la rain Brumblegeist Che va peraltro A più due Quindi potrebbe anche arrivare Power sweep Lui può Avete Ha colpito E fatto male Hittando Perché James Bick Si è dimostrato Essere quanto meno Amico stretto Della fortuna E qua E qui Più tre Giustamente Busta ancora Con Bleak Queen Storm Brumblegeist Non può far altro Perché è stato provocato Quindi in realtà Io prima ho detto Una minchiata Dicendoti Brumblegeist Sta male Aspetta quale Perché No no Vabbè A parte Tornadus Vivo Ho detto Che Tornadus Sarebbe stato utile Contro Brumblegeist Ma non è vero un cazzo Perché Windrider Gli fa assorbire Anche Bleak Queen Storm Completamente dimenticato Questo ruling Giusto 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 E qua Finita E quindi in realtà Brumblegeist Perdonami Nel game 1 Stava bene Un po' dappertutto E assolutamente Chi Cosa succede Se però Confer riesce a mettere A Daylwind A Rain E Terror Shifu Quello che è Un Pokémon gestito Un Shifu E non li spengono la luce Ragazzi Basta Stanno andando a casa Anche loro Sì come A Torino Esatto E qua Bellissima abilità Windrider Che tra l'altro Ha risoffiato vita Anche in Shifu 3 Sì Sebbene Ti dico la verità Brumblegeist In virtù Della mezzeria Ghost Invece che buio È meglio Perché comunque Non prende close combat Un Shifu Vedi Ruota tutto Intorno a quello Un Shifu Un po' Gnocca del metagame Cioè Mio dio A gira e rigira Siamo Va bene va bene Pardo Te li concedo Tutte Perché è già tanto Sesso in piedi In questo momento Bene Tira più un pelo Un crito Assolutamente Assolutamente Tante altre cose Che possiamo raccontarci Alle 23.58 Assolutamente Ti prego Confer Pigea fuga Madonna Non ci puoi fare niente Non ci puoi fare nulla Cosa vuoi che faccia Tornadus Ce n'è tre Vividi Madonna Che vuoi fare Tornadus Uno te lo ciuccia Il vento Cosa pensi di far Pigea fuga Buono il vento Ascolta un po' Me lo giudi Un altro pochino Per favore C'ho la scella Pezzata Vedi che anche il camera Mentre si è rotto il cazzo Pigea fuga È finita No niente Niente Sta ragionando No no Sta pensando a game 3 No vabbè Scherzi a parte È giusto Infatti Usa tutto il minuto e mezzo Anzi 45 secondi Per pensare Al primo turno E alla lead del game Successivo E qui tornadus Ancora una volta Scherzi a roto Ed essendo una win and in Non dobbiamo fare buffoni No È importantissimo Che Confer Si prenda tutto il tempo necessario Impossibile fare buffoni Vi prometto Che nel terzo game Non faremo buffoni Ragazzi ho davvero la febbre Se sono io che riporto Pardini alla serietà Cioè Vi garantisco Che in game 3 Non faremo I buffoni No Saremo serissimi Ci si prova Ci si prova Saremo serissimi In game 3 Ve lo garantisco Caro mio Bella partita però Bella partita Cavolate a parte Hanno giocato molto di più Attorno ai Tornadus Eh ma Ora che si sa Che c'ha Taunt E che sa D'essere più veloci È una chiave di volta Anche essa Confer Ha atterrato Quell'Arkney Si è preso anche Quel crit bruttino Su Arkney All'inizio di Perché si è preso Si è preso Un 80% Che quindi per definizione Doveva essere Un 55 Sarebbe rimasto comodo Poi prendeva almeno uno Prendeva comunque La Citrus Insomma Stava indubbiamente Un po' meglio È vero È una partita comunque Sempre sul fiore del rasoio Perché da una parte E dall'altra Devono tirare I Blackwing Storm Chiaro c'è Bramblegeist Che ne abusa Anzi Dei Eh Di questa Di questa possibilità Quindi comunque L'equilibrio è abbastanza Labile Vediamo Che capacità di adattamento Adesso di Carson Bramblegeist È un Pokémon Chiave per Bic Perché gli permette Di sfruttare Sia la propria Tailwind Che assorbire Il Blackwing Storm Avversario Sul quale Confer fa tanto affidamento Si sono ribaltate Le situazioni Perché Prima vedevamo Il Tornadus lento In vantaggio Non sapendo neanche noi Della Taunt Per La possibilità Di mettere per ultimo La pioggia Ma adesso Con il Taunt L'equazione è all'inverso Perché è il Taunt Che minaccia Che come vedete Costringe Tornadus Alla Protect Tornadus due volte è entrato Per fa Protect Perché altrimenti Ti sarebbe preso il Taunt Però Taunt Protect Sei più passivo tu Che lui Perché intanto La slot accanto al Tornadus Che fa Taunt Per fare Shield Poke Della Protect Del Tornadus avversario Può attaccare Può prendere delle kill Può cippare gravemente Se avuto lui Tornadus Terra Steel Confer Avrebbe quasi potuto Lidarlo Farsi far Taunt Terare Reggere il Make it Train Terra Steel E tirare un Blackwing Storm Frana Blackwing Storm Flare Per andare per i danni Vuoi mettere la Tailwind Vuoi tauntarmi Intanto Non la metto io Ma non la metto nemmeno Perché ti killo Il turno che fai tanto Il problema è che È anche Terra Ghost Quindi comunque Da Make it Train Terra Steel Specs Fa veramente un po' fatica Comunque Vorrei portare anche l'attenzione Di anche che Pokémon Sia Goldango Per me il Pokémon Forse Singia Churra Bravo Di questa generazione Ma è palesemente voluto Anche per via della posizione Nel Dex Per la specialità Con la quale Lo si ottiene All'interno del gameplay Goldango è nato Per essere sotto i riflettori Luke Game Freak lo ama E ci sta Alla fine Luke Game Freak decide I propri bambini Che ruolano GG Drago GG Drago Godone Godone Sinceramente però Davanti a Goldango Non mi pare una grande idea Però Lo terrerà Steel Lo terrerà Steel Probabilmente Noto anche Con piacere Steel Beam Non so quanto Fire Power Su un eventuale Steel Goldango Un settantello 65 Come piace Raggi Drago Lo guardo con affetto Perché è un Pokémon Evidentemente non ha Molte altre alternative Potrebbe anche Le dad di Urshivu Water Secondo me Intanto ha terrato acciaio Come dicevi tu prima Tornadus Sì per non prendersi Il Dragon Energy Però ferma i lavori E no L'acciaio è solamente Di Bic L'altro è Ghost No no Terra acciaio Regi Drago No 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 L'analisi che facevi prima Parlavi di un Tornadus Esatto Ho detto se ce lo avesse Potrebbe essere un'opzione Invece non ce l'ha Tutta storta sta terra Qui lui protegge Terra Steel da una parte E dall'altra Bellissima Però la costruzione Sulla terra Sì 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 Tutta storta Il fatto è che Vediamo O fa air power Su Tornadus Ma sarebbe Cioè veramente Un Il giocatore uno Crit A riederci Bene Partiva finita Questa però sculatina Questa sculatina C'è da dire Che quel Regi Drago C'è da dire Che confer se ne andava C'è da dire Che quel Regi Drago Non mi piaceva molto Non è che abbia Sconfitto la pedina Che altre sia Avrebbe dettato il ritmo Della partita Più cato perché Non l'Iddare di Urshifu L'Iddare di Urshifu Gli avrebbe anche permesso Di poter giocare Sul 50 e 50 Di back Di dover far Sunny Day E non poter far Taunt Cioè se avesse fatto O magari ti fa Taunt Fai doppio attacco Bleak Queen Surging Allora A Thunderbolt Col Dengo Ok Però puoi anche Usarlo come bait Lo levi Si locca su Thunderbolt Butti Regi Drago Ma intanto guarda qua No qui è finita Sta andando a meretrici Perché c'è il Taunt Più Last Ball Che No no Qui è abbastanza finita Surging Che peraltro Non prende Mai nella vita Non prende kill Né niente Perché è scarf Quindi non è missy quarter Mai nella vita Fratello mio Lui come kill La Tornadus Ha vinto la partita Se continua a targettare La Non basta Bisognerebbe che qui Droppasse Tornadus Ma tutte e due In realtà Non arriva nemmeno uno Perché allora Con la scarf Forse sotto te Non sarebbe stato più veloce Può fare fuga Qui se non arriva Se non arriva Alla voi Di break Ma insomma Qui la partita È decisamente Ben indirizzata Al di là del crit Mi permetto di dire Che Gigi Non c'entrava niente No Non è stato un gran Non è stato un gran gameplay Come hai detto te Poteva partire di Ushifu Decidere per i danni Ha sempre fatto Delle giocate status Che non funzionano Con quel taunt più veloce Avrebbe dovuto menare Partendo con Ushifu Chiaramente Non è che è fatta Perché l'altro Ha Sunny Day Però se parti con Ushifu Comunque lui Sunny Day lo deve fare O fa Sunny Day O fa Tailwind O fa taunt Qui entra Rillaboom Per cercare poi Di glidare Magari nel turno successivo Però andrà anche a curare Goldengo No qui entra addirittura Il Black Wind Guarda che danni Qui Shadow Ball A coprire credo La slot di Ushifu Meno uno Che non serve a nulla Perché tanto c'è la Tailwind Finish Power Bolt Sì sì Placement Non so cosa possa fare Per le lavatrici di domani Bruttissima partita questa Sinceramente È stata Non in match Deturpata Anche da questo Crittone Turno uno Sì ma Non era il migliore Del game plan Non muore Regi Drago Il primo turno Che fa? Eh no no Non lo so Caduto il governo Tecnico Sono d'accordo Shat Mario Draghi È entrato Stavo crittato Al voto della fiducia Ai Tornadus Ed è uscito Che è come un Matteo Renzi Qualunque Con il colpo di mano Ti fa cadere Ti fa cadere Con il crit Con il 3,8% Fa cadere un governo È proprio la politica italiana Grassi Glide Come vi dicevo Non sarebbe bastato 15 PS per Goldengo Blink Winstorm Colpisce entrambe le slot Rillaboom rimane ancora in vita Solamente per vedere Un testicolo viola Che piano piano Andrà verso di lui Guardatelo È carico di energia È una palla d'amore È una palla di vita Che scoppia in faccia A Rillaboom E arrivederci e grazie 4 a 0 di lead Carson Confer Non passa al day 2 Mentre James Beak Con il proprio Tornadus Sì Ho finito l'energia D'accordo Finito Basta Finito Con testicolo Io ho decretato Proprio la fine Hai detto giusto Io non aggiungo altro La ragione è lui Partita decretata Da Latin Preview Mi fa ridere Che Carson Confer Si sia preso Un minuto e mezzo Del game precedente Per partorire Regi Drago Sì esatto Io Metto Regi Drago Io gli faccio Madonna se metto Regi Drago Ha fatto 3 seghi Allora lì Terra Steel Immagino Air Power Però Air Power su Goldango Non Stub Non Dragon Fang E comunque Prendi Sboll No no Cioè poi Rimani lì A prendere quello dopo Tu no dopo Prendi Taunt Fa Black Windstorm Non killa Non lo so Rifà un po' Pasqua Di domenica Lì secondo me L'unica era Mettere in lì Durcifu Terarlo Per non prendere Il Black Windstorm Pazzerello di Beck Costringerlo quindi Ad avere Sia l'esigenza Di fare Tailwind E di fare Sunny Day Nel giro di YouTube Non poter quindi Fa Taunt Di prima scelta Perché se fa Se tu fai Tailwind Surging E lui ti fa Taunt Non ha messo Tailwind Non ha fatto Sunny Day Goldango si piglia Un Surging Terra Water O lo fai anche Su Tornado Se risolvi il problema Se fa Tailwind Tailwind Sei più veloce Se fa Sunny Day Ti hai messo Intanto Tailwind E dopo puoi fare Rain Dance Senza che lui Ti taunti prima Perché Cioè quindi Secondo me Urshifu Water Poteva essere L'opzione migliore Ora Carson Confer Non è certamente Un Un giocatore Cioè Carson Confer No Scars Quindi Evidentemente Avrà pensato Avrà pensato A qualcosa Che noi Non abbiamo pensato Però Col senno di poi Il ruolo Dei Casters Anche quello Di essere un po' Critici Insomma Rage Dragon Non mi è parso Un grande Gameplan Secondo me Anche la pressione Di non trovare Una via d'uscita Pokémon è anche questo E anche trovarsi A un certo punto All'angolo Nel dire Io non so che fare Davanti a sto tornamento Quante volte capita Di dire Io non so che fare Ne parlavamo All'inizio Di Live Oggi La capacità Di adattamento Con la terra È fondamentale Perché Con il fatto Che questo cubo Di Rubik Della personalizzazione Delle terre Avete visto No Quello che dicevi Anche tu prima Alcana In oggi Abbiamo visto Tutti i colori Terra Water Terra Fairy Tu non ti puoi mica Preparare Uno scenario Un game plan Per ogni singola Ramificazione Ormai con tutti gli oggetti Che ci sono E con le tipologie Che ogni giocatore Va a scegliersi Quindi la capacità Di adattamento Sul momento Sul pezzo Il saper riadattare Al di là di quello Che si è preparato A casa È fondamentale E è quello E' quello che poi Di fatto Contradistingue I campioni Da AAA Rispetto Ai campioni Che stanno Uno stage sotto Beck Insomma la storia Parla per sé Aveva perso il primo game Si è saputo Riadattare bene Anche con quell'informazione Di ok Ho il Tornados Più veloce Vediamo a questo punto Che cosa dirà Bic durante l'intervista Io credo che La pronuncia sia Bic Signori Non vi vorrei Rompere le scatole Ma se non sbaglio C'era stato un round table Sulla pronuncia di Bic E alla fine C'è stato un simposio Nel suo stesso canale Abbiamo sentito Che si presenta Come James Bic Magari Faremo una nuova indagine Per scoprire Se la pronuncia È corretta o no E decidere una volta per tutte Insieme a Gravui 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 Gravail Gravail Dove stanno Gli accenti E quali sono le vocali Giuste da pronunciare Abbiamo già i risultati Degli italiani Secondo te Perché è stato lungo Secondo me sì Perché sono state tre Mi dicono di sì Mi dicono di sì Mi dicono di sì Dalla regia Quindi questo significa Che dopo L'intervista Che credo ci sarà Voleremo direttamente Al couch Per sapere I risultati Degli italiani Comprendere Se ne abbiamo portati tre O se ne è portato solo uno Vedere quell'uno A che risultato Lo abbiamo portato Perché anche questo è importante E Poi Ultima cosa Ma non meno importante Aspettare Tutto il ranking Del dei due Quindi scoprire Quali sono gli altri avversari Perché ok Ottimo sapere Quanti italiani sono in gara Ma bisogna anche sapere Contro chi rischiano ad andare Voglio Vedere come si è evoluta La tavolozza Ok Abbiamo detto Tanti tanti brasiliani Tanti giocatori che non conosciamo Nei primi cinque round Non Riconoscevamo nessun cognome E invece nel dei due Come andrà Tanti nomi nuovi O come è sembrato Guardando i risultati Tanta roba Che abbiamo già visto Tanti player Che abbiamo già assaggiato Nelle stagioni precedenti Secondo me Anche secondo me Questo secondo scenario Insomma Anche dal Round precedente Sembrava quella No La La realtà Che si stava andando Via via Delineandosi Non sono più sicuro Che faranno l'intervista Perché ci stanno mettendo Tanto tempo E essendo che andiamo avanti Da 12 ore Potrebbe essere Che hanno finito Il tempo in venio È un'eventualità Che abbiano finito Il tempo in venio E stanno già smontando Può anche essere Ehm Non lo so Non lo so Ma mi aspetto Di tutto No è che Ci stanno mettendo Più del solito Solitamente Nell'arco di qualche minuto Dalla fine della partita C'è l'intervista Invece siamo qui Abbiamo fatto il nostro post partita Stiamo parlando adesso Della situazione generale Del day 2 E siamo ancora qua Quindi non so Se a questo punto arriverà Ma finché la regia Non mi dà l'ok Non passo la linea Al couch Così siamo sicuri Di prendere In tempo L'intervista di Bic Che infatti Sembrerebbe arrivare A tra poco Della situazione generale Fortunato E' la sua Questa è La sua Il set La sua Invece Invece Il set PUTTING THAT ASIDE, IF THERE WASN'T THE CRIT, HOW DID YOU FEEL GOING UP AGAINST THIS REGGY DRAGO TAILWIN? SO I FELT PRETTY GOOD. SO I READ THE TURN ONE CORRECTLY WHERE HE DECIDED TO GO FOR PROTECTIVE TORNADAS, WAS GOING TO GO FOR DRACO MEETER AND TORNADAS, AND THAT MADE A LOT OF SENSE TO ME BECAUSE YOU'D BE ABLE TO RESET YOUR OWN TAILWIN, YOU GET RID OF MY TORNADAS THAT WAY SO I CAN'T TAUNT AND THEN THEY COULD GET THE TAILWIN ADVANTAGE. SO I GOT A REALLY RIGHT CALL BECAUSE JUST GOING FOR THE TERRA STEEL WITH TORNADAS ALLOWED ME TO LIVE A DRACO MEETER AND THEN I'D BE ABLE TO SHADOWBALL TO A CAIL OR REGGY DRAGO, I COULD STILL TAUNT A TORNADAS OR BLAKEWIND IF I PREDICT A SWITCH ON HIS TORNADAS, SO IT WAS LIKE, IT WAS STILL REALLY STRONG FOR ME OF COURSE, LIKE THE SHADOWBALL CRIT I'M NOT COMPLAINING ABOUT, BUT OF COURSE IT WAS STILL PRETTY BAD POSITION REGARLESS, SO I FELT LIKE I WAS STILL OKAY EVEN IF THAT DIDN'T HAPPEN, BUT IT DID MAKE IT REALLY TOUGH FOR IT WAS STILL RUNNING IT BACK, I THOUGHT THIS POKEMON WAS A LITTLE BIT MORE DORMANT, WHY WAS THIS THE PICK FOR THIS COMPETITION? I THINK IT'S JUST A HUGE LINE OF TORNADAS OR SHIFU, WE'VE SEEN IT BE VERY POPULAR TODAY AND I'VE FACED LIKE ABOUT HALF MY MATCHES I THINK HAVE BEEN TORNADAS OR SHIFU, IT'S JUST SUCH A SOLID POKEMON INTO THE WIN MOVES, LIKE IT'S REALLY STRONG INTO TORNADAS, JUST BEING ABLE TO BE IMMUNED, SO IF THEY WANT TO STAY IN WITH TORNADAS, THEY CAN'T REALLY I DON'T REALLY DO MUCH, AND BLEAK WIND OF COURSE IS JUST BOOSTING MY BRAMBLE GAS, SO BRAMBLE GAS ONLY HAS TO FOCUS ON THE OTHER PARTNERS, SO IT MAKES IT REALLY DIFFICULT FOR THE TAIL AND MIRROR, AND IT GIVES ME A HUGE ADVANTAGE THAT WAY. AT THIS POINT, IT WAS DOWN TO THE WIRE, BUT YOU ARE ON IN DAY TWO, YOU ARE OF COURSE THE FORMER LEIC CHAMPION, THE DEFENDING CHAMPION, THIS IS YOUR TITLE DEFEND NOW, SO THEN HOW IS YOUR NERVES AND YOUR EXPECTATIONS COMING INTO THIS EVENT? FOR ME, I DECIDED TO GO VERY HIGH RISK, HIGH REWARD, OBVIOUSLY MY TEAM HAS VERY, VERY INACCURATE MOVES, AND A LOT OF THEM CAN MISS, BUT I FEEL LIKE IN THIS FORMAT, YOU NEED TO GET MOMENTUM, AND THE BEST WAY TO GET MOMENTUM IS JUST THROUGH OFFENSE, AND WITH TORNADAS OR SHIFU, THAT'S KIND OF THE WAY YOU PLAY IT, SO I END UP JUST, YOU KNOW, HIGH RISK, HIGH REWARD, I'M HERE TO PLAY BIG, I KNOW THAT THIS TEAM IS REALLY STRONG, IF IT HITS IT'S MOVES, IT'S IN A FANTASTIC POSITION, AND I WAS WILLING TO TAKE THAT RISK, AND IT PAID OFF TODAY. WELL, I'M DEFINITELY INTREASED TO SEE HOW IT PAYS OFF TOMORROW. OF COURSE, IT'S BEEN A LONG DAY HERE TODAY, AND YOU WANT TO GET SOME REST, GET SOME PREP IN, BUT BEFORE I LET YOU GO, DO YOU HAVE ANY FINAL WORDS? JUST SHOUT-OUTS TO AMELIA FORBES, THIS TEAM FROM IS WORLD REGULATION D IS WHAT I'M RUNNING, AND IT'S JUST A CRAZY GOOD TEAM, LIKE GRAMBLEGAS WAS AN AMAZING CALL, IT'S AMAZING TO THE TORNADAS OR SHIFU'S PROBLEM, AND OF COURSE, WE'VE SEEN IT JUST BE VERY POPULAR JUST THIS WEEKEND, SO, VERY HAPPY THAT I STUCK WITH THE SIX, THE ORIGINAL CREATOR, SHOUT-OUTS TO MY FRIENDS HERE, AND EVERYONE WHO'S BEEN WATCHING, AND YEAH, IT'S BEEN A GREAT TIME. WELL, WE'LL GET TO SEE YOU COMPETE AGAIN TOMORROW, SO, BEST OF LUCK THERE. AS FOR US, IT'S BEEN A GREAT DAY, BUT WE STILL NEED TO WRAP THINGS UP, SO, WE'RE GOING TO HEAD BACK TO OUR CASTERS FOR SOME FINAL THOUGHTS. FATTO VENIRE IN MENTE UN TOPIC INTERESSANTE CON IL QUALE POSSIAMO CHIUDERE LO STREAMING IN ATTESA DEI QUALIFICATI AL DAY 2, MENO INTRODUCENDO UN DISCORSO PERDITEMPO E PIÙ QUALCOSA DI SALUTARE SIA PER CHI GIOCA, SIA PER CHI ASSISTE E SOGNA DI GIOCARE. BIG GIOCA UN TEAM BUILDATO IN REGULATION D. PROPRIO 100% E' UN TEAM CHE SI SAREBBE POTUTO UTILIZZARE AL CAMPIONATO MONDIALI. E' QUELLO DI CUI TI PARLAVO Oggi. BRAVO. TI RICORDI CHE ABBIAMO DETTO IL METAGAME SI E' EVOLUTO ALL'INIZIO TUTTI QUANTI OGGERPON, POI IN REALTÁ C'E' STATO UN RITORNO AL PASSATO ANCHE SIMONE SANVITO HA TRIONFATO A LIL CON UN TEAM ANACRONISTICO ORA NON RICORDO SE NEI SET CI FOSSE MAGARI UN GRASSI GLIDE OPPURRE UN'ALTRA MOSSA PESCATA DAL NOVERO DEI MOVE TUTOR DEL DLC Ma in questo caso E' proprio un team da reg di punto Non c'è niente di nuovo E quindi la domanda che ti faccio è Al netto di quello che successe con Spade Scudo Quindi dei DLC che andarono in tutt'altra direzione Se ti ricordi diventò il regno di Giga Venusaur Tanto per dinne uno E quindi un DLC che ha proprio dettato il ritmo Senza sì e senza ma Potevi andare avanti per altri 9 mesi di meta Comunque i Pokémon del DLC Vedi Urshifu Avrebbero dominato Perché c'era Urshifu nel DLC Ti ricordo ce l'ha portato l'isola dell'armatura Quindi E' salutare Che oggi sia giocabile ad alto livello Per qualificarsi all'internazionale Di Regulation E Un team di Regulation D O è stagnazione? Tu da giocatore competitivo Cosa gradisci di più? No, al di là di quello che gradisco Per risponderti alla domanda sulla riflessione Penso che nel caso specifico Sia anche un po' un caso Tra virgolette Che il DLC in questione Ha portato un'iniezione di grandi Di tanti Pokémon Erba E Questo ha fatto sì Che poi tutta una serie di effetti collaterali Hanno fatto altro che portare su Tornadus E quindi avere un Pokémon Erba Che scomba bene con Tornadus Che fa bene contro gli altri Erba Che regge gli Erba E che contro Tornadus Beh, fa il brutto e il cattivo tempo Perché assorbe Black Windstorm Come Bramblegeist Potesse diventare Ancora più Effective Di quanto non lo fosse Prima In modo quindi da sopperire A tutte le nuove introduzioni E essendo lui L'Erba del team Per definizione Gli elementi nuovi Che o erano un Ogerpon O erano un Sinistra Non ci possono stare Non ci potessero stare Te l'avevo detto Che il team di Forbes Io Ho detto Sarebbe arrivato in fondo Ma pensavo Avrebbe vinto il Mondiale Probabilmente Perché Emilio Forbes Secondo me Era veramente il giocatore Con la marcia Ingranata in più Era il suo mondiale Ok Se non ci fosse stato Quel Insomma Quel caso Poi che è successo In top 16 Un Matthew Morgan Cosa ci fu? Una disconnessione? C'è stata una disconnessione Dove lui aveva praticamente Vinto la partita Però per le tabelle Che ci sono Del momento della disconnessione E il counting dei Pokémon Rimasti I turni alla fine della partita Insomma ci sono delle tabelle Ben predisposte Poi fu dato Game Void E si ripartì Poi la Best of Three La vinse La vinse Matthew Morgan Da lì anche insomma La decisione lui di Emilio Forbes Di lasciare La scena competitiva Questa stagione ha detto Se la prende Perché insomma La disconnessione di Yokohama Tu immaginate arrivare In top 16 Sapere di avere nelle corde Poter vincere il mondiale Perdere in quella maniera lì Insomma un po' di Di Rosic ce l'hai Eh sì Un pochino di giramento Può incuterlo Quindi no È un team quello di Emilio Da tenere assolutamente In considerazione Perché Brumbleguest Come diceva Tornados Lo aiuta Un sacco Nei Mirror E di Tornados Urshifu Bla 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 Ne abbiamo visti veramente tanti Signori a questo punto direi Che i tempi sono maturi Per un passaggio Di palla Al Key Couch Che dovrebbe avere Tutti i risultati Che stiamo aspettando Farci dunque sapere Qual è stato Il destino Dei giocatori tricolore Perché no Darci una lista completa Dei giocatori Degli allenatori Che competeranno Nella fase finale Dei campionati Internazionali Latinoamericani Di San Paolo Lini al Key Couch Prego Comunque chi ami la palla Questa avrà sempre lo stesso scopo Ovvero Essere passata a qualcuno Siamo qui Siamo qui al Key Couch Per quello che È l'ultimo paragrafo Di questa giornata di competizione Una giornata Molto snella Nelle tempistiche Ma che ci ha dato modo Nel breve tempo In cui ci ha accompagnato Di saggiare qualcosa di emozionante E abbiamo delle signore notizie Addirittura Signore Signore notizie Con cosa Scelgo Lascio scegliere voi Con cosa volete iniziare Io devo solo solo Aspetta Abbiamo semplicemente Quattro buste La A, la B, la C e la D A Si parte dal principio A di Silva Partiamo dall'A La busta numero A Contiene Al suo interno Marco Silva Che chiude Come unico Giocatore Del Day 1 Il 9-0 Nessuna Sconfitta Per Silva Riesce a chiudere Anche Una ultima partita Contro Lattanzi Che Fino ad ora Aveva portato avanti Senza sconfitte L'orgoglio del Brasile In terra natia E si infrange Contro un Silva Oggi Veramente Inarrestabile Io ho una cosa da dire Vai Non voglio occuparla Occhio Ma Ricordati che le responsabilità Legali Sono sempre a carico tuo Ma mi sembra Doveroso ricordare Che l'ultima volta Che Marco Fiero Ha fatto 9-0 Agli ultimi nazionali Nel Day 1 Della Svizzera Ha vinto Io Non dico altro Parole forti Parole forti Però Un uomo davvero strano Allora ricordati Che è la prima volta Che vieni Se tu ti attiri L'odio Della chat La prima volta Qualcuno dovrà pur farlo Eh Ma Scarica verso chi Non può essere rimosso Della Pasqua È anche giusto Che io Sia con la sorta Devo finire in croce In qualche modo A 12 ore di live Ragazzi Superata la decima ora Tutto il delirio Quindi Voglio dire Già abbiamo visto il nostro casterdesk Delirare completamente oggi Comunque scherza a parte La scherza a parte Comunque dimostra Di avere quella confidence Che ha avuto Nell'internazionale In cui è andato meglio Perché comunque quando fai 9-0 Comunque senza perdere neanche un game Adesso non so se magari Ha perso uno negli ultimi due run Comunque vuol dire Avere una consistenza Veramente notevole Ed è quella che ha avuto A Melbourne nel 2020 Quando ho vinto Poi domani vado come vado Comunque La serie contro medina Che abbiamo visto su schermo Ci ha dato proprio Sì Lucidità Lucidità alta Da parte sua eh Comunque è bellissimo Che ci siamo presentati In quattro È la nostra Il picco Alla fine Di questa giornata Chi la spunta Proprio in questo day 1 È un italiano Ma Aspetta Perché abbiamo detto Di avere delle signore notizie Plurali Anche tre busta Abbiamo aperto La busta A Abbiamo ancora La B La C E la D Perché da 1, 2, 3, 4 Siamo passati A, B, C, D Alpha, Beta, Gamma, Omega Cioè nel senso cambiano tutte le volte È l'ora ambientale Lasceremo che sia il nostro pubblico a scoprirlo Ok sto lavorando intanto sulla busta Dovete riuscire a far droppare a Pietro i suoi indumenti per poter leggere nell'etichetta dell'indumento la lore di come siamo arrivati dai numeri alle buste No mi sa che siete nelle mutande Ah Non indirete Non indirete Pietro Ma andiamo alla prossima notizia Scegliete B Andiamo in ordine Andiamo in ordine Anzi cambiamo le carte in tavola C Non dire D perché sto lavorando alla D Ok Diciamo C allora C The wheel of D ancora ci stiamo lavorando Prima abbiamo detto A Come Silva Perché si Sì la A di Silva Adesso abbiamo C Come Tarlao Me lo fa una chieda C'è la Cognetta però Ha scelto la C Io non No la C è di Cognetta No la Cognetta è la D La C Allora sei tu che fai le buste Sei tu che hai messo i nomi nelle buste o sono io l'host di questo desk Sono io che ho il tablet in mano e sto virtualmente mettendo i giocatori dentro le buste Eh allora C di Giulio Dicevamo Di Giulio La C di Tarlao La C di Tarlao Che chiude 7-2 e quindi avanza al day 2 Grandissimo Ne abbiamo quindi due almeno Almeno due Contro Gomez l'altro L'altro Gomez l'altro Che comunque vincere un winendina anche se non è contro Alex Gomez ma è contro Gomez È tanta roba perché c'è sempre tanta pressione In giocare certe partite così importanti perché alla fine vai a decidere proprio le sorti del tuo torneo O giochi domani o non giochi quindi Veramente complimenti a Giulio E parlando di complimenti a questo punto apro io la busta numero B Così Sì Manteniamo le narrative vive in vista di una busta D molto speziata vi avviso La B di Cognetta La B di Cognetta ci conferma una splendida vittoria contro Lara in un matchup veramente importante che qualifica al day 2 anche Cognetta col 7-2 Yes Ha mandato a casa Lara pazzesco Ha mandato a casa Lara ragazzi Porca voia Cognetta spinge E voglio dire Tra 3 italiani Porca voia Comunque notevole Comunque notevole Comunque notevole direi E a questo punto Resta la parte più speziata Dati Possiamo aprire? Dati non ufficiali alla mano Dati non ufficiali alla mano Nel senso che non penso che Cioè Parliamo dei giocatori Concentriamoci su quello Concentriamoci sul torneo Perché effettivamente dalla busta numero D iniziano ad uscire delle spezie molto particolari Tipo il cardamoro C'è profumo Allora Su un parziale Di 5-4 Ed un Oppo winrate del 54 Ah Sull'obiettivo Di dover raggiungere Per portare a casa i punti È ufficiale Un cut Di 128 È ufficiale Marco Marras Si porta a casa la centoventisettesima posizione Siamo sicuri? Dovrebbe essere ufficiale adesso Ha confermato Marco Marras in persona in questo preciso istante Abbiamo la conferma È ufficiale Centoventisettesimo posto Centoventisettesimo posto Grazie Irreale Irreale Veramente No perché di solito quando non è ufficiale dopo che solo si dice è 129 Sempre così È questa la cosa Perché eravamo qui terrorizzati Esatto Perché la lista non ufficiale ci dava 127 Metti che arriva qualche ricalcolo collaterale sulla lista ufficiale Io ero terrorizzato dal centoventinovesimo E invece su quella che era una run che sembrava non lasciare nessuna speranza sulla quarta sconfitta Sul 5-4 abbiamo punti anche per Marras Hai capito no? È veramente tanta roba perché sono punti importanti anche per mantenere la sua posizione nella top cut europea Quello appunto avevamo visto un punteggio che già comunque iniziava ad avviarsi ed era importante portare a casa punti in questa data Almeno esatto Esatto Tra l'altro non solo perché sono punti importanti per quello che è il paid trip per l'internazionale europeo Sì Anche Anche Che si terrà poi verso aprile Sì Teoricamente Non lo so questo Non ne sono sicuro Però comunque la peggio si è leguffata da solo Quindi se non sono le responsabilità da parte nostra Lui dice così Quindi Noi riportiamo e ci fidiamo Poi dopo la responsabilità sua Riportiamo e ci fidiamo Però comunque Sì 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 Per ora va bene così Avevamo un altro dubbio Da risolvere Siamo qui apposta Era Italo O era Masuko No è vero Alla fine purtroppo Sempre sul 5-4 Ma su un oppo win rate del 42% No Purtroppo Italo Non chiude da Italo La sua run Però è positivo No Centottantesima posizione per lui Beh Posso dire una cosa? Vai Per me è perfetto Perché comunque è chiuso in positivo Quindi è Italo Però non ha 8 punti Quindi è Masuko Cioè Non doveva andare diversamente E' poetico E' poetico E' lui E' lui ragazzi E' veramente Una chiusura Poetica incredibile Doveva andare così Quindi Tutto perfetto in questo day 1 Per adesso devo dire di sì Per adesso devo dire di sì E Sto vedendo un attimino tutti i qualificati Abbiamo appunto Silva sul 9-0 Non so se siamo anche con le classifiche ufficiali Ma Rio sotto 1 Anche lui già Ma quindi abbiamo la lista completa? Dovremmo avere Sì Ma iniziamo un ordine di elenco Si può fare? Allora sto vedendo un attimino Perché il passaggio dovrebbe essere attualmente alla 35esima posizione Sì Quindi 35 passano domani Sì 35 passano domani Il 35esimo Tra l'altro povero signorena 36esimo lui Immediatamente sotto il cut ci saluta Che però essendo X3 è normale su un X2 cut Quindi comunque Esattamente 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 E Bezzerra invece è il primo dei classificati Portando tra l'altro un interessante rappresentanza del Brasile All'interno dei due Dove uno Due Tre Quattro Cinque Sei classificati dal Brasile All'interno della regione Andando di vista ufficiale Vedo Silva Vedo Rios Che comunque conferma La grandissima Rios 8-1 Sì sì Rios 8-1 Sugli 8-1 abbiamo Rios Lattanzi Mandato in 8-1 Sì Appunto dall'imbattuto Silva Lorci Abbiamo Berna Molina Abbiamo Chupacross Che nella sua forma definitiva Si chiude sull'8-1 Guarda l'avevo detto E Yudo Nascimento Vilela Dos Santos Anche lui dal Brasile con l'8-1 Quindi Sono un bel po' Una bella squadra sull'8-1 Devo dire Doppia rappresentanza brasiliana Doppia rappresentanza spagnola Doppia rappresentanza Doppia rappresentanza Nord americana Singola invece la rappresentanza croata All'interno dell'8-1 Interessante Interessante Apriamo i 7-2 Con Medina Cognetta Quindi comunque Già nell'andare sul 7-2 Quindi ad un punto dell'eliminazione Comunque apriamo con due nomi Veramente importanti Può dire che Sono dei 7-2 alti Che quindi hanno avuto una run Particolarmente difficile Quindi Si sono dei 7-2 Che comunque Chiudono su 71-70 Di Oppo Winrate Si si Hanno avuto una rantosta Eh Devo bisogna dire Una Svizzera che li ha spremuti bene Si si esattamente Una Svizzera che li ha spremuti bene Tra l'altro CR Perdonatemi Costa Rica Giustamente Non Croazia Ma d'altro onde Crotone ragazzi Cr Crotone Non scherziamo Tutto gli si deve insegnare Tutto gli si deve insegnare Tutto gli si deve insegnare Poi dicevo Si continua Con i 7-2 Ruiz e Tata Immediatamente sotto Su 67-66 Quindi comunque Abbastanza simili Si chiude con una lunga lista Di 60% Vari ed eventuali Abbiamo Zarza Abbiamo Nugnez Abbiamo Ugart Che chiude anche lui Sul 7-2 Con un 65 Quindi Una performance Che ci ha fatto sudare Perché per Ugart Abbiamo dovuto Tirare quell'ultimo punto Di sollievo Mi sembra Cognetta Che abbia perso da Ugart Si penso di si Non ricordo male Si 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 Tra l'altro Ricordiamo Che domani Le resistance Si resettano Quindi Le resistance Per l'X2 Contano in nulla E domani si riparte poi da zero Ovviamente Chi parte alto Come Marco Ha più probabilità Per andare a vincere Spareggi Comunque indicativo Della giornata di oggi Tra l'altro Con 35 partecipanti Al day 2 Che è molto vicino A quello che è il cut O Marco Fa una prestazione clamorosa Comunque le odds Non sono dalla sua Per fare X0 E' una questione Proprio di odds Statistica Nel senso Per affrontare Deve fare 5-0 Affrontando costantemente I migliori Degli X1 Ma qualora lui Chiudesse 5-0 Non ci sarebbero X1 Il che vuol dire Che X3 passerebbero E addirittura Qualche X4 Riuscirebbe a intrufolarsi In top 8 Si può creare Difficile Però si può creare Difficile soprattutto Perché dovrebbe entrare Un X4 Con un rating altissimo E quindi difficilmente Sono un X2 Che entrano con un X4 Però c'è possibilità Anche per i nostri italiani Che si presentano Sull'X2 Di fare una buona run 3-0 E poi provare A entrare anche Perdendo le 2 Si si Direi Che a questo punto Ci siamo lasciati Alle spalle Tutti i possibili Risultati Direi che a questo punto C'è da dare Gli appuntamenti Si Capiamo Come si fa domani Cosa abbiamo domani Beh Che cosa abbiamo fatto oggi Voglio dire Ci siamo goduti Queste 12 ore E 24 Dai che sono volate Siamo divertiti Ti dirò Sono fresco Io avrei fatto ancora 2-3 round Devo essere onesto Ma io vorrei qualche rematch Come showcase A questo punto Sì Sì Quei match che non abbiamo avuto in live Rivederli Magari appunto Chiedere anche solo dei replay Chiedere Poter rivivere i momenti più salienti 10 minutini Giusto per tagliare le 12 ore e mezza Che non fanno mai male a nessuno Allora non posso dirvi che Gesti stanno arrivando Dall'altro lato della stanza Ma in questo momento Abbiamo gesti d'amore Nei nostri confronti Lacrime quasi di commozione Del nostro caster desk Che vorrebbe Come noi questi momenti Vorrebbe poter rivivere Ogni momento della giornata Motivo per il quale La ritrasmetteremo Nella sua totalità Commentata Dal nostro caster desk A partire da adesso Non penso Non penso Non penso ci sia il tempo in realtà Non penso che abbiamo Alte 12 ore da adesso Al pelo Forse sì Forse sì Forse sì Io chiederei a questo punto Se il nostro caster desk È pronto all'ultima Erculea fatica Della giornata Ce lo confermano Ce lo confermano In diretta Passiamo la parola Direttamente al caster desk Per i saluti E gli appuntamenti A domani Couch e tutto E un grosso ringraziamento Lui ha Continuato a parlare Karen Per 40 minuti E È licenziato Detto questo Siamo arrivati in fondo È stata estenuante Questa prima giornata Con tempi molto più dilatati Del solito Ma prendiamo quel che viene Con appunto Il rammarico Di aver dovuto Insomma Sudare sette camicie Per terminare questo day one Ma anche con la gioia Di averlo visto crescere In qualità Di giocate competitive Inoltre C'è la soddisfazione Di portare tre Ben tre Giocatori italiani E insomma Tre giocatori italiani Al day 2 Visto che quattro Erano i partecipanti totali È godevole E il 75% Non è affatto male Questi giocatori Sono Del Cognetta Giulio Tarlao E Marco Fiero Quindi direi che partiamo Con il fuoco Ma Devo sempre frenare gli animi Sono risultati Che abbiamo già fatto Sono risultati Che abbiamo già conseguito È già capitato Di avere in un internazionale Pochi italiani in gara Con molti di quei pochi Che passano al giorno successivo Eppure Poi magari Nel giro di un paio di round Tutto quanto è andato a meretrici Quindi Mi raccomando Mi raccomando Tenete le vostre aspettative A metà Abbiamo fatto bene Abbiamo conseguito Delle belle vittorie Una grande soddisfazione In quel Di San Paolo Però il day 2 È molto Molto più in fingardo Perché ci sono Un sacco di giocatori forti E tutti quanti By Permettimi il termine dispregiativo Che è solo un po' scherzoso Sono andati Sono bruciati Si sono fermati al day 1 Quindi al day 2 Non si scherza E se vogliamo cominciare A tirare un colpo di reni In questa classifica Di CP europea Dobbiamo portarci A casa Le vittorie giuste Intanto tutto lo staff Sta star nutendo Sempre più frequentemente E probabilmente Nessuno Arriverà vivo Alle finali di domenica Per permettere A tutti quanti Di avere qualche ora Di riposo Devo chiudere Lo streaming Io vi ringrazio Per essere stati qui I ringraziamenti full Arriveranno Con la chiusura Di domenica Ma intanto Ci tengo a ringraziare Tutto lo staff La regia E i caster E i mod Tutti coloro che contribuiscono A questo progetto A partire da Cichibe Che non è presente qui Con il corpo Ma con l'anima sì Perché ha creato lei Questo bellissimo scenario Insieme a Chiara Quindi grazie veramente Dello splendido contributo Signori Vi mando Un grande abbraccio Una buona notte Spero Di sopravvivere A domani Quindi Riposo Un bel tachiflu deck Di chiusura giornata E domani Si parte carichi Con la tailwind Dietro il culetto Per i nostri Tre giocatori Tricolore Che si sono qualificati Al day 2 Vi auguro una buona notte E sogni d'oro Ci vediamo domani A domani Ciao 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 Bisogna Gu grandes Ciao Ciao Con la Detri Ciao 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 Ja Ch 2001 Grazie a tutti Grazie a tutti